Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a chi conosce Pokémon da 26 anni, ciao a chi lo sta scoprendo da poco tempo grazie a questa splendida collaborazione con Sabacuno Maiko. A tutti voi auguro una serie che prima d'ogni altra cosa spero sia ricca di dialogo, di scambio, di parole, intercommunity. Perché le parole sono il bene più prezioso che abbiamo. Grazie mille per essere qui, è un appuntamento speciale, a tra poco. Siete davvero splendidi, grazie. Lo siete davvero ragazzi. Prepariamoci. Attenderete ancora un po' per la sigla. La vedrete oggi. Tre, due, uno. Ma buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo, con un'emozione unica, perché è l'apertura di un nuovo percorso insieme, non solo videoludico, ma di intrattenimento, buon pomeriggio, ragazzone e ancora prima collega. Buon pomeriggio. Che bell'inizio. Che bello essere qui. Accidenti. È un percorso, quello di una dodici ore, che ho imparato ad apprezzare in maniera estremamente infantile. È proprio il mettersi e dire adesso gioco quanto voglio. È vero, è vero. E infatti io ho messo le tre, però poi finiamo quando finiamo. Da convalescento alle tre del mattino sarò una rosa. Morto. Morto. Una rosa rugosa. Sì. Perfetto. Perfetto. Ottima descrizione. Sono contento che tu sia qui. Anch'io. Molto. Sono contento che voi siate qui. Sarà una serie speciale e particolare perché, ripeto, sarà l'inizio di qualcosa, di un nuovo percorso mio e di Michele. Non più di vicendevole insegnamento e guida in giochi nei quali abbiamo esperienze decennali. È vero. Ma percorsi all'interno dei quali saremo solo degli acerbi Virgilio. E questo significa, da una parte, che il nostro ruolo di guida sarà molto meno impattante e forte del solito. Dall'altro significa anche che l'allievo, che il blind, avrà un contributo molto più grande. Avrà un contributo reale. Io qui ti investo di una responsabilità, ma in realtà dopo gli ultimi discorsi che mi hai fatto su Giratina e Archeos e Compagnia Cantante, non è una responsabilità. È solamente una ovvia competenza che già hai e quindi un ovvio obiettivo che perseguirai. In vesto della responsabilità di speculare con me su alcuni dettagli, e qui lo dico proprio apertamente, sui quali la mia community, in particolare nel mondo, aspetta di sapere di più da anni. È incredibilmente bella come cosa questa. È una sequenza di eventi, quella che ha portato a questa diretta oggi, a questo percorso nuovo, che ha dell'incredibile. Quindi, come tu stesso hai introdotto, è un momento che avrà di tutto, ragazzi, di tutto. Cioè, da quello che può essere la voglia di videogiocare a qualcosa che va scoperto e completamente analizzato da me, proprio blind. Il anche osservare criticamente quello che è successo a livello tecnico da Game Freak in poi, quello che hanno fatto con Pokémon Company e gli sviluppatori di Archeos. E, in generale, vedere anche, e mi incuriosisce sempre, il Ok, sono passate 12 ore. A che punto siamo? Che cosa è successo? Che cosa abbiamo nel salvataggio? Bravo. E tra di noi, queste cose piacciono da morire. Piacciono da morire. Quindi, una cosa che va detta prima di introdurci al prossimo step, ragazzi, è che questa settimana ha avuto tante live insieme, in cooperativa, e quindi tante live in cui non abbiamo potuto darvi quasi nessuna attenzione. Hai ragione. Ci pensavo ieri. Esatto. Meritate un'apoteosi, perché avete continuato a supportare, a partecipare, a emozionarvi, a parlare fra di voi, a parlare con noi, sapendo che l'occhio cade, ma che non possiamo interagire. È incredibile. Siete incredibili, grazie di essere qui. Faremo il top, ma col cuore proprio, non soltanto con la deontologia. Siamo qui con l'anima. Quindi, let's go. Guarda, io mi permetto una serie di disclaimer, barra di discorsi introduttivi, che immagino tu farai a tua volta il 25 di febbraio. È palese. Perché chiaramente guido io il cavallo, almeno all'inizio. Certamente. E in realtà lo guido dicendo per prima cosa che questo gioco sarà perfettamente idoneo, a differenza dell'altro che abbiamo dovuto giocare di corsa, per una totale blind di Mike. Che significa? Significa che io l'ho già giocato, che ci sono dei segreti che noi dovremo trovare, necessariamente. Certo. E confido nel fatto che tu li troverai tutti. Facendo questa chiacchierata introduttiva, per dare delle aspettative, che non verranno disattese perché sono cose che ho già giocato, vi dico che in questo gioco esistono 38 elementi interagibili di lore particolarmente importanti. Sono più di quanto ogni altro gioco Pokémon abbia avuto. 38. Ti basti pensare... 38, 38, quasi 40. E quindi insomma ti basti pensare che le lastre importanti in DP erano 8. Sì, esatto. Adesso siamo appunto a circa 40 oggetti. Alcuni sono meno importanti di altri, altri droppano robe che cambieranno per sempre alcuni discorsi sulla lore di Pokémon, sul passato, presente e futuro del franchise, proprio a livello narrativo. Quindi vedrete. Sono 38, sì. Detto questo, quindi ci sono questi oggetti. Nella mia Blind Run li ho tutti quanti segnati in mappa, proprio per te. Chi riguarderà la Blind su YouTube vedrà che io sto facendo tante cose per te, in realtà le ho già fatte, ma loro le vedranno tra qualche settimana. Io ho vissuto quella Blind Run anche pensando a te e a voi. Per voi intendo, voi che non avete giocato al gioco, che magari non lo giocherete mai e lo vorrete vivere assieme a noi. Ho dissezionato la mappa di questo posto in ogni singolo dettaglio, passando circa 80 ore sul gioco. E ancora non l'ho finito al 100%. Mi manca una cosa, però diciamo che il content essenzialmente è consumato. Insomma, sono sicuro che tu troverai questi oggetti. Nel caso in cui se ne dovesse perdere qualcuno, non ti preoccupare, c'è il professore. Ma rispetto alla run di BDSP, praticamente il professore a livello esplorativo verrà solo alla fine. Esatto, è come hai fatto tu con Dark Souls 1. Esatto, cioè tu andrai dove ti pare. Quando ti pare, a un certo punto io ti dirò, ok, la mappa è finita. Il professore potrebbe aver trovato qualcosa, vuoi saperlo? No, ok, andiamo avanti e facciamo dopo. Top tier. Per il resto, il timone è tuo, il volante è tuo. Sono contentissimo, Mike, di vivere con te questa cosa, perché più che altro so che giocatore sei e so che mi permetterai di fare un sacco di commenti sul gioco attraverso il tuo modo di giocare. Il secondo disclaimer che devo fare è da un punto di vista proprio visivo della nostra serie. Dico qualcosa che verrà ridetto sia qui in live sia soprattutto ci sarà un'intera puntata in Blind Run che purtroppo non sarà delle più felici, ve lo dico. Poi quando incontreremo quel percorso, quel luogo qui in questa live, vi dirò, era questo, ma voi probabilmente lo avrete già scoperto su YouTube. Il gioco che stiamo per giocare è un gioco graficamente mediocre, che non si può descrivere in altro modo. E quindi prima ci leviamo questo dente è meglio, perché altrimenti secondo me finiamo per parlare troppo di questa cosa che in realtà è importantissima, ma voglio mettere già le mani avanti. Se siete qui aspettandovi qualcosa di graficamente incredibile non ci sarà. Se credete di poterlo salvare graficamente non lo sarà. Graficamente questo lavoro credo avesse bisogno di almeno un altro anno di ottimizzazione. Ottimizzazione, perché questo è tutto un problema di ottimizzazione. E ci sarà un luogo in particolare che in Blind Run mi ha proprio rotto il cervello. Vedremo se lo farà anche a te, perché tu hai le competenze adesso per entrare in quel luogo e dirmi fra ma che cazzo! Ma dai, sì. E io ti dirò, eh lo so. Eh lo so. Ciò nonostante, ci sono tante cose che ho apprezzato di questo gioco, che si schiuderanno piano piano, perché chiaramente l'impatto grafico è la prima cosa che si percepisce. Eh certo, è la prima cosa che vedi, è ovvio. È il biglietto da visita. E visto che sono peraltro entrambe le community di videogiochi, di persone che parlano tanto di videogiochi, che giocano anche tanti titoli, mi sento di dire questa cosa prima di subito. La discussione videoludica sulla tecnica è assolutamente sacrosante, andrà fatta in più occasioni. Sì, anche perché non è responsabilità di Switch. Assolutamente. E quindi andrà fatta e andrà affrontata. Ci sono però delle cose che mi sono piaciute veramente tanto e le scoprirete poi più in là quando insomma sarà il momento. Mi viene in mente Mass Effect. Ti ricordi Mass Effect? L'impatto. Ah, l'impatto di Mass Effect 1? No, 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 magari. Ah, Andromeda? Eh sì. Ok, ok. Ti ricordi, no? Me lo ricordo molto bene. L'impatto Mass Effect, ecco, secondo me è simile qui. C'è il primo impatto è Mass Effect Andromeda. E tipo... Poi dopo si scoprono delle cose. Ok. Quindi metto le mani avanti qui perché se troverete qualcosa di graficamente unappealing, è quello che c'è. Non c'è altro. Sì. A livello tecnico. Ma avrai modo anche di scoprire tutte le brutture. Ah, ma ne parleremo sicuramente, certo. Perché io le ho scoperte tutte e alcune sono anche veramente assurde. Cioè tipo, ti ho pensato in tanti momenti della Blind Run e vedrai. Vedrai poi quali sono. Va bene. Il terzo e ultimo disclaimer, credo sia il terzo, forse ce ne sono di più, non lo so, ho perso il conto, è che questo sarà un gioco dal gameplay totalmente differente rispetto al passato. E non parlo solamente del sensibile, ovvero tirare le palle ai mostri in Overwatch, ma parlo anche del combat system. Mi permetterai e mi permetterò in alcuni momenti di farti da Pokédex, onde evitare che tu ti perda non tanto dietro le nuove funzioni, ma nella differenza tra le vecchie e le nuove. Perché tu non potresti fare questo paragone. Assolutamente, certo. Quindi quando farai i primi combattimenti, vedrai comparire delle icone e io ti, insomma, descriverò quello che stai vedendo a schermo. Il combat system, salvo qualche neo, mi ha convinto tantissimo e vedremo se convincerai anche te. Sono curioso di vedere che cosa ne penserai. Sono molto curioso. Della lotta e dell'ecosistema proprio del gioco. Infatti avremo proprio la complementarietà del voler videogiocare e del parlare del videogioco. Ma non si scappa, io lo farò assolutamente con estremo interesse. Fantastico. Ok. Io ho detto tutto quello che volevo dire, tu vuoi dire qualcosa? Ah, non sarà in Nuzlocke, ragazzi, assolutamente no, non ce n'è alcun bisogno. Questo gioco ha una difficoltà media e... Alcune cose sono meno medie e più stupidamente folli, ma le scopriremo più in là. E chissà sa chi non sa, Amen. Quindi Mike è sicuramente in grado di divertirsi da quel punto di vista anche senza regole autoimposte, ecco. Assolutamente, sono pronto. Quello che potevo aggiungere all'introduzione era tutta una discussione sul valutare, analizzare, essere anche critico ed esploratore del software prima di tutto, però è stata inclusa nella nostra chiacchierata. Io voglio fare il bimbo senza essere particolarmente prolisso e andare direttamente al prossimo step. Ci sto. Il futuro è nelle nostre mani. Vuoi fare quello che dobbiamo fare? Così parto prima con i ringraziamenti e poi lo facciamo? Vuoi dire qualcos'altro? Io sono molto emozionato per questa cosa. Allora ragazzi, vi avevamo introdotto volontà e caparbietà di raggiungere quei desideri rendendoli concreti. È effettivamente non soltanto già successo, ma altri stanno venendo realizzati in questo momento. Non ci si è fermati un secondo e tutto ha funzionato. Quindi l'emozione toglie la tosse al punto. Siamo qui, è una 12 ore. Ci sarà di tutto. Sono di un curioso inaudito, perché è effettivamente qualcosa che anche lontano dal mondo Pokémon io ho sempre aspettato. È qualcosa che, come più volte ho discusso con Francesco, sia nel privato sia con voi, è ciò che avrei voluto vedere diventare anche tanto tempo fa una divisione di intenti e di target del franchise. Potrebbe, potrebbe essere questo. Il delta che si apre per la prima volta, vediamo come gestiscono il futuro. Ma ora siamo in questo presente, io sono blind. Quindi anche voi siete in fermentazione, praticamente, per quello che sta per succedere. Io ti lascio, Saidonia. Mi lasci ai ringrazzelli. Sì. Allora, prendo il mio cellulare, perché c'è tanta gente da ringraziare. Allora, quello che state per vedere è innanzitutto frutto mio di Michele, e questa è una cosa importante da dire. Successivamente Arcadia, il mio management, ha partecipato a una serie di interconnessioni pazze per mettere tutti quanti d'accordo. Poi abbiamo il collettivo di animazione, del quale ho il listone. Tra poco ve lo leggo, eccolo qua. Abbiamo, vi leggo i nickname ragazzi, perdonatemi. Anzaru, Laposchi, Vale Tortorici, se hanno qualche accento picchiatemi. Maybin, Alessandro Spedicatoart, MK Maffo, Rossella Roma, Michele Moretti, con un H in fondo, Netloghiana, Dfane.dsp, Lillytuk e Armeik. Ok, dovrei aver menzionato tutti, se non l'ho fatto bastoni sulle palle. Inoltre, abbiamo dal lato musicale, e parto, credetemi in ordine di quanto mi abbiano sorpreso determinate cose, abbiamo i testi, che sono di Alessia Spera, e la musica, che è di Giorgio Vanni e Max Longhi. Inoltre, grazie ai nostri sponsor, che scoprirete a breve all'interno della sigla, che hanno contribuito, assieme a tutte le persone presenti, quindi assieme a tutti coloro che si iscrivono ai canali qui presenti, alla possibilità di realizzare questa cosa. Sì. Lo facciamo? Vuoi fare il countdown? Va bene, facciamo il countdown. Va bene. Allora. Ci siamo. Dami un secondo che devo disattivare una cosa e attivarne un'altra. Vado con il countdown in 3, 2, 1, go! Sì. 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 dal percorso l'investimento che si sta facendo beh questa opening è stata supportata da NordVPN let's go aspetto qualche secondo giusto per sapere se sono sincronizzato con lo sei assolutamente e allievo lo sei lo sei è finita non mi sarei mai permesso di rovinare con la mia voce ero nello stesso silenzio guardavo i ragazzi con fare shh non si sa ancora non si sa ancora bello allora ragazzi avete visto li vedo gasati si 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 li vedo gasati si li vedo li vedo li vedo belli gasati e lo sono anch'io da morire e ovviamente vi abbiamo rivelato gli starter che prenderemo si è vero io l'ho dovuto chiedere al ragazzone e ora vedo ovviamente le piogge di sub che arrivano grazie ragazzi grazie e merito anche vostro assolutamente questa cosa accade è partito proprio da questo esatto quindi davvero davvero contento di tutto ciò e grazie grazie mille del supporto grazie di tutto quello che state facendo dei vabbè qui stanno impazzendo spero anche da te ragazzi impazzite da entrambe le parti per favore io sono stracontento e volevamo che il feeling fosse quello di essere davanti al televisore con il italiano acceso ok anche perché ve lo ricordiamo qui non si fa solamente gameplay ma anche entertainment e quindi noi ci teniamo tanto a dare una nostra interpretazione del del gameplay di questo gioco che parte da questa sigla sì e ti dirò anche in parte del gameplay del gameplay di comunque come si può condividere un videogioco sì è stupendo è stupendo vedere vedere le persone così gasate credo che sia appena uscita su spotify ragazzi la sigla dovrebbe essere già disponibile sullo spotify di giorgio manni sarà disponibile anche in versione ricaricata sia sul mio canale di ricaricamento che su quello di sabaku sia ovviamente in tutti i ricaricamenti quindi non dovremo tagliare sigle nei ricaricamenti perché chiaramente l'abbiamo fatta commissionare per noi esatto e bell'idea vorrei ripeterla per elden ring speriamo assolutamente allora io sono ancora davanti alla home anch'io bravissimo perfetto e sì dovrebbe essere già su spotify non so se ragazzi giorgio la condividerà altrove so che in realtà vuole farci qualcosa anche per il suo canale youtube ma è ancora presto quindi dovrete chiedere a lui e vedere sui 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 social come poi vorrà decidere di condividere questa canzone in altre piattaforme che non sono che non sono spotify e io credo di aver fatto allora tocca a te che dire come vogliamo agire abbiamo due possibilità vogliamo fare era l'opzione vogliamo mantenere sì io ti direi di sì sono d'accordo te lo mando va bene c'è talmente ah ma tu ce l'hai già io te l'ho mandato sì 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 ah sono io che sono troppo emozionello e non ti ho ancora mandato niente va bene eccoci qua allora tanto dovrei avere già la scena del tuo pippino salvata ma onde evitare appunto onde evitare resizing lo faccio adesso a costo di farvela scendere un attimo in là perché altrimenti poi viene impreciso ce lo teniamo impreciso per dieci ore esatto e no ma non solo per dieci ore per le prossime quattro prima che poi mi verrà voglia di sistemarlo lo faccio adesso e non lo faccio più ho messo lo schermo di mic ok ok e dovreste vederlo bene tra l'altro mamma mia che devasto mettere sta cazzo di home della switch nascosta ogni volta che giocavamo a diamante e perla dovevo aprire tutti quanti i software che avevo esatto per eliminare pokemon archeos dalla home finalmente ce l'ho fatta finalmente è libero finalmente è libero lo so avete ragione faccio il peccato di light mode me ne scordo in realtà è la oled non l'ho ancora messo sulla oled sulla vecchia ce l'ho good allora beh si parte vogliamo dopo questo momento incredibile questo inizio superare il suono del colpo di pistola che fa partire la gara sicuramente anche perché voglio sapere che cosa succede dopo la intro che cosa ne pensi una intro strana una intro particolare soprattutto dopo alcune cose che abbiamo fatto ultimamente quindi va bene allora vado dagli sono andato ok let's go che bello sentirti così ma soprattutto la cosa più bella è stata vedere la storia Instagram con tu che ti gasi perché c'è la statua lì io ho capito allora italiano ovviamente ce lo teniamo il pennello salvataggio in corso 1 2 3 4 5 ah ma cominciamo com'è questo è ci sono 5 ci sono oddio sono tre piccole due grandi con il centro luminoso gigante io ti adoro io ho scelto la persona giusta e ne manca una ora sai perché esatto esatto questo è il mio regno un luogo al di là del tempo e dello spazio ti do il ben tenuto io sono colui che voi non vedevo una cosa del genere dal secondo film di pokemon con l'ughe io sono colui è vero che voi umane chiamate Archaos questo è un modo molto strano di cominciare un gioco di pokemon questo è veramente un modo molto strano di farlo e pensa a questa frase quanto si collega a tutto quello che abbiamo detto al frammento una sola e singola frase al frammento di dio al fatto che in realtà non è un pokemon è qualcosa di diverso esatto voi umani mi chiamate Archaos tra l'altro dopo quello che abbiamo vissuto ieri notte lo sguardo in macro di Archaos dinanzi alle aree e quello che faceva ok comunque molto molto preciso essere arrivati qui adesso mostrami dunque il tuo aspetto ok devo dire la verità che questa è una cosa completamente diversa rispetto al ciao bimbo sei M o F perché è molto più deltaruniana undertaliana è vero sembra l'intro di deltarun per certi versi è incredibilmente maturo freddo non è un invito caloroso è un io sono dio mostrati a me esatto 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 ok ok qui siamo uh ma quindi oh quasi qua allora allora non sbaglio anche con la scintilla di quello che si sente e si legge e mi accennavi molto lontanamente non sbaglio nel dire che c'è un po' di Monster Hunter vero all'interno no no non è che c'è un po' di Monster Hunter il gioco è molto adagiato su Monster Hunter molto adagiato su Monster Hunter per tanti versi ok allora il mio personaggio sarà Mira oh ok col personaggio femminile si stavolta si dopo sub Mira ok dai ci sto anche perché ha il taglio di capelli perfetto ed è troppo azzeccata non posso perdere l'occasione è rara oh ma cosa ma il il simbolo in alto a sinistra guarda lo faccio vedere ai ragazzi tu dove mi hai messo in alto a sinistra aspetta che in alto a sinistra ok ok ti tolgo un secondo anche io ti ho messo in alto a sinistra ma non ricordo se in alto a sinistra è una buona posizione vedremo vedremo dice chiara di sì ok guarda che roba carino ma mi piace questa consapevolezza anche dello sviluppo nel senso che si sono presi sul serio con Archeos vogliono farti capire che è centrale questa introduzione in realtà il fatto che tu possa avere in intro un contatto del genere cioè noi protagonisti noi bambini stiamo avendo un contatto con che sta succedendo questa cosa e soprattutto perché Dio si sta mettendo in contatto con noi ok ti giuro se mi avessi detto inventati cinque inizi non ci sarebbe stato questo davvero no allora va bene vado colpo di stato dello stagista si mira presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto no aspetta che cosa sta dicendo stai a vedere che mo si fa lo stesso film che mi so fatto io in blind run vai 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 avanti che sta dicendo voi voi mi chiamate Arceos quindi se lo chiamano Arceos conoscono i pokemon cioè non stiamo parlando del mondo moderno dell'Isekai perché non è come quello che in parte si è arrivati a pensare una cosa del genere come magari il mondo successivo o un mondo parallelo quando abbiamo visto l'evento di platino però voi siete esseri umani io sono colui che chiamate Arceos però messa così sembrerebbe quasi che lui ti stia buttando in un mondo dove per la prima volta incontri i pokemon non è esattamente così per come si è presentato un mondo abitato alla creature misteriose creature che voi umani chiamate pokemon ne riparleremo ok te lo prometto si mira incontra tutti i pokemon allora mi mostrerò di nuovo a te quindi è come diamante perla bisogna completare il pokédex di trama o meglio di completismo anche narrativo assolutamente però è incontra non cattura vorrei sottolineare questa frase come in diamante perla quanto zeldi no ma così guardalo che bello che è il design di arceus è fuori di melone no ma che intro incredibile sono coinvoltissimo ma che grande inizio sono d'accordo credo l'intro migliore del franchise ma non c'è ombra di dubbi anche perché le altre non sono intro esatto ti svegli a casa di mamma scende allora 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 intanto il caricamento è uno squarcio dimensionale partiamo da questo presupposto che comunque poi ma il come allora buffissimo il fatto e trovo esilarante il fatto che sembri il void in cui siamo stati l'altra volta e non te l'ho fatto fare a caso o meglio in realtà si avevo programmato questa live e i ragazzi lo sanno da mesi e certo e quindi vedere poi nel gioco questo mi ha fatto spaccare il cervello perché ho pensato wow sarà tutto così stupidamente preciso ma non lo era ma raccontiamo che lo è stato certo io sapevo già tutto ragazzi da due mesi sì 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 esatto però ecco ti racconto questo visto che questa veteran è anche un contenuto diverso per chi è veterano come me certo io ho sostenuto per mesi che questo cazzo di telefono che è a forma di Archeus e che è stato pubblicizzato nelle varie iterazioni insomma dei video YouTube avesse un significato narrativo mentre molti l'avevano insomma chiusa la pratica con vabbè è la tavoletta sceica di scica di leggende di Pokémon Archeus non ha un grande significato serve solamente per fare cover del cellulare e rivendere che però sarebbe diventato un problema temporale gigantesco ai suoi eh vabbè però sai per quello che ha fatto Pokémon negli anni passati non sarebbe fatto così un grosso problema ok io invece dissi ma secondo me un viaggiatore temporale c'è non pensavo che fossimo noi letteralmente esatto ma infatti stavo mai nella vita il fatto è questo da una parte io credo che qui abbiano forse dovuto questa è una cosa estremamente importante per un brand a maggior ragione per il romanticismo conservatore giapponese ossia io sono colui che chiamate Archeus questo significa che il mondo dei Pokémon è quello da cui proviene questa ragazza a questo ragazzo il fatto è che poi ti suggerisce stai per finire in un mondo in cui e cita la classica frase degli inizi quello che probabilmente avrebbero potuto fare e che non hanno fatto per farti tornare in quel mood era dire arriverai in un mondo in cui i Pokémon sono molto più misteriosi sono molto sono pericolosi potrebbero farti paura cioè poteva aggiungere qualcosa che distinguesse i due universi però è un viaggio nel tempo e questo è quello che sappiamo Archeus e presumibilmente gli unknown attraverso lui o viceversa può fare perché è vero tu mi hai fatto vedere l'evento in cui entrando nelle rovine ti ritrovi altrove lui ti teletrasporta esattamente quindi Archeus trascende il tempo e lo spazio te l'ha anche detto ti sto parlando dal mio regno che è oltre legibus solutus e sopra le leggi del tempo e dello spazio quindi lui può fare quello che vuole è interessante il fatto che nonostante possa fare quello che vuole ti mandi qui è stata una delle mie prime domande ok e Dio può fare quello che vuole a che gli servo qui sei d'accordo cioè che che cazzo ci facciamo qua se lui può fare quello che vuole perché solo noi possiamo e rispondo alla chat che fa delle domande qui molto interessanti Archeus non si identifica come pokemon quindi io ho avuto l'impressione che no non si identifica con pokemon così no così no sei d'accordo anche tu sì 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 così come un ragazzo in chat mi diceva eh mike ma non hai pensato che anche noi nel mondo reale lo conosciamo come Archeus sì ma non ti farebbero scegliere il personaggio come in un gioco pokemon se volessero parlarti a te giocatore quindi non è quello il messaggio che vuole arrivare immagino però vedremo vedremo io per ora sono ne riparleremo assolutamente assolutamente mi piace questa tua riflessione l'ho fatta anch'io i ragazzi hanno visto la blind qualche ora fa e sanno benissimo mi fa piacere questa roba mi fa super piacere perché so che faremo le stesse riflessioni ma che porteranno a un risultato diverso perché siamo in due ma questa tua introduzione per me è oro perché loro l'hanno già vista un'ora fa questa introduzione quando vuoi sempre molto zeldiana questa cosa svegliati oh abbiamo quel personaggio ok svegliati forza wake up oh oh che bellini sei ancora viva spero vedi lì a sinistra vedo che il monte corona ha dei problemi ma dei problemi enormi tra l'altro manca già la punta toglimi pure ogni tanto magari mi metti e mi togli adesso toglimi adesso toglimi così vedi bene l'ambientazione la vedono anche loro è vero è vero coprivi esattamente il monte allora non dico che spavento mi sono preso quando ti ho vista precipitare dal cielo fortuna che stai bene via dove mi trovo questa è la spiaggia origine che c'è ieri sei stato in un posto speciale esatto si chiamava spazio origine hai forse battuto la testa e perso la memoria è questa maglietta isolana io non ho quella fammi vedere è una maglietta di alola quella mi sa tu cos'hai ah ok ok io ho una maglietta di kalos vedo vedo ok ma tornando a noi che strani indumente per caso conosci qualcuno che abita da queste parti un po' evidentemente no che pasticcio almeno hai un posto dove andare no ricapitoliamo non conosci nessuno nei dintorni e per giunta non hai un posto dove dormire è un notevole pasticcio direi in quite a pickle siamo sicuri che riuscirei a cavartela da sola non so che fare però comunque non reagisce in maniera sconvolta ai pokemon quindi appunto capisco beh in ogni caso non ho certo intenzione di abbandonare qualcuno in difficoltà oh tristissimo lui Queen oh shiama ma che sbadato stavo quasi per dimenticarmene stavo inseguendo questi piccoli fuggiaschi quando ti ho visto precipitare dal cielo ah precipita già ok è curioso sembra quasi che questi tre pokemon avessero in qualche modo avvertito il tuo arrivo oppure una certa mente divina ha infuso loro la conoscenza di farlo a proposito sai cos'è un pokemon ed eccoci qua cazzo a me qui esplosa la testa perché ero in bilico come te e il fatto che esista la risposta non proprio mi ha definitivamente condannato a una blind run nella quale mi sono continuamente chiesto se quelle magliette addosso a noi siano merchandising pokemon o magliette del mondo è esattamente l'impulso che ho adesso eh lo so allora questo allora allora questo è è un casino fra eh lo so allora se ci fosse stato scritto non ricordo va bene se ci fosse stato scritto eh qualcosa di meno ok non proprio in effetti non è no è non proprio quindi mi fa pensare a no non lo so davvero perché li ho visti solo in televisione eh lo so ti lascia il dubbio però mentre prima non era un dubbio perché comunque l'interpretazione iniziale con Arceus era abbastanza intuibile per quello che era questo è un'altra cosa questo in effetti ti lascia in sospeso io scriverò proprio cioè io accetto l'idea di rispondere non proprio io devo sapere che cosa vuoi sapere che ho risposto in blind? dimmi non proprio il fatto è che abbiamo magliette con loghi pokemon potrebbero essere merchandise pokemon è capito non proprio ho presente cosa sono i pokemon ci gioco ma non so come sono fatti cioè qui li ha visti davanti ai suoi occhi si sa per caso se questi protagonisti sono teenager o sono bambini cioè sono a 10 anni questa bambina scoprirai l'età più in là ok 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 perfetto perfetto nice non proprio ok voglio vedere questo che fa davvero che assurdità di venire davvero da un posto remoto allora ti spiego in 448 questi tre sono esemplari delle misteriose creature che chiamiamo pokemon e comunque tu come ti chiami? oh mira hai detto? che no che non è peculiare mai sentito certo perché anche il futuro ma sono sicuro che ha un bellissimo significato è vero? oh sorry che villano non mi sono nemmeno presentato il mio nome è Loven e sono un professore pokemon quindi esistono i professori pokemon di già si nonostante sia un'era piuttosto remota già esistono in soldoni il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile su di loro ad esempio queste tre piccole pesti guardali guardali oh mi hai adorato i pokemon dove andate? perché? fuggite da me? si gentile qui ci sono dei pokemon fuggiaschi da catturare guarda come va guarda come va ok ma non ma non mi sarei mai aspettato un inizio così cioè così denso di scintille speculative guardaci eccoci qua eccoci finalmente ci si muove liberamente eh si in tutto il gioco muoviti accelera ok sto provando vari tasti vai vai non si non si rolla da zero bisogna essere in combat perché non c'è input e questo è un piccolo portino spiaggia origine eh ti posso dare un piccolo strumento strumento per il godimento vai tieni premuto zl that is our binoculo throughout the run ci puoi anche camminare quindi è superiore in parte e che succede se ok niente acqua per ora almeno puoi ovviamente anche fenicotterare come vedi quindi allievo fenicotteriamo finalmente è un gioco non si poteva fare prima ma guarda adesso vedi il movimento non so se mi hai lo schermo aspetta adesso te lo rimetto ok esatto si 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 esatto vai fenicotteriamo facciamo un attimo uno spam di L1 anche in chat perfetto quindi possiamo ti baggare gli allenatori esattamente esattamente ok perfetto ci siamo abbiamo il binoculo abbiamo il fenicottero e un soulslike adesso possiamo vedere anche la magnificenza delle tex si stavo stavo per dire che si sono fatti hanno fatto una bella scommessa a darci la possibilità di andare in macro guarda la mia cosa hai visto? non è che sono cosa hai visto? dimmi un po' potrebbero essere non lo so sembrano più piccole magari sono gli sprite non potrebbero essere le rose rugose queste potrebbero effettivamente tempo spazio distorto no? però non sono lutto e quindi quindi l'isola rosa rugosa di diamante e perla se fosse vero praticamente starebbe spawnando nei tempi di Iswi ma nel presente vista la distorsione spazio-temporale di cui parlava la tipa era un teaser di leggende avrebbe decisamente senso proprio perché è un'aggiunta sono d'accordo oh ah ma quello è il cursore di trama ti fa vedere è la grazia si ah ok ok la grazia è il der ring in realtà non c'è nel gioco poi è una roba che c'è solo ora però te lo dico già adesso ok sembrava un mirino ok vado mi avvicino oh ah ma ah ma quindi Arceus l'ha veramente modificato si ok c'è qualcosa che mette luci godafone va bene ecco il godafone hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone sembra il tuo ma la forma è un po' diversa vedo che comunque Arceus ci tiene molto molto alla brand identity si è messo Arceus tra le altre cose CEO di The Pokemon Company esatto ti sembra divertire inoltre una strana energia va da dio ragazzi è apparso un messaggio sullo schermo vediamo no ma abbiamo Arceus diventa Barry o Lillo ma siamo serie pronto pronto ragazzo ti stai incontrando tutti come va hai saltato quello in copia carbone ti legge Arceus ti affido assieme a questo Arceus phone vabbè ma sta perdendo sta perdendo completamente il valore divino lo ha chiamato Arceus phone cioè ma che sta dicendo assieme a questo Arceus phone una missione incontra tutti i pokemon ok ci tiene molto all'auto brand identity si chiama Arceus ok ok guarda ti voglio far notare una cosa che ho fatto già notare in blind e è un difetto grafico molto importante del titolo tra i tanti vi faccio vedere anche in live se non aveste visto la ma quanto posso voler bene a questo ragazzo me lo fai un favore ti guardi la mia blind run poi fai rivedere un attimo che magari non stavano guardando fai rivedere quello che stanno facendo lo sanno cosa stavo facendo stavo cercando di andare perché non vedono magari da me erano concentrati stavo cercando di capire per esempio in diagonale a volte i geodata sono più permissivi perché si collegano l'uno all'altro e ti permettono di fare le mandracate e allora dopo guardati il primo episodio della slime tu dopo mi fai il favore di guardare comunque dicevo guarda vieni davanti a questo sasso qua dovresti esserci non troppo lontano c'è un ballino eccolo là credo sia lì eccolo là vai lontano tipo vai qua guarda la spiaggia guarda questo sasso della spiaggia qua ora non so se in day one patch l'hanno risolto ma non credo proprio eh sì infatti ora guarda il sasso esatto e vai avanti e indietro a un certo punto c'è un confine in cui lui renderizza ma il confine è davvero vicino al giocatore è una cosa estremamente distrattiva guarda il sasso vicino all'albero vicino all'albero quello grosso quello davanti a te sì ok vai avanti non è possibile questa cosa è molto diffusa negli elementi grafici del gioco ed è la cosa che mi distrae di più in assoluto perché il colpo d'occhio cade su ciò che ti cambia davanti al naso e questa ragazzi è tutta ottimizzazione sì questa è ottimizzazione oh mamma mia no ma pure la geografia del mondo perché non è colpa di switch ragazzi non è colpa di switch perché esistono monster hunter rise esistono tante altre cose anche xenoblade sì anche oddio xenoblade ha una draw distance terribile però secondo me xenoblade ha fatto questo ma in modo intelligente sì ovviamente quei titoli xenoblade oltretutto ha una risoluzione da malattia degli occhi però eh sì xenoblade in 540p eh sì ma è per tutto il gioco praticamente è veramente doloroso però il fatto è che però sai che era più elegante di questo? ma certo che era più elegante di questo cioè droppare a 540p e non avere questo? alla fine breath of the wild ha un po' pin molto forte però lo gestisce lo presenta e si attiva soprattutto non quando cammini così già ok questa eh ma questa ragazzi non è roba che si può pacciare perché qui il problema è che tutto il gioco gira su questa cosa non è che puoi pacciarla ti serve un anno per capire come far andare i pokemon a 30 fps perché i calli sono rari eh però senza questo e rispondendo a chi dice ma allora perché 8? beh perché il gioco non finisce oltre quel sasso quindi ci saranno varie cose che troveremo nel videogioco alcune saranno più belle di questa cosa altre saranno più brutte purtroppo in questo canale abbiamo il difetto e anche in quello di Sabaku di non parlare per meme ma parlare di videogiochi sì solitamente una recensione si fa a gioco finito e non nell'introduzione quindi se avrete la pazienza di arrivare fino in fondo scoprirete perché io tra l'altro ho pensato questa cosa e magari voi avrete un'opinione diversa ma io stesso ragazzi vi darò qualcosa nel senso io non sono qui a fare apologia però un'altra cosa ah ma assolutamente ci mancherebbe sei qui apposta io ti voglio qui apposta per avere la tua opinione nuda e cruda sarà bellissimo e un'altra cosa importante che voglio dire e questa è una cosa in generale che io ripeterò fino alla morte la ripeto dal 2016 la recensione in generale che una persona fa non è una conferma della vostra opinione se cercate una conferma delle vostre opinioni nelle recensioni avete un'autostima di voi davvero bassa è un'opinione con la quale confrontare la vostra ci sono persone che saranno d'accordo con la recensione altre che invece non lo saranno e detto questo vi invito proprio a scoprire il gioco e facciamolo prego il timone è tuo ma volevo farti vedere questo difetto perché io l'ho trovato la cosa più fastidiosa questo continuo click negli occhi lo vedi lo vedi anche se non lo vedi no ma mi sarebbe arrivato anche solo oltre il cibo cioè ma la geografia del mondo no vabbè ok invece se cioè anche quando ti avvicini vabbè allora ok wow qualcosina penso la faranno metti caso tra un mesetto ma un piccolo update sarebbe da fare piccolino non risolutivo dici che è fattibile cioè dici che con un update potrebbe cambiare qualcosina sì qualcosina qualcosina no 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 nulla di macroscopico ma un pochino un pochino comunque allora io sappi questo ti avviso per i prossimi 20 minuti ogni tanto mi prenderò 30-40 secondi per ingerire cibo quindi sarò più lento ma va Mike ma ci mancherà 12 ore insieme perché non ho pranzato e quindi adesso sto vai tranquillo ora intanto con il tuo tempo ci siamo presi carino il tutorial davo il telefono va bene oh è apparso il professore è poppato il professore Arceus? ma in realtà guarda i pop mi hanno dato meno fastidio di quanto si possa pensare no ma i pop sono molto classici e va bene hai capito cioè ce ne sono tantissimi di giochi che fanno questo sì e anzi molto più elegante del di spada e scudo che si gonfiavano proprio in quel gioco i personaggi è proprio l'ambiente che cambia guarda lo sta facendo anche questo sasso per esempio io mi ci casca l'occhio non ci posso fare niente lo vedo lo vedo anche quando non lo voglio vedere se solo riuscissi e mandare a segno almeno un lancio beh io quando ci provavo con la pokeball plus facevo dei disastri vabbè quella era un errore la pokeball plus io ci ho creduto ma era un errore oh giovine caduta dal cielo sei venuta ad aiutarmi dunque no laven sono una persona caduta dal nulla che non ha modo di autosostenersi e l'hai piantata in asso in una spiaggia cercando i tuoi mostriciattoli sono venuto a chiedere aiuto allora sfollati ho cercato di catturare i pokemon fuggiaschi ma le mie pokeball sono volate tutte a vuoto quindi in realtà non erano pokemon catturate giusto giusto forse prima che è meglio è meglio che ti dia qualche informazione su quei pokemon quello è raoulet è capace di effettuare la fotosintesi proprio proprio come le piante e lotta lanciando le sue affilatissime penne è bellissimo raoulet quello laggiù invece è un syndaquil la fiamma che brucia sul suo dorso diventa più potente quando è arrabbiato spaventato io ho preso lui in blind e per finire quello che se ne sta lì vicino al laghetto è uno shawatt lo si vede spesso sonnecchiare al pelo d'acqua e lotta sta usando quella specie di conchiglia che ha sul ventre devo farvi una confessione e facendola i ragazzi non veteran che purtroppo possono esserci già il 28 per via del leak capiranno cos'è anche che mi manca per finire il gioco al 100.000% in onore di questa veteran run e dell'amore che provo per twitch e per i contenuti che faccio con michele sono in blind delle evoluzioni degli altri due starter non ho idea di che cosa succeda con loro non so se cambieranno non cambieranno come cambieranno non ne ho idea quindi cosa bella vi chiedo il massimo silenzio perché io so cosa succede con la linea di Oshowat ma non ho idea di cosa succeda con il resto ok quindi che bello prego quindi potremmo avere un esempio è la prima volta corregimi se sbaglio ma penso di non sbagliare è la prima volta che abbiamo evoluzioni regionali e non la base se così fosse io so cosa succede della linea di Oshowat ma questo non significa che si evolva in maniera diversa rispetto al solito in potere dell'evoluzione e se i pokemon qui non lo so ok non ti posso dire altro io ti dico che so una cosa ma non posso dirti che cosa certo ma dove ho la testa stavo qua per dimenticare un'ultima importantissima cosa come catturare i pokemon naturalmente tieni quanto sono belle le pokemon di legno tieni ecco di delle pokeball ti basterà lanciarne una per catturare minchia professore grazie speciale strumento da lanciare come una palla mio dio una descrizione non chiamarlo professore sono geloso giusto giusto viene creata a mano una volta raccolti tutti i materiali necessari artigianalissima artigianalissima ah sorry forse non è una spiegazione proprio esaustiva allora ti ricordi cosa ho detto prima i pokemon sono creature misteriose ma perché ti chiederai tu cosa hanno di tanto misterioso semplice i pokemon possono rimpicciolirsi fino a diventare microscopici ed è qui che entra in scena la pokeball posso fermarti un secondo sì perché io ho già due idee dimmi eh questa è una cosa importantissima che tu non sai ma credo che chiunque non abbia visto la blind run adesso abbia tre neuroni meno esplosi questa cosa che dice l'aven per noi veteranissimi ha un significato assurdo perché questo dettaglio è stato retconnato no è stato retconnato nel 96 e ripreso oggi non ci credo dimmi un po' eh sì allora te la racconto in breve ok anche perché qualcosa che non ho raccontato in blind in blind su youtube mi riferisco a un pubblico che già sa ma non sai e gli altri non sanno nel vecchio libro che si chiama a pokemon enciclopedia sì uscito proprio in giappone poco dopo la release di rosso e verde edito da game freak e creatures inc veniva dichiarato che un vecchio studioso antenato di oak in realtà non nel senso legato ecco da alberi genealogici con oak ma proprio antenato studioso nel senso un vecchio studioso di pokemon prima dell'era moderna aveva scoperto per sbaglio che dando troppi tranquillanti a un prime ape prime ape si era rimpicciolito mmm perché prime ape lo sai è un pokemon che si incazza sì e quindi questo professore gli dava ecco predecessore bravi ragazzi perdonatemi non mi veniva il termine lo studioso scoprì che prime ape con troppi tranquillanti che gli venivano dati per cercare di comprendere perché si incazzasse diventava piccolo si rannicchiava in posizione fetale e e cercava di proteggersi praticamente lui scoprì che i pokemon quando in difficoltà quando stimolati da particolari sostanze cercano per proteggersi di diventare più piccoli e questo ovviamente mi ha fatto parlare a lungo in un video sul fatto che è stata retconnata questa cosa perché quindi è una violenza l'inserimento dentro la pokeball ho ipotizzato che in origine la vedono come minaccia esatto o addirittura che la pokeball dispensi qualche sostanza simile a un tranquillante quando il pokemon entra dentro e però ovviamente questo non lo possiamo sapere hanno poi retconnato questa cosa non ne hanno mai più parlato ci sono 100 miliardi di cose retconnate dentro quel libro perché era un altro tempo era un altro franchise non era un franchise in realtà era un gioco era un RPG che non era ancora neanche stato terghettizzato per bambini oggi si quindi tante cose si sono perdute ma è stato carino riscoprire questa cosa in blind i pokemon possono rimpicciolirsi fino a diventare microscopici ritorna ovviamente senza tutto questo retroscena dei tranquillanti il potere stavolta canonico dei pokemon di diventare molto piccoli quindi se non altro anche qui le pokeball attraverso sostanze che non conosciamo e che magari non sono violente permettetemi il termine come i tranquillanti rimpiccioliscono i pokemon prego veramente sorprendente questa cosa eh già figo lanciando una di queste mirabili invenzioni all'avanguardia contro un pokemon io mi chiederei se mai si scoprirà magari qui non lo so anche solo via testo un origine vedremo un nome qualcuno che per primo ha vediamo quest'ultimo si rimpicciolirà entrando tosto tosto e prorompente abbiamo pure Giorgio Vanni quindi voglio dire mi piace la localizzazione nella pokeball ed è questa signore e signori quella che si chiama comunemente cattura tra l'altro è vestito in maniera pazza questo diciamo che posso dirti questo osservare il comportamento dei pokemon un po' una risposta sui tranquillanti te la darà ne parleremo oggi probabilmente ok? assolutamente vai non ho nessun altro a cui chiedere ah beh questa è una bella affermazione è tutto il contrario di Rowan & Company già che sono circondati da wannabe allenatore non ho nessun altro a cui chiedere aiutami a catturare i miei tre piccoli fuggiaschi sii gentile prendi bene la mira colpisci il pokemon con una pokeball e il gioco è fatto non che io sia mai riuscito a mandare a segno un lancio la mia la mira lascia un po' desiderare allora oh bello cominciamo con tutorial meccanici puoi catturare pokemon lanciando una pokeball contro di loro tieni premuto il pulsante ZR per prendere la mira poi muoviti o cambiare la visore ok rilasciando il pulsante lancerai la pokeball se questa colpisce un pokemon avrai la possibilità di catturarlo per annullare il lancio previ il pulsante B perfetto oh guarda ok eccoli andiamo un po' sono molto tranquilli guarda però è bello vederli così nel campo di gioco alla fine l'overworld di spade e scudo era abbastanza sotto alcuni punti di vista non proprio vivibile come tale si era carino però i pokemon si muovevano in modo abbastanza da tile di puzzle ecco allora qui c'è un miglioramento non aspettare no 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 ho visto ho visto i trailer ho visto i pokemon che si immobilizzavano e facevano i wingal volanti per carità cioè i wingal paralizzati per carità però già così a occhio brutto che sia a livello di densità di texture comunque la sensazione che sono pokemon in una mappa mi arriva per fortuna vorrei farti notare anche un altro piccolo dettaglio per comunicare a una persona come te che non ha vissuto pokemon anno dopo anno l'importanza di questa introduzione o che a volte le piccole cose tendano a essere perse per la fretta di superare i cosiddetti tutorial dopo 26 anni insegni tu al professore come catturare i pokemon hai ragione te l'ha sempre insegnato lui te l'ha insegnato il vecchio asmeraldopoli te l'ha insegnato il rivale hai insegnato tuo nonno stavolta tu sei l'esperto e loro non sanno un cazzo questo è uno dei primi e dei tanti messaggi ai veterani presenti in questo sai questo il messaggio ai veterani è reale ma è meta quello che non è meta è che lei e noi non siamo esperti però evidentemente queste persone sono un po' intimorite cioè sono pokemon che scappano magari poi ti danciano la piuma affilata oh i miei complimenti sei riuscito a catturare un pokemon ottimo lavoro mira il tuo talento nella cattura ti sarà davvero utile da queste parti puoi contarci ci sono ancora due pokemon fuggiaschi che strano però ah vedi a vederti si direbbe che tu non abbia affatto paura dei pokemon ok dimmi faccio un commento un altro commento l'ennesimo su questa questione del pazzo paradosso vai se noi venissimo da un mondo nel quale i pokemon sono solo una storia sarebbe ancora più strano il paradosso temporale perché il mondo pokemon esisterebbe perché in un mondo alternativo è solo una storia ma questa storia insegna al mondo vero un po' la once upon a time se avete visto la serie tv nel mondo in cui la storia non è una storia ma il mondo vero chi l'ha vissuto come storia insegna al mondo vero come si gioca e come si vive qui perché qui non è giocare ma è vivere ovviamente sono nostre speculazioni pazze ma questo gioco permette di farle quindi perché no divertiamoci prego ok e pensare che tantissime persone qui hanno timore persino ad avvicinarsi ai pokemon lo dicevi tu ma nessuno esatto è stato uno adesso forza all'opera pokeball alla mano dov'è il mio prediletto bellissimo te lo sei lasciato per ultimo si suono eccolo oh col fuoco spento ah guarda ah perché ti vede carino poverino poverino qui l'impatto della pokeball non lo senti molto di più si hai tirato un backstab eh già purtroppo può succedere le pokeball in effetti non hanno un tasso di cattura del cento per cento ma non ti scoraggiare guarda che faccia triste mira riprova e vedrai che andrà meglio ora il pokemon che fa nulla ah sai va bene sin da quello fammi vedere da vicino ti ringrazio di cuore non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto li avevo appena portati al villaggio per le mie ricerche ma non danno retta a niente a nessuno vedessi come sono filati via come ho detto prima è come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu beh sia come sia devo farti i miei complimenti sei un portento sebbene tu sei appena arrivata sai già catturare i pokemon senza problemi com'è possibile deve esserci deve esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa vuoi che legga io se stai mangiando ah va bene ti aiuta in qualche modo ti fa mangiare più tranquillo no guarda in realtà penso che dovendo mandare io avanti i dialoghi non cambi molto però visto che comunque a ogni tuo monologo faccio un quinto di piatto secondo me è fatta manca poco ok ok allora vado piano piano deve esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa sono il professore del resto incontra tutti i pokemon è un archeo sfondici che aggeggio singolare sembra quasi che serva a mostrarti la via se permetti avrei un grande favore da chiederti il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso il mio sogno è di portare a compimento il primo pokédex di questa regione sai cos'è un pokédex? si tratta di un meraviglioso lavoro di ricerca un'opera monumentale atta a contenere informazioni su tutti i pokemon ma ahimè per registrare i pokemon c'è bisogno anzitutto di catturarli le pokeball sono invenzioni recentissime e ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i pokemon beh interessante questa cosa direi un bel cruccio non trovi? quando ecco che sei sbucato fuori tu un portento nella cattura il tuo obiettivo è incontrare tutti i pokemon e il mio è quello di catturarli tutti mi pare che una collaborazione sia d'obbligo facciamo una stream squad che ne pensi dunque? sei disposto ad aiutarmi a realizzare il mio sogno? vediamo ci sto anch'io dai anzi avrei dovuto rispondere non saprei ora prendo tutte le scelte che tu non prendi solo per vedere se ci sono differenze perché avendo fatto un solo playthrough non lo so esatto dialoghi diversi ci conosciamo appena ma da questo momento noi due saremo colleghi di ricerche il nostro obiettivo? completare il pokédex ma adesso andiamo al villaggio ci sono tre pokemon da riportare indietro per non parlare di te poi dobbiamo pensare a trovarti vite alloggio seguimi allora ti porterò al nostro amato villaggio giubilo giubinopoli ma che bravo questo ragazzo carino che è tra l'altro la capitale di Sinnoh la città più grande e la prima evidentemente è Isu è una delle poche ti ricordi Sole e Luna? vagamente sono identici gli ultrabarchi di Sole e Luna cioè non hanno questo alone nero però la parte blu è proprio una frattura dimensionale e ci sono i particellari degli elementi sì vero buonasera mia cara sentinella come sempre il suo occhio vigile ci fa sentire tutti più sicuri mi sono preso la libertà di portare al villaggio questo giovine gli sono in debito per aver aiutato me e i miei pokemon oh da questa parte prego seguimi si gentile com'è buono allora cammino questo questo è il villaggio giubilo si è notevolmente sviluppato grazie al team galassia la strada che stiamo percorrendo è via canale team galassia il villaggio è stato costruito appena due anni fa c'è tanto da fare ma poche braccia per farlo ma com'è conciato quel tizio e dato che non sappiamo molto sui pokemon persino uscire dal villaggio non è così scontato l'edificio imponente che vedi in fondo la strada è la sede del team galassia non si parla con gli sconosciuti chi è quello arrivato con il professore può far bacca quasi mi passava di mente eccoci bisogna fare rapporto sui pokemon fuggitivi tu aspettami alla trattoria si gentile è lì subito dopo il ponte si chiama la tovaglia di lino l'archeus phone sta reagendo a qualcosa un misterioso potere ti indica la strada addirittura oh guarda ok premendo il pulsante meno aprirai la mappa dell'archeus phone ti mostra come raggiungere il tuo obiettivo tramite un marcatore verrà visualizzato anche mentre ti sposti quando non sai dove andare guardati bene attorno in cerca dell'icona dio ti manda i tutorial si esatto comunque si il team galassia il team galassia addirittura il villaggio è stato costruito dal team galassia ma che cazzo ma il team galassia erano i cattivi di diamante e perla esatto e a quanto pare si chiamavano team anche i sui cioè poi galassia guarda guarda bene davanti a te e infatti vedo il logo vedo è però un po' diverso è un po' diverso ma poi c'è il colore viola del team galassia dietro guarda un po' allora dimmi 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 tu visto io qua ho un villaggio si avanzo col tutorial e poi faccio l'esplorazione vazza parlando con tutti oppure mi sblocco allora allora vale la pena farsi anche solo un piccolo giretto del villaggio adesso è perché ci erano appena conosciuti magari possono parlare del fatto che ci siamo bravissimo io ti ho cercato di doppiare prima in maniera straveloce perché c'erano effettivamente dei dialoghi che poppavano avanti delle persone vorrei che tu lo vedessi effettivamente come ti trattano è molto importante è parte della narrazione se lo saltiamo adesso è un'informazione persa per sempre perfetto era la domanda andiamo allora via canale partiamo con la guardia come no poterzio sulla spiaggia origine non ci sono pokemon quindi sì per essere sicura è sicura belli i basettoni sì tutti uguali poi loro eh ma questa è una cosa che pokemon che a me a un certo punto mi sono rassegnato però sì sei pure io dicono che i pokemon di hisui siano molto più selvaggi e forti che altrove ok ichike per vigilare al meglio sul villaggio bisogna avere con sé un pokemon hai anche guarda dei dialoghi in prossimità sono dei commenti che fanno sottovoce una persona sospetta esatto è carino che cambi il dialogo che loro abbiano qualcosa da dire prima che ti avvicini e poi ti introducono al dialogo in maniera diversa allora no ti faccio notare questo dettaglio perché sei tu avermi dato l'assist e mi hai detto posso tornare ti è venuto il sospetto no magari poi perdo qualcosa la risposta è sì e siccome ho sentito magari anche persone che per giocare di fretta l'intro hanno detto ma non si fanno problemi del fatto che sei di fuori sì se li fanno è come però chiaramente se poi vai troppo avanti non lo vedrai te li perdi una nuova recluta? mai visti vestiti del genere chi sarà? io non l'ho mai vista tempo fa c'è una rec vai vai sì bella tempo fa sono stata attaccata da un pokemon selvatico e la sono vista davvero brutta allora non ho più avuto il coraggio di uscire dal villaggio e dove arriva? al villaggio giubilo abbiamo una marapena l'indispensabile e c'è anche della gente strana sono un po' preoccupata ma beh non è che l'aven sia particolarmente equilibrato che vestiti sono quelli? è la moda della tua sperduta regione ah qui proprio simpatico sì 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 lui guarda sto bambino i pokemon mi fanno paura perché mi hanno portata qui? questo dialogo è molto prezioso secondo me c'è una bambina che quasi in colpa ai genitori di averla portata in mezzo ai pokemon ci fa capire molto dell'idea che avevano dei pokemon vero cioè pensa anche qui all'equivalente pensa a un bambino di qualsiasi altro gioco pokemon che ti fa che belli i pokemon questo è il mio cleferi esatto sempre circondati da tutte piccole creature colorate che loro vestono come i carlini cioè invece bravo bravo esatto invece qui e guarda mio twitcher fa un commento sulla mia chat e voglio leggerlo perché secondo me in parte c'è una critica a questa cosa che hai scritto scrive mio twitcher chi è sto gaijin non hai tutti i torti è vero diciamo che essendo stato tante volte in giappone posso dirvi che come tutto il mondo sì c'è chiaramente una certa distanza tra il giapponese e lo straniero che viene trattato con rispetto eccetera eccetera però poi io ho conosciuto delle persone giapponesi che mi hanno spiegato un po' della loro cultura c'è soprattutto anche per motivi storici una distanza che si avverte psicologica specialmente nelle zone turistiche bravissimo specialmente nelle zone turistiche perché poi i turistici mettono la loro c'è una grande distanza dallo straniero e qui secondo me loro riprendono quell'atteggiamento tu sei completamente vestito in maniera diversa non possono pensare che tu sia un viaggiatore temporale e quindi sono un po' xenofobi con te sì e ti diranno continuamente che fai schifo che non si fidano di te e che ma chi cazzo sei come ti vesti cosa fai ma siamo sicuri che può stare qui sarà un amico del professore penso anche solo al commento sarà un amico del professore ma per dire vabbè se l'ha portato il professore è tutto a posto il professore ci fidiamo è vero è vero d'accordo parla quello che bestemmia per Tokyo ma io faccio delle bestemmie in silenzio piano piano è che urlo nessuno sa che cosa ho detto non è che sono Arceus il tutorial allora te lo dico subito perché io ho passato cinque episodi a starci male ok dopo il tutorial vai dove cazzo vuoi come non hai mai fatto in un gioco Pokemon adesso c'è il tutorial ok quindi non pensare che questa sia l'ennesima volta in cui non puoi andare qui non puoi andare qui sbloccata una mappa la mappa te la giri come vuoi però adesso è così ok ok c'è Arceus che dice no non è il momento no però non è gentile è lo stronzo quindi gli fa vai lì beh dio guarda che ti sente che stai dicendo anziano signore ma com'è conciata mamma mia hey tu come ti senti ti do un po' di insight vai via se vuoi catturare un Pokemon devi lanciare una Pokeball via finta di niente sei contenta adesso oh oh hai visto oh mamma si si sta venendo qua non ti avvicinare troppo mamma mia reagisce se sei vicino esatto mamma mia faccio vedere anche i ragazzi oh mamma sta venendo qua se ti avvicini sono spaventati da te non ti avvicinare troppo beh questa ecco comunque questa è una cosina di qualità si si sono d'accordo perché avere tre dialoghi ma guarda che ne è pieno il gioco di queste cose se se hai intenzione di vivere qui ti consiglio di parlare con i vari abitanti del villaggio così ti dicono di no e non devo dirtelo io sarà la conoscente del professore Shino chi non lavora non mangia la vita è una continua lotta per la sopravvivenza va bene mi hai fatto sentire a mio agio subito sgobba fuori dalle palle esatto contribuisce al pill del villaggio subilo levati dei coglioni Shishio Isui è enorme e ci sono un sacco di pokemon pericolose perché sei venuto anche tu qui? Martin un giorno il mio fratellone manderà avanti gli affari di famiglia perciò io invece ho deciso di darmi d'affare qui a Isui la fattoria ammazza però si chiama Pascolo hai visto lo sgraficio dietro? esatto sì 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 quello mi cattura sempre l'attenzione c'è niente da fare Pasco ecco l'alfabeto di cui parlavamo ieri esatto esatto che non è quello latino palesemente no e non è quello unknown no è appunto chissà se un giorno verranno catturati così tanti pokemon da riempire l'intero pascolo oh è praticamente la pensione ok lo vedremo ok è pericoloso avventurarsi fuori salvo su Mugi i pokemon mi fanno paura persino raccogliere bacche mi terrorizza corso fiorito vai un attimo indietro ti voglio far vedere una cosa talking about monster hunter guarda qua vai più a destra vicino a Tsu Mugi guarda cosa c'è la cassa porta strumenti è un baule dall'aria molto capiente sembra che ci sia spazio per molti strumenti ecco e adesso si guardati pure lo studio fotografico stavi lì e non ti volevo interrompere ma mi avevi commentato monster hunter bravo che mi zeta Ellie bravissimo bravissimo ho scelto la persona giusta ragazzi sarà una run incredibile Mike è la persona giusta ci mancherebbe altro guardale Markrow Sherry no l'evoluzione è Sherry questo è Sheruby Sheruby ah bello Sharon oh mamma mia che abiti bizzarvi da dove fu vieni attenzione siamo tornati a Toleno di lei mi fa ridere una cosa ma te la dirò dopo ma che carina la cosa delle forbici che alla punta hanno tagliato si come può cambiare l'umore con un taglio di capelli e l'umore giusto tira la buona sorte sai che commerciante uh vedo che stanno ristrutturando ma quello è un wheezing di di Galar bravo che occhio eh sì complimenti è un wheezing di Galar è vero beh quindi parlava inglese il professore parlava inglese il professore si aveva degli slang inglesi dentro le frasi no sorry sorry very well esatto c'è un wheezing di Galar Galar è ispirata all'Inghilterra loro non commentano a distanza oh guarda sono ah le pokeball ok sei al market non ti ho mai visto da queste parti eh no guarda che carino design anche lui è molto zeldiano con il naso lui è l'antenato di un personaggio che forse non conoscerai mai e quindi anzi sicuramente non conoscerai mai quindi te lo racconto eh il suo antenato e il suo perdonami discendente è uno dei professori del team Galassia di Pokémon Platino quindi è un villain ma qui non lo è Samon il team Galassia è organizzato in varie squadre c'è la squadra di vigilanza poi anche quella edile quella agricola oh per caso si può no not yet almeno oh guarda pietra degli amuleti siamo riconosciuti guarda un po' lì è infatti ed era donato un tempo bravo era donato un tempo è stato rominato la pietra degli amuleti protegge il villaggio giubilo e merita tutta la nostra riconoscenza accidente fighissima sta cosa vediamo se posso entrare qui sto completamente ignorando la locanda poverina fai bene non ti manca molto ottimo però si pietra degli amuleti e c'è un un anello di Arceus che era dorato non lo è più ieri parlavamo ti ricordi no le rovine singo si c'è scritto sinno dentro però sembrano più antiche di Isui e qui se non altro è la conferma che ci sono degli oggetti antichi legati a Arceus che sono però ormai sbiaditi letteralmente anche a Isui esatto anche a Isui quindi c'è qualcosa sicuramente tra le colonne del trailer e questo oggetto possiamo già chiudere questa pratica si c'è un culto di Arceus più vecchio di Isui quanto più vecchio lo dovremo scoprire insieme certo supportato da chi e che cosa lo dovremo scoprire insieme 38 oggetti 38 oggetti chissà cosa studiano quelli della squadra di ricerca visto tutto il tempo che passano al ristorante di Rampey non staranno mica indagando sui segreti di suoi manicaretti tipo qui ragazzi mi sarebbe piaciuto che i pokemon si scontrassero anche perché lo vedrete le animazioni di battaglia sono migliorate migliorate anzi è un eufemismo le battaglie adesso funzionano soprattutto quando gli attacchi più belli cominceranno ad arrivare le battaglie sono divertenti da vedere e quindi non capisco perché qui non hanno messo in loop magari due pokemon che semenano cioè con due attacchi magari in croce anziché essere fermi visto che tra l'are i raccondi Toshiro le nostre lame sono semplicemente ridicole se paragonate alle zani e agli artigli di pokemon macci picchia oh e passa la composizione policonale del mondo ok ok podere podere si podere tu napo lo riconosci? oh no riconoscerlo no anche se ha un design super caratterizzato quindi sicuramente ne abbiamo visto una sorta di discendente gardenia capopalestra di tipo erba e infatti lui coltiva la famiglia diventerà una famiglia talmente tanto legata ai campi da poi specializzarsi nel tipo erba e divenire infine pilastro della società pokemon e ora invece hanno paura di loro pensa che storia sarà quella di napo che da coltivatore di isui arriverà a essere qualcosa di diverso magari un utilizzatore di pokemon erba per coltivare i campi ho attraversato il mare in cerca di un pezzo di terra che potesse essere solo mio ma prima di cantare vittoria devo trovare un modo per lavorare il podere senza troppe difficoltà che forte è well made fan service al villaggio si si assolutamente ce n'è di gente strana tu non sei da meno che vestiti sono questi ok ci sei eh ti dico che hai visto praticamente tutto quello che c'è da vedere in questa versione del villaggio ok possiamo andare alla locanda assolutamente si si potere però scusatemi ragazzi e questi baffetti verdi verdi è un pazzerello hai l'aria sospetta la topaia di lino è una trattoria riservata ai membri del team galassia i forestieri non sono benvenuti gira a largo oh ma sembra una faccina triste mira ma poverina guarda un po' pensavo che è incredibile il fatto che tu abbia scelto il personaggio femminile ma non potevo dirtelo fino adesso adesso siamo perfettamente speculari che spettacolo ma dai e tu da dove sbuchi e poi che strani abiti sono così leggeri che un pokemon ci metterebbe meno di un secondo a farti affettine mamma mia guarda come ne parlano se sei qui al villaggio vuol dire che qualcuno ti ha dato il permesso eh si oh forse sto l'aven so che viene da una regione molto lontana non mi fiderei troppo di uno che si lascia scappare i pokemon t'avviso eh mike hanno dei dialoghi diversi ah si parlano in maniera leggermente diversa usano parole dicono la stessa cosa ma con parole infatti all'inizio ho pensato sono indietro con il dialogo lo scopro ora ah parlano con hanno un carattere leggermente diverso lei è più posata il tuo è più colloquiale più terra terra lei parla più forbita cazzo non me la questa cosa non me la sarei mai aspettata è vero mai questa è una bellissima cosa della quale non sapevo niente un bel dettaglio prego scusami anzi anzi se solo non fossi stato messo al tappeto dal tuo non ho shock di un pokemon mamma mia sta parlando di lui messo al tappeto lui poi ti dico invece che lei dice però chi sono io per giudicare se non mi fossi lasciata colpire dal tono shock di quel pokemon prego quegli altri tre non se la sarebbero svignata così facilmente non sarei finita a letto hai tutte le ragioni del mondo luca sono un tale disastro e che mi vergogno e qui lo sguardo ma da ora in avanti non avrai di che preoccuparti mira è qui per darci una mano guardavanti è dubbioso lui con la sopracciglia alzatissima mi sta dicendo che vuole farlo entrare nella squadra di ricerca le dispiacerebbe spiegarsi meglio vuole dirmi che entrerà a far parte della squadra di ricerca carino così senza avvisare nessuno mi spiace ma non posso fidarmi di una tipa così strana ma insomma non può reclutare nuovi membri senza il permesso della caposquadra Selina alla mia autorizzazione ma questa è Saira sì è Saira attenzione guarda che sguardo al differenza dell'essere magari abbandonato e michilista questa è decisissima incacchiata sempre che dimostri di avere le capacità di cui abbiamo bisogno sono Selina e sono a capo della squadra di ricerca del team Galassia è Melina sì ed è sì a capo del team Galassia cioè della squadra di ricerca il professor mi ha messo al corrente a quanto sembra lo ha aiutato a recuperare i pokemon fuggitivi e ora vorresti mettere a nostra disposizione il tuo talento in cambio di vitto e alloggio occhio e croce direi che hai più o meno 15 anni a te la risposta alla domanda iniziale che mi avevi fatto il che significa che hai l'età giusta per provvedere a te stessa tuttavia non mi è possibile raccogliere della mia squadra perfetti sconosciuti domani ti metterò alla prova fair mi sembra più che giusto e ora credo che il commento di Selina fosse in realtà una velata risposta ai veterani su quale è la maggiorità nel mondo pokemon hai presente il famoso meme del ma a 15 anni li lasciano in giro a 10 anni li lasciano in giro qui ti dicono che a 15 anni sei in grado di provvedere a te stesso quindi credo che la maggiorità nel mondo pokemon sia a 15 anni però vi prego vi prego con le battute no però c'è anche da dire che potrebbe essere cambiato nel presente è vero certo assolutamente non lo sappiamo potrebbe essere anche 18 anni 21 boh però e ora e ora mia kk squadra vorrebbe unirsi noi per cena immagino che avrà parecchie domande per la nostra giovine ospite no grazie preferisco assaporare le pietanze in solito non è ok abbastanza ok va bene va bene è molto Cyrus si 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 era di famiglia riservata come sempre ebbene vorrei dire che saremo solo noi tre abbiamo una quantità di cose da dirci mister rampei il solito per favore dei mochi di patate buoni questa volta per tre persone oh guardalo ah mister rampei i suoi mochi di patate non deludono mai delicious come sempre soddisfatto laven racconti un po' dove ha raccattato questa specie di vagabonda allora professor laven mi dica sarei curiosa di sapere dove hai incontrato questo tizio sperduto è giusto hai visto anche tu quel buco nel cielo il cosiddetto squarcio spazio temporale no ebbene la nostra giovine amica deve essere precipitata proprio da quel buco scommetto che spera che io le creda stento a credere che sia vero sono bellissime le espressioni di totale sfiducia verso il professore lei e lui sono gelosissimi infatti io sono un uomo di scienza il mio lavoro è verificare i meccanismi che regolano i fatti che osservo ai miei occhi solo i fatti hanno importanza Isui la regione in cui viviamo è abitata da innumerevoli specie di pokemon già sono ovunque nell'erba alta nei boschi nel mare qua identico immagino forse confermo il compito della squadra di ricerca è indagare su tutte queste creature che vivono in zone erbose boschive costiere e non solo e il compito della squadra di ricerca è capire cosa siano queste creature beh prego prego i pokemon ecco sono creature spaventose e questo è un altro grande dialogo secondo me che era già stato scoperto dai tempi dei trailer sì per i veterani è incredibile vedere il professore che non dice più il mondo pokemon è un mondo magico vai esporalo preparati ai tuoi grandi amici magici e colorati la 20 dice che devi fare attenzione perché sennò i sad thing esatto ragazzi perché sennò ti ammazzano fantastico totalmente avvolte nel mistero non c'è chiaro quale sia la natura dei loro poteri né quali siano le loro potenzialità ma ora possiamo contare sul tuo aiuto mira hai catturato tre pokemon voglio dire ben tre è un'impresa ammazza che io sappia nessun membro del team galassia è mai arrivato a tanto siamo proprio in un altro universo eh sì ora potremmo finalmente dare inizio alle ricerche sui pokemon tre pokemon devo ammettere che ci vuole talento tre pokemon gli esemplari selvatici attaccano a vista quindi per noi è già tanto riuscire a catturarne uno per noi è già tanto riuscire a catturarne uno con tutti quegli attacchi che ci lanciano contro a un mortel vero i pokemon che erano fuggiti in spiaggia non hanno attaccato ma credo comunque che la chiave sia nel suo approccio non ha paura e per questo riesce ad avvicinarsi a catturarli più facilmente scrivono in chat che nemmeno quelli del team galassia del presente sono arrivati a te dite un po' voi della squadra di ricerca mi sembra il caso di portare qui gente stramba e starvene seduti a mangiare come se niente fosse la caposquadra si è pappata tra le altre cose ben dieci moci di patate vi rendete conto? capisco la lentezza nei progressi del po' figo capisco che la lentezza nei progressi del po' che mi nervosisce ma non vi pare troppo questa è una versione edulcorata di quando Erwin torna a casa e tutti ma stiamo pagando troppo per questi stronti si si è vero la caposquadra Selina sarà lieta di sapere che i giorni di abbuffate nefrotiche saranno presto un triste ricordo su mira serviti pure guarda posso farti un commento proprio emotivo su questa scena certo fra le righe magari mi dirai se è la stessa sensazione che hai avuto tu ho avvertito proprio la liberazione che prova l'Aven nel finalmente poter mettere in pratico qualcosa che invece è sempre stato teorico ovvero andiamo a prenderci i pokemon nella natura e a studiarli si esatto chissà quanta pressione questo professore ha ricevuto in questo villaggio si ok c'è la squadra di ricerca vi diamo da mangiare vi facciamo i mochi di patate probabilmente non pagate come gli altri perché dovete contribuire allo sviluppo del villaggio però poi tornate a casa con tre pokemon e sono tre biduf e allora porca puttana quindi quando lui ti vede nella spiaggia origine e vede che sai catturare i pokemon gli brillano gli occhi perché pensa minchia finalmente qualcuno che può fare sul campo quello che per ora è rimasto solo sulla mia lavagna quindi mi è piaciuto molto questo senso di liberazione quasi di laven che è percepibile dal dialogo perché ci è contento dopo il commento di rampei ma vi mangiate sempre i mochi di patate e non fate niente esatto io ti aggiungo una cosa che con tutta la buona volontà iniziare un gioco pokemon è un parto sempre perché è vero perché lì è lo stesso i dialoghi sono bene o male vacui ed è un processo di pazienza non in realtà con tutto l'amore che ho non troppo dissimilmente da un monster hunter anche lì è vero hai ragione straparlano ti interessa il giusto anche se lì con più personalità perché sono tutti molto diversi fra loro qui invece sono molto preso perché non vedo l'ora di andare nel nel field però è pieno di piccole cose interessanti tu che arrivi l'inizio è incredibile tu che sei visto come il gaijin il team galassia noi stiamo per entrare a far parte del team galassia e poi diventerà malvagio che vorrà evocare di alga palchia o di alga e palchia in platino e finirà addirittura per far convergere il mondo distorto con il nostro quindi pensa che casino che faranno partendo da queste ricerche che erano fatte a fin di bene esatto esatto io sono curioso di sapere cioè c'è 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 giubilo non so se ci sarà una sorta di evopoli e i pokemon sono spaventosi sono misteriosi sono qualcosa che conoscono ancora poco quindi non saprei se troveremo o se si loro parlano di spazio e tempo è ovvio che nella storia pokemon di alga e palchia già esistano però esistono come energie non necessariamente apparse all'uomo però quelle costruzioni quelle cose che neanche evopoli ricorda cioè io voglio sapere se c'è il villaggio evo evoli e c'è magari un fantoccio o un qualcosa vedremo allora vedrai una volta che sarai parte del team galassia non dovrai più preoccuparti di vittoria alloggio anche se sei caduto da giù dal cielo ah wow ammazza abbiamo distrutto questo locale siamo stati abbiamo bevuto birra all you can drink fino a tardi una cena in vero delicious guarda le scarpe del tizio guarda di luca guarda com'è beato prof le ricordo che se l'esame va male non potremo fare entrare mira della squadra di ricerca capisco la sua soddisfazione ma mi sembra che lei dimentichi una cosa importante sidonia non diventerà un membro della squadra di ricerca se non supera l'esame non c'è motivo di preoccuparsi ho piena fiducia nelle capacità di mira ce la farà io continuo a avvertire fra le righe questa pressione di laven che penso spero che ce la faccia sino esatto ti prego un botto di soldi e non ho concluso un cazzo esatto esatto senza di lei dovrò vendere casa esatto e andare a vivere distenti esatto insieme a napo allora lo spero anch'io mira hai detto che ti chiami per stanotte puoi stare nel nostro alloggio sì però io spero che siano tutti degli sfigati incredibili cioè io devo andare dentro al team galassia a vedere gente inadeguata spero che sia così ok guarda che belle che sono le finestre a forma di pokeball ma se dovessi fallire l'esame dovrei lasciare il villaggio e vivere allo sbando là fuori dove probabilmente ti aspetta la morte accipicchia senza mezze termini wow io in blind ho avuto una bella reazione a questo ti aspetta la morte lì fuori è piuttosto importante come esatto in un gioco dei pokemon cioè vai fuori a morire parlare di morte è qualcosa che non è mai stato fatto prima in questo modo i pokemon sono spaventosi ti avvertono cioè ti aggrediscono però al massimo cioè sì tu te lo immagini il consiglio d'amministrazione quando Masuda è arrivato con questo dialogo esatto e qui il personaggio dice che i pokemon ti ammazzano esatto e che se questa quindicenne fallisce un esame dinanzi a sconosciuti aggressivi nei suoi confronti la mandano a morire per i campi cioè capito non è proprio una cosa da pokemon esatto infatti è un ottimo un ottimo incipit la caposquadra Selina sa essere inclemente proprio come Isui la sua intransigenza ha il solo scopo di proteggere tutti noi bene direi che è ora di dormire sarai pure caduta dal cielo ma non credo che ci sia pericolo che tu cada dal letto soprattutto da un letto di Isui certo perché sono futon esatto good night my dear vedi di riposare buon riposo non riesco ancora a credere che tu sia caduta dal cielo che sei veramente un ragazzo caduto da uno squarcio nel cielo al mondo ne succedono di cose strane uh eccoci di nuovo eccoci qua sarà pure vero che quando uno ha fame mangia perfino le pietre ma io sulla qualità delle patate fumose non transigo uh lui non c'era prima signor Fabrizio si chiamano tutti Yusuke Fabrizio Fabrizio eee ma dai persino gli interni è un fabbro brutti come il culo ma sono gli interni sono una texture allungata che però sai già in realtà non verrà mai caricata su Gmodo fatto di meglio si il me di 15 anni ha fatto di meglio esamina vai cinturadestramento si ok ok gen non ha confermata in Italia assolutamente Fabrizio è il professore il fabri il territorio è solo ha nella forza di cento uomini tutti dicono che con la sua tecnica di sumo è poi riuscito persino a lanciare un pokemon per aria che in questo mondo esatto prima che tu te lo chieda sì perché così ti aiuto il villaggio Fasa alcuni personaggi di notte si trovano in un punto di giorno si trovano in un altro ok quindi se vedi qualcuno fuori posto non è solo perché hai fatto l'evento della storia ma anche perché ci sono varie fasi del giorno esatto e i pg cambiano di posto purtroppo non sempre non sempre cambiano anche dialogo va bene ma infatti in caso controllo velocemente esatto selina da caposquadra della squadra di ricerca chissà se c'è qualcosa in grado di spaventarla i pokemon credo e probabilmente ok ok qui siamo abbastanza operativi secondo me avevamo letto quello che dovevamo leggere lui c'è sempre stato era diverso ok 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 allora andiamo direttamente all'obiettivo e se faccio questo fallo pure sartoria salone acconciatura emporio la tovaglia di lino bottega con zeta r zoom potere si 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 ho già zoomato infatti e per darti anche una lettura della hod veloce senza farti bravissimo esatto guardando la mappa di isui per farti fare prove empiriche in alto a destra hai il momento del giorno in questo caso la notte quindi hai la luna si ti avverto che ci sono le fasi lunari in questo gioco ma purtroppo lo stagista non ha pensato fosse una buona idea segnalarle anche in minimappa quindi ci sono ma le devi vedere nel cielo è in realtà credo una scelta di design perché è un mondo antico e quindi molte cose te le devi vedere da solo ma sappi che la luna ha più fasi se la guardi in cielo a volte è piena a volte half moon a volte no ok quindi insomma vedrai a sinistra invece se zoomi la mappa hai il meteo ce ne sono un fottiglione li scoprirai tu non ti dico quali condizioni meteorologiche ci siano in questo gioco ma ce ne sono tante e guarderai in alto a sinistra ecco c'è il sole adesso in realtà ti dice il sole significa che è sereno sì è chiaro è notte esatto ed è il cielo è chiaro bravissimo ok ok vedi un po' entra vai all'alloggio ah quindi ma questo è un luogo in cui è casa nostra è casa nostra quindi ammazza è proprio poster hunter c'è l'alloggio ho detto guarda va bene va bene va bene pokemon company ho fatto bene a chiamarla così la guida di ricerca contiene tutto quello che devi sapere per avere successo nella tua attività di ricerca nella regione di Kisui quando vuoi leggerla apri il menu con il pulsante su e seleziona aiuto regola fondamentale dei membri del team ok salva i tuoi progressi per evitare che le attività giornaliere finiscano nell'oblio puoi salvare i tuoi progressi di gioco accedendo alla schermata di salvataggio dal menu è inoltre disponibile la funzione di salvataggio automatico puoi decidere se attivare o disattivare il salvataggio automatico nelle opzioni ok salva oh ci sono diverse opzioni bloccate e poi opzioni veloce testo sensibilità telecamera ah massimo 5 ok ti faccio notare una piccola cosa che ho fatto notare in blind ai ragazzi il testo di default è normale qui di default è veloce si 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 ho apprezzato parecchio è una cosa molto rara per noi vuol dire tantissimo te lo dico per la prima cosa che facevi ok gioco pokemon nuovo testo veloce vai già veloce ah ok è una carezzina proprio piccolina però c'è ok ah c'è anche una cosa che ti vorrei far provare dimmi però dobbiamo farlo fuori non so se puoi uscire adesso quindi magari lo facciamo dopo c'è un'opzione posso uscire? no eh mi sa di no per è tardi però dopo te la faccio provare e mi dirai quello che gradisci di più c'è un'opzione strana particolare che non c'è in tutti i giochi in generale è invece molto apprezzabile quindi dopo te ne parlo va bene un vaso per raccogliere acqua potabile è chiuso per evitare contaminazione ok un focolare in stile tradizionale mantiene caldo l'ambiente una robusta cassettiera per riporre gli abiti riposa ok wow ecco la luna ah ma ammazza pensavo che fosse una cosa avanzatissima questa nel trailer ah ma so le riconosce? si esatto sono le energie che si vedevano nel background distorto di quando di Alga e Parchia usavano il loro potere ti sto abbracciando in questo momento ok si lo sono ok il giorno dopo oi sei in piedi? hai sentito che tuono stanotte? è pazzesco buongiorno Saidonia hai sentito il tuono stanotte? da non crederci comunque vedi di muoverti se fai tardi in posto non cavoli tuoi eh minchia che rude sei pronto per l'esame? farò il tifo per te lui ti odia basta lui ti odia ma è tsundere sicuramente vai alla sede dei team galassia ok siamo ah si certo anche tu siamo dei vampiri che speri di avere un riflesso vabbè qui in realtà ci speravo poco si no certo ovvio era figurati è una delle cose più pesanti da far processare a un motore grafico dormito bene per quanto si possa riposare bene in una terra in cui non si era mai messo piede ah ok che giornata splendida no no perdonami che giornata splendida era l'accento perché diceva per quanto ci si possa riposare bene in un luogo dove non si è mai stati e allora qui dice non sei riuscito a riposare? non deve essere facile ritrovarsi improvvisamente in un altro mondo su prego muoviti ad andare alla sede è meglio non far aspettare la caposquadra selina forza dirigiamoci verso la sede la caposquadra selina ti sta aspettando che poi non ho ancora deciso se si chiama selina o selina no è un mistero assoluto non ne ho idea finché non la chiameranno davvero nell'anime o in una qualunque intervista eh sì ok figata io non credo che qualcuno abbia qualcosa da dire la mattina dopo però cosa piacerà gli starli? vedi che lei in un punto diverso ancora rispetto a prima lanciando una ghiocca baccata a un pokemon gli farai abbassare la guardia e catturarlo sarà più semplice ok quindi qualcosina di diverso c'è in effetti sì qualcosina di diverso c'è e ci sarà spesso poi ne parleremo il villaggio evolverà molte volte ok molte volte quindi sarà un po' Firelink Shrine ok mi permetti il paragone cambierà tante volte tanti npc si aggiungeranno avranno dialoghi diversi succederanno cose non è da molto che mi sono trasferito a quel villaggio cerco di parlare con tutti quelli che incontro così imparo sempre qualcosa di nuovo esatto come dicevi tu va fatto e ma è proprio il tutorial c'è questo personaggio ti dice parla sempre con tutti che magari hanno dialoghi nuovi esatto questa si è posizionata a guardare in punizione la parete immagino che sei ancora presto per ok dove sei entrato qui in questa prima casa ora ora no ora esco e ricomincio da capo perché sono entrato in una completamente casuale convinto che ci sarebbe stato una allora ok 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 this time ok invece questi diario sono gli stessi perfetto allora partiamo da qui prima a destra sì ora gli faccio provare le impostazioni ragazzi prima la casa tanto non c'è fretta siamo qua per 12 ore tranquilli ma guarda ok sì purtroppo il brutto di questo posto è che è esplorata una casa le hai esplorate quasi tutte a livello estetico per me un contro visto che parliamo di uno dei pochi interni del gioco come è intuibile dal senso proprio stesso del titolo siccome sono poche case non avrebbero rubato niente a nessuno a farle un minimo diverse fra loro sì esatto specialmente se già se devi concentrarti un po' e già l'esterno è così sofferente almeno l'interno rendilo un bel capito però ho capito un colpo al cerchio un colpo alla botte i dialoghi che abbiamo letto sono quasi tutti interessanti sì sono venuta qui dalla lontanissima Owen oh ma certo che da queste parti non c'è proprio niente e qui ti devo fermare ok nel senso che per noi è un'informazione devastante ebbè sono venuta qui dalla lontanissima Owen significa che Owen esiste già esatto che è molto lontana da Sinno al momento di Isui che è molto lontana da Sinno ma che mentre Sinno diventerà Sinno dopo Isui Owen è rimasta è o sempre stata Owen o comunque è stata fondata molto tempo prima e se ci dicono che da queste parti non c'è proprio niente vuol dire che Owen è già civilizzata altra cosa piuttosto importante quindi Isui è una delle ultime un po' l'America forse del mondo Pokémon Isui cerco di fare paragoni con il mondo reale stai bene ok dove sono andato ok dì pure l'opzione sì bravo allora vai su intervallo dinamico ah dell'audio sì se metti ampio senti i rumori quasi in 3D se metti ristretto tutto si avvicina io ti consiglio ristretto almeno inizialmente perché nella natura sentirai i versi dei Pokémon e ti aiuterà all'inizio sentirli tutti appiccicati a te ma poi potresti provare a passare su ampio e vedere un po' l'esperienza di essere in natura con la bestia che fa il verso lontano da te magari facendoti rischiare di non sentirlo e di beccarti un attacco senza accorgertene ok perfetto perfetto sì 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 chiaro vai sinistra ah ok sei andato alla prima a sinistra yes ah sì letterale eri molto letterale te l'ho detto non mi aspettavo così tanto ok questo è l'alloggio della squadra edile ok grazie alloggio della squadra edile ci vivete in una squadra sei sempre andato a sinistra destra stavolta faccio zigzag destra ok ok perfetto ma manchevole di animazione ma guarda guardati i piedi quando superi il voli quello hai notato no guarda guarda ah no 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 ah sì sì che ti togli le ciabatte sì no perché c'è un momento in cui se ti fermi c'è un po' il dark souls no nel senso che sì 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 stai a mezzo però sì hanno fatto in modo che tu ti togliessi automaticamente le ciabatte perché è buona creanza esatto se posso darti un consiglio ti conviene parlare sempre con tante persone ah ma ti sto imbucando in casa senza alcun rispetto quindi figurati infatti dopo te ne dice veste e corna dietro ok dritti ehi shiro non hai freddo vestita così va bene che i bambini devono giocare all'aperto ma tu sei già grandicella va bene loro non ti capiscono inquietantissimo questo vedrai a un certo punto tra poco ci sarà un altro dialoghino pazzo ma non ricordo quando si sblocchi quindi ci vorrà forse ancora un po' eccoci toglio Selina la caposquadra della squadra di ricerca chissà se c'è qualcosa in grande oh sei tu è sempre lei esatto poi c'è tu due non mi direi mica che sei andata in giro visita così è pericoloso devi restare nel villaggio però te lo guarda con uno sguardo furbetto spero che la facciano a pezzi esatto e poi insomma qui ti confermano che non vanno fuori loro vanno fuori solamente come in out tutti quelli che sono qualificati per farlo hai davvero catturato dei pokemon no no ti credo sulla parola non serve che me li mostri non me li far vedere ti prego li odio esatto paura paura che paura nascosta hai bisogno di aiuto per caso ti consiglio di andare nella nostra sede allora quella del centro di indestramento immagino lei era pokeball esatto esattamente lei ha una pokeball non è squadra di vigilanza ma è dotata di pokemon cioè perdonami non è squadra di ricerca ma è dotata di pokemon è squadra di vigilanza per ora per ora conosci la vigilanza perché te l'ha introdotta l'aven e l'idea che è quella insomma del che costruisce le cose e poi quella di ricerca ehi sconosciuta ricorda che è sempre meglio avvicinarsi ai pokemon di soppiato beh come ho fatto con te vuoi unirti alla squadra di vigilanza penso che è bello se c'erano le covenant tipo scegli dove entrare esatto magari un giorno alla skyrim eh sì se continuano la serie di legends perché no al villaggio arriva sempre gente nuova mi toccherà raccogliere più miele per tutti che gentile sono venuto a Isui per raccogliere funghi eh ma come cacchio vi raccogli i funghi devi andarci con il fucile io condivido con i ragazzi questa questa impressione che mi tormenterà per tutta la blind run vi avverto per me questo è Demetro ha i capelli verdi vuole andare incirca di funghi Demetro lei era nel bosco Evopoli quindi per me questo è Demetro ok io credo che sia Demetro però ho vacillato a lungo quindi boh lascio scegliere a voi se è davvero Demetro oppure no Ardelio lavorerò duro per rendermi utile alla squadra di vigilanza ok però ce l'ha a dire una cosa dimmi tutto è per ora almeno amor di passione che rende non un calcio nelle palle entrare in queste case perché non dicono niente non fanno niente le case non c'è niente dentro sì cioè non c'è un oggettino ti dicevo un eh ok no è è un peccato l'interezza dei dialoghi è unicamente indirizzata esatto ai veteranissimi agente come noi esatto bravissimo e che tu puoi comprendere perché hai fatto la veteran come di BDSP e io ti ho guidato verso esattamente quelle cose che tu poi avresti compreso e ricollegato ma hai ragione a livello poi di gioco in questo momento non c'è niente perché tu vabbè si può ne possiamo parlare nel senso che tu dai è carino che dai accesso alle case ma non sempre è smart farlo se sono delle istanze in cui dentro entri per parlare e interagire con un NPC che non ha nulla da dirti che non sia qualcosa di sì pensato per qualcuno però a livello di videogioco offre flavor di ambiente ma è time consuming come processo ecco mettiamola così dagli tempo qualcosa ci sarà oh yeah per caso vuoi unirti la squadra di manufatturiera alla squadra ecco cioè qui è carino che scopri come capisci il modo in cui funziona il villaggio giubilo sì però obiettivamente come dici tu potevano mettercelo un oggetto da droppare qui dentro sì esatto esatto qualcosina o una funzione di gioco come per esempio cada in monster hunter tu hai di solito tutto in posti uniti quando sei vuoi essere efficiente ma nel villaggio sono anche separati per darti flavor ok certo arriverà comunque questo è l'intro ma infatti siamo nel super prologo quindi però tu mi devi sempre dare le tue impressioni full yes come stai facendo adesso ok finalmente entriamo entriamo sì in effetti siamo completamente fuori contesto beh questa è la serie del team galassia hai mai visto un edificio così grande in vita tua oh mio dio voglio la risposta di questa cosa cosa dice qui al piano terra si trovano gli uffici della squadra di basta ok no fatti forza speravo speravo che ci fosse il sì certo c'erano i grattacieli a casa mia ok no fatti forza tell fortunio sono stato attaccato da dei pokemon selvatici ho provato a tenere il loro testo con il mio pokemon compagno ma contro un intero branco non c'è stato nulla da fare non sarebbe successo se non ti fossi allontanato così tanto chi è tell tieni duro la squadra medica si occuperà di te quindi abbiamo vigilanza ricerca manufatturiera e medica ok bravissimo hai sentito se non superi gli esami finirai là là fuori potresti anche lasciarci le penne persino quelli della squadra di vigilanza non escono indenni dagli attacchi dei pokemon selvatici pur avendo dei pokemon al loro fianco ma che questo esame per te potrebbe essere troppo senza un pokemon accanto ma che dico pur se volessi provare a superarlo senza un pokemon compagno rischieresti grosso comunque te la mettono te la insistono forte questa cosa del pericolo è figo che stai a morire si 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 caposquadra selina eccomira caposquadra selina ho portato sidonia entrate guardala occupatissima sei piena di plichi in 144p ma plichi uabra ah è per quello che dicevi che abra era speciale nell'evento di platino bravo si perché c'è un abra identico anche qua ascoltami attentamente per superare l'esame ed entrare nella squadra dovrai raggiungere la landa ossidiana e catturare tre pokemon bidouf starly e shins che tre pokemon così su due piedi nessuno c'è mai riuscito hai catturato tre pokemon giusto oh perdonami mi sa che mi sa che sono andato avanti troppo perdonami ha catturato tre pokemon giusto ieri o sbaglio se ciò che dice l'aven è vero non avrà alcun problema a ripetere l'opera non possiamo permetterci di sfamare una bocca in più senza trarne alcun vantaggio dovrai dimostrare al team galassia che il tuo contributo può fare la differenza molto figo avere un abra lì ti presterò un borsello ogni membro della squadra di ricerca ne devi averne uno perplessissimo il personaggio si stona parecchio con i vestiti assurdi che porti su quei vestiti fa un effetto particolare lei è gentile dai vai lui è tremendo luca tieniti pronto ad aiutare in caso di bisogno comunque è veramente dialoghi caratterialmente diversi oh missione attiva marcatore marcatore attivato mi piace giochiamo si premendo il pulsante y mentre visualizzi la mappa puoi controllare le missioni e le richieste accettate devono essere portate a termine per mandare avanti l'avventura le richieste sono invece facoltative e consistono nell'aiutare gli abitanti della regione con possibili tremende fetch quest ok perfetto sono pronto andiamo avanti mira le sub quest non mi sono piaciute troppo l'ho detto anche in recensione non tutte almeno ti dispiacerebbe seguirmi vorrei apportare anche io il mio contributo good morning miei giovani amici che succede mira devi superare l'esame professore qualcosa non va ne va del pokédex e della nostra vita della sua della nostra vita qui a isui lui lui è incredibile bellissimo sembra un personaggio uscito da rale cioè è vero è vero se tu premi zl adesso secondo me c'è tipo selina dietro con un canno esatto esatto con la retta rossa manda il ragazzo esatto perciò sono venuto a darle tutto il supporto di cui sono capace ecco ora cade in ginocchio anche qui se se ti giri c'è il cannemozzo oh oh go on mira scegli il pokémon che più ti aggrada come compagno d'avventura con un alleato al tuo fianco potrei affrontare i pokémon selvatici che incontrerai sono pokémon molto preziosi io si e ho l'impressione che tu susciti i loro interessi ebbene quale scegli con il tuo compagno no scusa mi rido perché hanno scritto il dottor sblamb guardali ok beh ragazzone è il momento di Sinda ah bene aspetta 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 Luca vai distinto invece sono tutti e tre meravigliosi ebbene quale poi che uno scegli come il tuo compagno Sinda e allora come da opening prenderò il rauretto dunque scegli Sinda qui come il tuo primo compagno si tutto contento oh non è curioso il pokemon che ti accompagnerà sarà proprio uno dei fuggitivi catturati alla spiaggia origine e l'aven non ne hai altri sono i tre che ti sei sudato da quando sei qui cioè non è curioso va bene ebbene eccoti la pokemon che ospita Sinda qui ah ma che carino ammazza che dettaglio cosa? il sigillo della pokeball è esattamente quello dello scrigno del preskitt ah ancora non l'ho aperto ok è lo stesso è lo stesso non della pokeball par 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 dello scrigno che contiene il preskitt eh ce l'ho di qua ma non l'ho ancora aperto abbiamo preparato tutta la roba della live e quindi ero lì fermo ricorda le pokeball che ospitano dei pokemon vengono chiamate partner ball è nuova questa nomenclatura decine non so se la manterranno per il futuro però ma io immagino che in leggende si sicuramente si nei sequel di leggende si ah tu dici magari nei sequel di leggende E sì, ma nel gioco Pokémon tradizionale no. Potrebbe, esatto. Sì, anche perché ci sarebbe fuori dal nulla. Però no. Eh, sono tristi loro. Eh, sì. Guarda gli altri due, sembra che stiano proprio contenti per il loro amico Sindacul. O magari volevano anche loro aiutare Mira. Non mi sorprenderebbe. D'altro canto sono fuggiti via dal villaggio giusto quando Mira è caduta dal cielo. Mi spiace deludervi. My Little Friends, ma temo di aver bisogno di voi per i miei studi. Oh no, quanto hai Monster Hunter, fra? Tanto. Oh no! Poverini! Moriranno. Esatto. Adesso verranno vivi sezionati. Venendo a noi, quali sono i Pokémon da catturare per questo esame? Ma certo, tre specie di Pokémon che abitano nella Londra Ossidiana. Ebbene, eccoti di, ma me ne date già 50. No, no, quelle te le ha tolte. No! Ok, venti poche poche. Tutorial only. Sono fatte a mano, ma funzionano alla perfezione. Andrà tutta meraviglia! Oh, che carina l'animazione ho quel pollice in su. Si va allora. Per l'esame dovrai raggiungere la Londra Ossidiana. Ci si arriva attraversando la porta a sinistra, una volta fuori dalla sede. Per raggiungere il luogo dell'esame dovrai uscire dalla sede e dirigerti a sinistra. Ok, vediamo un po' qua. Ah, ma è un interno grande. Che figo. No! Eh, non ancora. Piano c'è l'ufficio del direttore del Team Galassia. Ha una sconosciuta come te, non è concesso a cedervi. Ok, quindi... Ah, ok. Uh! Sì. È la mappa. Ah! Eh, anch'io ho avuto una reaction assurda a questa. Oh! È lei, è lei, è l'antenata. No, ma che bello! Comunque, se c'è una cosa che, tra l'altro, rende ancor meno perdonabile il trattamento tecnico, che non sbagliano mai, sono i design. È vero. Andiamo un po'. Hai già le mie istruzioni. Il resto dipende da te. Ora parlo con tutti. Ma che carino lo studio! Questi non sono male come interni, sai? Sì, ma non guardare mai i quadri che ha appesi, ok? No! Non lo fare! Sono brutti. L'interno non è brutto, hai ragione. E infatti mi è piaciuto molto. Ma in realtà mi piace come hai decorato tutto questo palazzo, a livello di costruzione delle stanze. Comunque mi piace un sacco che questo professore... Legge pure, legge pure. Eh, c'è scritto, sì, c'è scritto, non si capisce bene cosa serva, ma sembra un dispositivo impressionante. Il fatto è che è proprio il nerd, lui. È vero. Guarda quanti libri, quanti fogli a terra. È disordinato, esatto. Oh, che bello! Cosa hai visto? Oh, Shalot. Oh, io la vedo per la prima volta questa cosa, da me non c'era. Ah, è giusto perché l'avevi preso, immagino, nella blindera. Sì. Esattamente. Bello. E Rowlet è qua sopra. Tu ce l'avrai qua sopra, perché ce l'avevo anch'io. Sì, sì. Ma in realtà Oshawoth forse è quello un pochino peggio contestualizzato. Oh, li ho invertiti. Li ho invertiti, però sì, sì, Oshawoth è qua e Rowlet è qua sopra. Cioè forse... Ma più che altro perché rende male l'acqua. Eh... Cioè è un quadrato. Tell, il villaggio giubilo è un posto sicuro. Arrivo. Torna pure qui quando vuoi che ti rimetta in sesto. Lei potrebbe essere anche imparentata, perdonami se ti interrompo, con la tizia della grotta ritorno. Eh, grotta ritorno, vabbè, cazzo. Della grotta labirinto. C'è una tipa che ha gli stessi fermaglini per i capelli. Ora non so se è un caso e basta. È sicuramente l'antenata dell'infermiera Joy perché è anche coinvolta nella squadra. Medica però potrebbe essere anche Matilde. Entrambe le cose. Anche perché ci sono dei personaggi che sono entrambe le cose, cioè che sono più personaggi fusi insieme, ma ne parleremo quando sarà il momento. Dicevi scusami, non ti volevo interrompere, ma ogni tanto vi do queste chicchette. No, no, ho ricevuto un messaggio, vediamo un po'. Mi segnalano che ogni tanto, molto raramente, si taglia l'audio di sub. Sei riuscito ad avvertirlo e a dire di abbassare leggermente il game di Discord? Sì, certo, magari... Il mio? No, no, credo parli del mio nel tuo live. È vero, ogni tanto quando inizi le parole non si sentono subito ed è per questo che a volte ci sovrapponiamo. È chiaramente Discord, perché ovviamente il mio microfono non lo farebbe mai. E qui in live sicuramente non sentono problemi. Quindi vediamo un po', fammi vedere se riesco a andare nelle impostazioni di Discord e vedere se nell'audio posso aiutare. Magari abbasso un po' l'input volume, metto 90%. Oppure facciamo così. Ok. Fammi sapere, adesso ho tolto la sensibilità automatica. L'ho messa a bassissima così che io possa respirare e farmi sentire. Ok. Meno 80 decibel. E vediamo. Vediamo come va. Perfetto. Allora, detto questo torniamo noi grazie della segnalazione. No, stavo per dirti una cosa carina qua. Ma vedi, sono ormai a corto di pozioni. Mi toccherà andare in cerca di materiale. E qui le pozioni sono anche per le persone, soprattutto per le persone. Bravissimo. Accidente. E la esploreranno molto nelle subquest questa cosa, se ti interessa. Te lo anticipo. Ci sarà un bel focus su come funzionavano le cure, bla 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 bla. Alcune quest ne parleranno. Uh, carino. Ok. E allora a questo punto? Vediamo. Oh, poverini. Gente che non sta bene. Sì, no. De metro. Ha colto troppi funghi. Sei sempre allo stesso piano, giusto? Non sei né salito né sceso. No, no. Non è salito, non puoi salire. Esatto. Guarda, tra un po' scendo, ma volevo vedere. Ah, è chiuso, chiuso, chiuso. Ok. Andiamo. Scendo. Immagino che quindi i lati siano tutti congruenti. Sì, 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 sì. Lo vedi anche dalla mappa al muro. Oh, no, dai. Guarda, qui puoi osservare il processo di creazione delle Pokéball. Questa è una graditissima sorpresa. Eh, sono d'accordo pure io. Io vedranno nell'episodio numero due della Blind che esce tra mezz'ora. ho passato quindici minuti dentro questa stanza per capire come facessero le Pokéball. Peccato per la risoluzione. Mamma mia. Perché guarda, qui palesemente ci sono dei bozzetti che hanno disegnato davvero. Sì. Ma non si capisce un cazzo dal bozzetto. Esatto, sì. Questo sarebbe un giorno se tirassero fuori l'artbook. Esatto. Magari potremmo vedere che cosa avevano pensato. Guarda, ma addirittura il pigmento. Eh sì, eh. Loro partono da queste robe qui per arrivare poi a quelle arancioni. Io vi sto facendo vedere tutto in prima persona, ma vedo che anche Michele lo sta facendo. E poi arrivano a montarci il congegno, quello metallico. Vediamo che dice. Shunpei, costruire con le proprie mani ciò di cui si ha bisogno. Può sembrare scontato, ma è davvero un'esperienza gratificante. Tao Hua. In questo posto non c'è davvero nulla. Il che significa che dobbiamo costruire con le nostre mani tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Forte. Ok. Sony, compra lì. Non ho detto niente. Esatto. Ti prego, ti prego. Ho tossito, ho tossito, ho tossito. Ok, mi sa che abbiamo finito qua. Il simbolo della Pokéball, tra l'altro. Carino, che sembra in fase di costruzione. Sì. Ok. Via. Non so se sia un antenato di qualcuno, rispondo ai veterani. Io non ci ho visto nessuno. Non per forza in questo gioco ci sono antenati di. Il rituale, ragazzone. Premi il tasto su. Il direzionale. ZL. ZL. La natura. Ah. Si è appena sbloccata questa cosa. Sì, sì, sì. Però è la. Sin da quel. Vediamo un po'. Poco, altezza, peso. ID. Punti esperienza. Simbolo di Hisui, che è quello interessante, con la pallina al cielo. È l'anellone. Esatto. Bravissimo. Puoi segnare come Pokémon. Poi vediamo un po'. La mia in teoria è buona, però dico in teoria per motivi che non ti posso... Eh, la mia è ingenua. Fammi vedere. Velocità su. Va bene, non è male Naive. Non è la migliore, ma è Mixed Naive. Perché ti tira giù una difesa per la velocità. Quindi non è male Naive. Ok. Come puoi vedere, non ci sono abilità in questo gioco. Infatti stavo cercando la pagina con l'abilità, ma non c'è. No, perché il... Credimi, è intelligente questa cosa. Il combat system nuovo è già abbastanza complicato così. Non se ne sente. Ok. Anche perché le abilità sono state in parte inserite dentro effetti secondari di mosse che sembrano più abilità che effetti secondari. Vedrai. Ma... Penso che sia una cosa... È un livello di complessità. Che poi verrà aggiunto magari in futuro. O questo combat system prenderà una direzione ability free? Ne parleremo insieme? No, non penso che le abilità verranno tolte dalla serie principale principale. No, no, mi riferisco solo a leggende. Ah, no. Sì, leggende andrà avanti senza abilità, secondo me. Ok, ok. Sì, 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 secondo me sì, 100%. Secondo me ci sono delle idee del combat system che andrebbero riportate anche nella serie principale principale in nona generazione. Non ti dirò quali, me lo dirai tu. Nel momento in cui dirai, bella questa cosa, la vorrei in Pokémon. Io ti dirò, guarda, anche io l'ho pensato. Ok? Ok, o magari non lo direi di nessuno. Ma stai parlando di Pokémon nel senso del mainline classico? Sì, del mainline classico. Ok, ok. Cambia tanto rispetto al mainline classico. Voglio farti notare una cosa da nerd, ok? Sì. Facciamo finta di essere davanti al bearer, sick, sick, lì, ok? Stiamo guardando le statistiche. Riaprimi pure Rowlet. Aspetta, uff... Eh, perdonami, sindaquil. Aspetta. Ok. Vami alle statistiche. Le tue statistiche e le mie sono fuori di melone. Siamo a livello 5 e abbiamo 42 di difesa. Ok. E 38 io. Tu quanto hai? Di difese? Di difesa ho 38 normale, 40 quella depotenziata. Ok. La speciale. Ecco. Sono statistiche che credo possano essere paragonabili a un livello 20. In chat mi correggeranno. Wow. Ma se non è 20 è 15 o 22, ora non lo so, ma insomma non di livello 5. Di livello 5 dovremmo arrivare forse a 10 con una statistica. E... E quindi, insomma, è come per dire Dark Souls comincia, Dark Souls 4 e la statistica di base di forza è 40. Questo è il livello di shock. Ok. Quindi ha un equilibrio completamente diverso. Molto diverso. E per certi versi secondo me idilliaco rispetto alla serie principale principale. Ma vedremo più tardi questi effetti in partita. Adesso io non... Non ti faccio questa domanda davvero perché penso che arrivi il momento giusto. Però non credo di poter sapere adesso cosa sono quei livelli accanto alle caratteristiche. Non lo sai e lo saprai. Ok. È la tua blind, non voglio anticiparti troppo, ma qui altrimenti tu avresti aperto il menu e non avresti potuto neanche fare questa riflessione. Ecco perché ci sono io. A dirti le statistiche sono fuori di melone. Sono molto più alte del normale. Io ho 51 di attacco ragazzi. Però in questo caso, a essere pragmatici, dovresti dire... Cioè dovresti una volta presa coscienza, non il wow o 51 di attacco, perché in realtà comunque equivale qui a un livello 1. Giusto? Eh sì. Ok. Eh sì. Infatti poi vedrai cosa succede con questa cosa. A questo punto vado. Mamma mia, finalmente. Che voglia. Dai, 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 dai. Ma guarda che oggi in 12 ore... Sì. Arriviamo a un... Io ho più o meno presente dove arriveremo. E visto quello che ho fatto e come ho giocato adesso con tutta la lettura eccetera, ti senti ancora spot on sul... Sì! Allora, Mike perdonami, cioè, dico questo, ok? Ma se non lo facciamo nell'unico gioco in 26 anni in cui Game Freak ha voluto inserire di più di che bello Clefairy gira su se stesso, quando lo facciamo? No, ma guarda, c'è anche da dire questo. Io ho dentro, sotto i filtri di una passione analitica, il gamer che vuole l'efficienza. Certo. E quindi io ho il, mo salto tutto e vado a vedere a che c'è, però è il classico discorso, ma scusa, non è più bello e persino quasi eccitante farlo un'altra volta dopo? La prima devi godertela in maniera assoluta, così da vedere sia il pro che il contro, ma anche l'esperienza in quanto tale. È un po' come alzarsi al cinema durante i crediti. No, la gente si è fatta un buscio di culo per quattro anni. Sta seduto! È vero, è vero e ti aggiungo, infatti secondo me, siccome noi non giocheremo Nuzloc, perché ti assicuro che sarebbe folle, ci metteremo a piangere, probabilmente nasceranno nuovi modi di giocare questo gioco. Io già lo prometto ai ragazzi collegati, farò una hardcore run, ma non so ancora in che modo, perché deve ancora svilupparsi il nuovo metodo hardcore autoimposto in questo gioco. Non ho idea di come si possa fare, sicuramente la community avrà delle belle idee o magari le avrò anch'io. È presto, però è talmente tanto un nuovo modo di giocare che bisogna capire anche come eventualmente complicarsi la vita, dato che le mod non sono possibili perché è un gioco su console e allora ci si inventerà qualche regola autoimposta. a te Allora Oh Eccolo Che avvigliamento pizzarro! Devi essere un soggetto interessante! Ti ricorda qualcuno? Camilla? Ok, 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 pensavo di dire una cazzata, ok, 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 io sono Ethelope, un semplice mercante della ditta Jinkgo. Ho sentito le indicerie sul tuo conto, dicono che tu sia caduta dal cielo, perdonami, ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impicciarmi. Cosa vedono i miei occhi? Hai persino un Pokémon al tuo fianco, davvero affascinante, che bello, carina l'espressione. Valutare individui, eventi e oggetti peculiari fa parte della natura di noi mercanti. Che ne dici? Ti andrebbe di metterti alla prova, di mettere alla prova le nostre capacità con i Pokémon? Eh, va bene. Igarbi sempre più, sei davvero un soggetto interessante. Tu per caso sei riuscito a fare... Come? ...la scelta opposta? No, perdonami, mi sono dimenticato di nuovo. Ricordatemelo in chat, perdonate. No, perché è figo, secondo me. Sì, sì, no, assolutamente. Mi è giunta voce del tuo esame. Lascia che ti dia una dritta. Se i PS del tuo Pokémon scendono a zero, perderai la sfida. Tieni alla mente. Bene, allora. Diamo via la lotta. Vediala come un modo per darti la spinta. Io avrei tenuto... Cosa? Co-cosa? What? Mi ha completamente colto la sprovvista. Guarda che... Guarda che green. Ma è... Ma che... Ma che figata! Io stavo per dire una cosa sul gioco che... Era figa l'idea. Io ho detto da mesi ormai che lui sarebbe stato la nostra prima sfida, una sorta di rivale. E quindi quando è successa sta roba, in blind io sono detonato. Ma... Ma... Ok, io neanche pensavo che ci fossero scontri tra allenatori. Rari ma ci sono. Che figata! Guarda, stavo dicendoti che essendoci dei tutorial a schermo e una guida da leggere anche attraverso l'Arseus Phone... Io avrei fatto dire le cose in maniera diegetica, diciamo, ai personaggi. Non parlando in quarta parete, eh? Però è una stupidaggine. Sì, sì, però... Allora... Sono d'accordo. Tipo se il tuo Pokémon sviene, perdi. Comunque, vabbè. Parte la sfida di Iethelo. Ditta Jinkgo. Oh! E c'era infatti il Togipi nel mercante. Guarda! Come funziona? Senti un po'? Le musiche sono dinamiche. Hai sentito che non è mai cambiata l'intro fino a che... Non ho mandato il Pokémon. Non hai mandato il Pokémon. Prova un'altra cosa. Apri il menu. Ok, tipo strumenti. Sì. Sono tutte così. Ce ne sono migliaia di versioni per traccia. A livello di sound design e musiche goicinose ha fatto la Madonna. Ok. Allora. Beh, sono curioso di capire... Ma io posso muovermi? Quanto? È come Ninokuni. Hai una barriera a un certo punto. Ok. E cos'è? Io solitamente mi faccio le panoramiche. C'è l'ordine delle azioni! Eh, di quello ne parleremo più tardi. E poi c'è lo zoom. E poi c'è lo zoom. Yes. Con eventuali informazioni. Ok. Mosse! Attacco rapido. Descrizione della mossa. Va bene. Vediamo. Senti la musica com'è. Tutti i lock in posizione, in loco, quando mandi l'attacco. Sì. E intanto comunico ai ragazzi, ai veteran, che questo è un medley di varie musiche di battaglia di diamante e perla. Fine notte. Le mosse di Pokémon. Hanno rimosso. Ah? Pardon, pardon. Gli strumenti. Usali con maestria e ti si aprirà un mondo di possibilità. Hanno rimosso finalmente, dopo anni, il pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Attenzione, la lotta aiuta i Pokémon a crescere e la crescita gli consente di imparare mosse sempre più potenti. A volte, salendo di livello, i Pokémon imparano nuove mosse. O puoi cambiare le mosse da usare nella lotta tramite l'opzione gestisci mosse accessibili selezionando un Pokémon nel borsello. Peccato che non ci siano a volte persone che possono vantare di avere un Pokémon al loro fianco. E sì, che usare le Pokémon non è così complesso. Ti sta dissando, è vero? Ti sta dissando l'Aven, esatto. In ogni caso, vediamo di rimettere in sesso i nostri piccoli amici. Ah, neanche... no, no, non me lo devi togliere quello, eh. Ecco, accetta queste pozioni in segno di ringraziamento, mia cara amica caduta dal cielo. Pomata per le ferite. Restituisce 60 punti salute a un Pokémon. Usale sul tuo Pokémon nel caso in cui perda le forze. Per quanto riguarda l'esame, hai tutto il mio sostegno. Del resto, più aumentano i membri del Team Galassia, più crescono le fila dei miei clienti. Sì, è altissimo lui, è vero. Eh, ma perché avrò cambiato qualcosa? Ah, dici no, non le mie voce, parlate dell'altezza di... No, 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 esatto, Ethel, Ethel, è altissimo. L'esame prevede che tu catturi dei Pokémon. Ma visto come te la cavi nelle lotte, direi che non c'è da preoccuparsi. Oh, è incredibile. Non solo sai catturare i Pokémon, ma sei persino in grado di lottare insieme a loro. Direi... Forza, partiamo per la landa ossidiana. Direi che possiamo avviarci verso la landa ossidiana. Quando esci dal villaggio giubilo, ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa. E non dimenticarti di avvisare salvo il guardiano. Scusami, è che non vedo... Quando finisce il dialogo, aspetta che ti ingrandisco un po'. Ma no, ma perché in realtà, a seconda di come è scritto, a volte, in questo caso, a me non è una seconda pagina in cui mi fermo. È il prossimo di una, mentre al tuo è più breve e invece, no? Prima di lasciare il villaggio giubilo, ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa. Ci alleneremo a fare questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Diventerà più semplice. Sarebbe anche una buona idea avvisare salvo il guardiano. Ti tornerà utile nel caso ti succeda qualcosa e ti serva soccorso. Così facendo, potremo inviare dei soccorsi, in caso tu venga assalito dal Pokémon e svenga. Monster Hunter? Sì. Ti barellano. Esatto, ti barellano. Spero tu passi l'esame. Tu pensi che... Esatto, fare il salvo è diventato canonico. Quale pensi che sia il malus di morire in questo gioco? Oh! Allora... Ancora... Non so come... Se ce n'è uno, eh! Allora, sicuramente. La mancanza di un failure state sarebbe strano, però... Nella serie principale perdere soldi. Eh, io stavo pensando... Al fatto che... Essendo un titolo che vuole comunque presentarsi anche a livello narrativo come più hardcore... Tu possa perdere anche magari parte del borsello. Qualcosina, qualche materiale, qualche cosa raccolta. Che tu possa magari recuperarlo. Sarebbe simile a Souls-like, però in realtà... Anche Minecraft, cioè alla fine. Cioè, poter raccogliere quello che perdi. Perché... Le risorse sono preziose. Quindi anche il rigenerarti... O ti fa usare i tuoi pozzini per curarti, anche dopo che sei svenuto. Oppure il denaro per le cure. Vediamo. Io ora... Vedremo. Vedremo un po'. Salvo. Ti avviso. Sto andando. Immagino tu sia Mira. Mi hanno messo al corrente di tutto. L'esame da missioni si svolgerà all'esterno del villaggio. Fai attenzione. Ok. Uh, wow! Non voglio andare alla base dell'Olanda. Vabbè, non credo che sia... Oh, guarda! Elden Ring. Allora... Le mappe non sono piccole. E la prima è la più piccola. Qui ci sono diverse micro regioni, tra l'altro. Sì. Ma non credo sarebbe... Vediamo un po'. Se io faccio... Ok, non serve. Al conto, cosa c'è? Ah, devo... Ok, allora... Vuoi andare? Sì. Noti qualcosa nella mappa? Allora, ora... Ah, ok. Ora me la guardo. Hai fatto il teleport? Eh, ma perché non volevo fare il teleport? Perché a un certo punto ho pensato... Beh, forse non è un teleport. E invece è un teleport. Sì, sì. Dov'è? Va bene, va bene. L'apriamo tra poco. Ma tu puoi uscire dal villaggio, oppure un'altra volta uscito dal villaggio ti si apre la mappa e devi scegliere un teleport e l'open map... È instanced, quindi sì. Ah, è istanziato. Ok, ok. Cioè, questa è la mappa da cui puoi solo tornare al villaggio. Ok, ok, ok. Ok? Ah, quindi è ancora più Monster Hunter. Questo è il campo base. Il punto di partenza delle varie attività di ricerca. Il luogo in cui ci troviamo ora è il campo base. Puoi considerarlo l'ultima oasi sicura. Per superare l'esame devi catturare tre specie di Pokémon. Un Bidoof, uno Starly e uno Shinx. Ti ricordo il tuo obiettivo. Devi catturare questi tre Pokémon. Voglio vedere con i miei occhi se quel che ha raccontato il prof è vero o meno. Qui non dubita. Tutto chiaro? Procediamo. Qualcosa non va? C'è qualcosa che non va? Ecco. Ripensavo a quanto detto mi dà la caposquadra. Che sia chiaro. Se dovesse succedere qualcosa alla ragazza mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. Severa come sempre. Non che in questo caso lei possa rendersi molto utile, prof. La caposquadra Selina è estremamente severa. Detto ciò, professore, non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Ma ma povero! Pover'uomo! Veramente mobbing! Ma non sarà necessario che io faccia nulla. A Mira basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento. All'improvviso sento un gran peso sulle spalle. Prof lo sa che non lavoro bene sotto pressione. Beh, che dire, è un onere non indifferente. Ma stiamo parlando di te, Mira. E sono sicuro che te la caverai alla grande. Poco male, sono convinta che non avrai grosse difficoltà, Saidonia. Diamo inizio all'esame. Ah, attenzione. Cattura Bidouf, il primo Pokémon necessario per superare. Allora, Team Galassia. Ah, ok. Crea. È una specie di banco da lavoro. Ancora non ho materiali né niente. No, ancora sei tutorialissimo. Ok, siamo in super tutorial, va bene. Ma ti prometto che la libertà più totale che tu abbia mai visto in Pokémon è vicina. Dai! Però, prima, devi scusare il professore, voglio farti vedere la mappa. Ah, certo. Ne parlavamo poco fa. Ah, allora. Esatto. La mappa si apre. Meno. Ma con il Pokémon. Ok, è questa. Dove siamo? Allora, noi siamo alla Landa Ossidiana. Attenzione! Ma questo è uno dei laghi, c'è anche l'isola al centro. Esattamente. E se quello è uno dei laghi e c'è l'isola al centro. Riesci a capire più o meno in che punto di Sinnoh ci troviamo? Eh sì, perché allora, in teoria... Guarda che ti avverto, perché altrimenti qui fai... Ti devo avvertire per evitare che tu faccia il Dark Souls 2 con Dark Souls 3. Ok? Ok. Se vuoi speculare sulla somiglianza tra la mappa di Isui e la mappa di Sinnoh fai pure. Ok. Vai. Ok. Ok. Quasi quasi la voglio rimettere accanto allora poi. Perché allora i tre laghi avevano delle strutture per raggiungere le grotte diversi. però comunque questo potrebbe anche essere due foglie. Cioè il lago come era Verità? Potrebbe. Lago Verità, bravissimo. Giubilopoli era vicino. Giubilopoli era vicina e tu mi hai parlato anche di un'isola. Ah, sì, sì, esatto. Noi siamo andati dopo nell'endgame per mare se ti ricordi. Assolutamente. Vicino a sabbia fine. Bravissimo, vicino a sabbia fine che quindi in teoria sarebbe qui. Ci siamo, ci siamo. Esatto. Siamo all'inizio di Sinno. Ok, ok. Anche secondo me siamo lì. Poi verificheremo. Però sì, sono d'accordo con te. Anche secondo me siamo lì, bravo. Guarda come si mette il waypoint all'adio. Ma non si può arrivare subito all'adio. Non avevo dubbio. Il jogo Pokémon. Allora. benvenuta al Colle Ambizione. La Pikachu Face. È vero. Surprise Pikachu Face. Ok. Oh guarda, un Bidouf. Che fortuna. pare, tu sei un genio della cattura, ma per sicurezza lascia che ti spieghi quello che ho imparato dalla caposquadra Selina. L'aspetto più importante della cattura è mirare con cura. Anche se immagino tu lo sappia già. Lascia che ti dia qualche informazione lo stesso. Allora, quando sei vicino a un Pokémon selvatico puoi tenere premuto il pulsante TZL per fissare lo sguardo su di lui. Ciò ti permette di non perdere di Silbersayut aiutandoti a prendere della mira e a schivare gli attacchi. Il lock. Esatto. Bidouf è un Pokémon pacato, quindi in genere non se la dà a gambe quando ti fede. Bidouf è un Pokémon dall'indole pacata per cui non dovrebbe fuggire in tua presenza. Approfittane per prendere bene la mira e lanciare una Pokémon. Non ho dialoghi. Ok. Il tuo era più lungo. Ok. Oh! Che cacchio? Cosa hai veduto? No, forse il lighting pazzo. No, ci sono delle macchie viola super strane su queste rocce. Le ho viste per tutto il gioco e ne ho parlato anche in review. Non so cosa siano. Credo sia il lighting che fa il pazzo. Ci sono solo in alcuni momenti del giorno. Non ci sono di notte. È parecemente il lighting che si rispecchia su... A volte succede con un blu. Con un colore blu raramente. È sbloombite. È la roccia di sbloombo. È la sbloombite. guardalo. E se lo tocco morde? È un bedouf. Che vuoi che fai? Guardalo! Guardalo! Se lo aspetti si avvicina anche. Oh mio Dio! Ehi, piccolo. Guarda come ti osserva. Allora, è un po'. Certo, ragazzi, aspettiamo la pace del... Dove vai? Cosa salti? Cosa salti? Ucciso. L'ho distrutto. Il Dio della cattura! Sei riuscito a catturare Bidouf! Il primo è fatto. Passiamo al prossimo. Sei riuscito a catturare Bidouf? Bene, occupiamoci del prossimo Pokémon. Io qui ti consiglio di andare tra mille virgolette spedito, nel senso è la parte di tutorial. Speravo di guardarmi in giro ma per ora ci sta solo mostrando il trio. Manca poco, manca poco. E con Starly, quelle piccole pesti se la svignano subito. Oh, non ti ho letto il dialogo, perdonami. Ma figurati. Ma niente paura, se ti accovacci nell'erba alta potrei avvicinarti senza che se ne accorgano. Ne parlavamo di questa... È più o meno la stessa cosa quindi non sto neanche a leggertelo perché te lo leggo quando ci sono particolari differenze. Ok, premi il pulsante B per accovacciarti, premilo di nuovo per rialzarti. Accovacciarsi nell'erba alta riduce le probabilità di essere notati dei vogliamo selvatici. Io diciamo che poi dopo ti farò il tutorial del tutorial, ok? Ti spiegherò delle cose serie. Va bene. Però per ora goditi il tutorial del gioco. Assolutamente. Se c'è qualcosa che posso recriminare a questo tutorial e dopo capirete perché facendo la spiegazione che farò a Mike è che ti insegna cose ovvie e non ti insegna a giocare al gioco lo capirai troppo tardi quando avrai già sprecato tre quarti della tua borsa a tirare bolla a caso alla gente. Ma ne parliamo. Oh, ok. Non invecchierà mai sbattergli la palla in faccia comunque. Sì, io cerco di prendere i backstab because you know. non l'ho preso. Quando prendi i backstab lo senti fa proprio Ah, c'è un suono diverso? Sì, quando fai i backstab c'è una scintilla bianca e senti proprio quando colpisce il Pokémon. Ah, ma quindi ha un effetto? Eh sì, ne parliamo. Ah, ok. Oh, quasi dimenticavo devo spiegarti una cosa. Sai, in qualità di tuo mentor. Parliamo di come lanciare le Partner Ball e Pokémon che contengono i tuoi compagni d'avventura. Ecco quello che mi ha insegnato la caposquadra. Per lanciare un Pokémon dopo aver lanciato uno strumento premi X. Se puoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un Pokémon premi sempre X. Ecco qui. Semplice, no? Nel dubbio ricorda. Per cambiare cosa lanciare basta premere X. Ok. Quando sei pronta a lanciare un Pokémon prova a mirare verso piante o rocce. Il Pokémon potrebbe raccogliere bacche e altri strumenti per te. È ora di far entrare in azione il tuo compagno. Coraggio, un ultimo sforzo. Catturano Shinx e chiudiamola qui. Ma prima devo provare a lanciare il... Ma qui ti posso lanciare il Pokémon? Esattamente. Guarda, ti insegno subito una tecnica avanzata se no il professore che c'è a fare qui. Vai! non solo puoi lanciare un Pokémon. Vedi il mio schermo? Sì. Ah. Ok. Puoi millare 47 materiali se lanci bene. Se sei tra tre alberi che hanno bacche uno, due, tre, ok? Li lanci da varie parti. Un'altra cosa che il professore può insegnarti è che puoi lanciarli anche per puro diletto personale. Quindi se li lanci vicini a te i Pokémon si guardano, interagiscono. Alcuni. Bidoof è stupido. Vedi? Rowlet cerca la sua attenzione in questo caso ma Bidoof non se lo caga. Ci sono alcuni Pokémon che hanno davvero delle belle animazioni quando lanciate così. e altri invece che chiaramente essendo meno importanti ne hanno di meno brillanti. Ti chiedo di fare questa cosa quando catturerai un Mr. Mime. La sorpresa sarà importante. Ok, 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 ok. È uno dei più curati Mr. Mime. Bene. Ok. Ecco lo Shinx. Riesci a percepire quanto è aggressivo? Ok, che intendi io? Mi guarda in maniera cattivissima. Niente di complicato in realtà. Basta fissare attentamente un Pokémon per capire la sua indole. Mentre da me siccome le ho dato la risposta positiva mi ha detto sei davvero in gamba. Io devo fissare un Pokémon con attenzione prima di capirne l'indole. I Pokémon aggressivi hanno i nervi fior di pelle e respingono le Pokémon. Oh. Fissando lo sguardo su un Pokémon con il pulsante ZL puoi controllare quanto è facile catturarlo. Più sono le freccine visualizzate più è facile. i Pokémon ostili nei confronti degli esseri umani sono contrassinati da un simbolo a forma di croce. Possono essere catturati solo tramite lotta. Ma non preoccuparti ti spiego subito come risolvere il problema. Carina questa distinzione. Il trucco è lottare con loro. Se lanci contro di loro una Pokémon durante la lotta riuscirei a catturarle. Ti ho appena parlato delle Partner Ball giusto? Bene. Prova a lanciarne una contro il Pokémon che vuoi catturare. Esattamente. Dopo lo scontro con Ethel dovresti aver capito come si lottano. Vai a cattura. Ok. Per iniziare una lotta con un Pokémon selvatico lanciagli contro una Partner Ball ossia una Poké Ball che contiene un Pokémon. se noti che stai per lanciare uno strumento premi il pulsante X per passare alla selezione dei Pokémon. Mi è successo in continuazione perché non ero abituato a questi comandi. Oh arrabbiatissimo eh. Arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo. Ah! Però non ti è contento. Sì in realtà ora non è arrabbiatissimo per niente perché il tutorial ti guarda. Ma c'è qualcosa da dire sulla loro componente action lo faremo più tardi. Ok. Bello. Premendo Y vedrai l'ordine dei turni che per ora è tranquillamente uno alla volta. Esatto. Dopo si complicherà un po'. E quindi è possibile raggiungere come in Final Fantasy X due turni per noi? Bravo. Se pensi a Final Fantasy X pensi giusto. Sì sì ragazzi non sto più leggendo perché come ho detto leggo quando c'è una differenza notevole. Sì. Io l'ho ucciso. No! L'ho detonato. Oh! Hai davvero catturato tre specie di Pokémon? Chi l'avrebbe mai detto? Forza che io lo catturi. Scusa. Non pensavo che volesse veramente una cattura. Vabbè ti tiro una bolla vai posto. Il prof deve essere rimasto a bocca aperta quando una tizia catturata dal cielo si è messa a catturare uno dopo l'altro di Pokémon che gli erano sfuggiti. Finché non ho visto con i miei occhi le tue abilità pure io stentavo a credere alla sua storia. In ogni caso hai catturato tre specie di Pokémon possiamo considerare di superato l'esame. Che avevo detto io? La mia fiducia sulle tue capacità si è rivelata più che fondata. Prego per non ti preoccupare ti raggiungo. Fa, figurati. Mira, congratulazioni. Hai appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Ok. Earthbound questo proprio. Oh, che carina. Devo ammettere che Mira ci sa fare. considerando il talento di Sidonia direi che c'era da aspettarsi un risultato simile. Lei, Luce, crede in me mentre Luca no. È sorpreso. Non ci resta che fare rapporto alla caposquadra Seiga. Orsu, rientriamo al villaggio giubilo. Ci manca una sola missione per finire il tutorial che è una missione che dura 30 secondi. Dopodiché sono davvero curioso di vedere il tuo approccio al gioco. Io sto fremendo per la fine del tutorial perché voglio vedere cosa fai. A un certo punto potrei lasciare al pascolo del villaggio i Pokémon catturati. Quando verrà il momento potrai affidare al pascolo del villaggio i Pokémon che hai catturato. A proposito puoi portare con te un massimo di 6 Pokémon. Vai, vai. Ok. Anche se nessuno ne ha mai catturati così. Fantastico. Quindi è il box non la pensione quella che hai visto. È il PC. È bravo, è il PC. Orsumi e i giovani andiamo a fare rapporto. La mia carriera è salva. Siete stati fantastici. Scommetto che il persino della caposquadra rimarrà salva la vita. È qui stessa cosa più o meno. Allora. Ok, stessi dialoghi. Ok, 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 stessi dialoghi. Andiamo. Arrivo. Stavo facendo le sai doniate. Scommetto che persino la caposquadra rimarrà sbordata. Ho capito, Luca. Oh, guarda un po'. Eh, infatti. Hai visto cosa c'è? Abbiamo... E per caso... Allora, dalla parte c'è il sumo come parlava... Eh, bravo. Il tizio fuori. Probabilmente il direttore è un fan del sumo. Esatto. Questa potrebbe un giorno diventare anche la bacheca delle missioni, chissà. Però non è molto accessibile. Sì, sì, poi ci sono delle pergamene. Esatto. Ah, voglio vedere proprio che dice. Sembra che tu sia scampata una vita allo sbando e una morte, sicuro. Fantastica. Fantastica. Sai, io addirittura Selina l'ho interpretata in questa missione. Sì. Ma questa davvero è una lettura personale. Non la prendete come un è così. Questa è una lettura personale. Magari mi dirai cosa ne pensi e mi direte anche voi cosa ne pensate. Però ho avvertito quasi che Selina nella prima missione quando ti dà l'esame Sì. Non credesse davvero che tu ce l'avresti fatta. No, certo che no. Per smentire l'Aven che peraltro. Cioè del tipo vabbè si sta cazzata che ha trovato tre Pokémon e li ha catturati. Vabbè mandiamolo là fuori ovviamente soccorretelo o soccorretela nel tuo caso se qualcosa va storto ma che cazzo dici l'Aven che ti inventi ora pur di mandare avanti le tue ricerche. esatto non ci credeva secondo me è palese. Le mie congratulazioni sei promossa puoi tenere il borsa sono sollevata ho deciso di sottoporti a un duro esame per via delle tue oscure origini ma tu l'hai superato prendi è la divisa ufficiale della squadra di ricerca Eica ah divisa e calzari vai all'alloggio di ieri e cambiati poi ti dirigiti subito all'ufficio del direttore lo trovi al secondo piano renditi presentabile e porgi i tuoi saluti al direttore questa è la tua prima missione allora figo guardati allo specchio nell'alloggio e adesso la divisa ok ok sappiate che questi vestiti quelli che abbiamo addosso adesso erano sotto NDA quindi non ho potuto registrare nulla di questa prima parte fino a che non mi sono cambiato perché altrimenti vi avrei rivelato che saremmo stati dei viaggiatori temporali quindi tutta questa prima parte era banditissima fantastico già beh certo i Jin Sae Sui eh dai ti sarebbe capito subito perfetto ora puoi uccidere tutti i giga no sbagliato le ucciderò tutte il mio il mio alloggio dovresti avere il waypoint in mappa comunque è il primo del complesso più piccolo di fronte alla sartoria perfetto eh non vedo l'ora di fare fashion leggende allora fashion leggende alti e bassi fashion leggende allora ah perché completa è un completo esatto ci sono i set e poi i singoli vestiti entrambe le cose cosa ho fatto ah ok ero a piedi nudi vogliono vogliono comunque anche i calzari eh mi sa che anche io devo metterlo esatto eh si si ho fallito e i sandali no lenti a contatto sti cazzi vabbè ho fatto in realtà così sto così eccoci qua ok i dini 3d very good oh ma siamo già da tre ore qui si ora che indossi la divisa ufficiale della squadra di ricerca sembri finalmente una dei nostri la divisa ufficiale della squadra di ricerca ti calza a pennello ora che ci penso allora la caposquadra l'aveva già pronta prego questo è carino vuol dire che Serena un po' ci credeva in te vedo che ti sei cambiata d'ora in avanti sei libera di usare quella stanza prendi anche questo io lo tolgo subito ve lo dico assolutamente indecente sto cappello ma anche il tuo è una bandana è orribile agricoltore e ora vai a salutare il direttore si chi è è quello che fa sumo certo certo come è fatto lo scoprirai oh ma c'è qualcos'altro qua bravo esatto ciuchici bisogna darsi da fare per vivere al meglio in questo nuovo mondo questo guarda un po' è di tutto con la bandiera eh sì questa è la squadra che si occupa dell'agricoltura con questa divisa e questo colore mentre quest'altra è quella di vigilanza nessuno sa ancora molto sui pokemon spero che tu riesca a far luce sui loro misteri farci aiutare dai pokemon nei lavori manuali ma lascia stare è impossibile oh design quello è un personaggio molto importante adesso ti raggiungo è un'antenata di Karen super 4 di Joto forse faremmo bene a preparare più alloggi nel caso altra gente dovesse cadere giù dal cielo e c'ha un Eevee conta che Karen è famosa per il suo Umbron quindi è sicuramente un'antenata Amelia è una responsabile della squadra Edile ok poi c'è la scala centrale super importante ci conduce uh ma certo certo mancava solo lui eh 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 sì eh ti aspettavo con ansia che aura il mio nome è Souran Souran sono il direttore del Team Galassia quindi tu sei Mira al suo servizio e allora io rispondo eh ok vedo che sai come comportarti ok ci sono non l'avrei mai detto lo sai durante la recensione ho avuto l'impressione che non cambiasse un cazzo invece no qui dice mi aspetto risposte chiare io mi hanno informato sul tuo conto mi dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio temporale ora vediamo quanto vali affrontami no 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 qui grande scelta tra lanciati all'attacco e vagli addosso io gli vado addosso vabbè io mi lancio all'attacco ma purtroppo non penso che finisca bene guarda guarda PT è l'inizio di PT esatto sei impetuosa devi migliorare nel sumo ma si vede che hai ottime potenzialità molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitata dal cielo i più superstiziosi potranno persino pensare che porti con te delle sciagure tuttavia hai superato l'esame perciò per quanto pizarra tu sia sei la benvenuta qui al villaggio dedica tutta te stessa al team galassia e al completamento del pokédex ma ricorda Mira i pokémon sono creature terrificanti sei sempre prudente anche lui te lo ribadisce esatto persino lui missione di tortisio palese dicono in chat è vero è un tortisiano vero lui assolutamente hai il mouse sullo schermino pare che tu abbia impressionato il direttore sei ufficialmente dei nostri ora sei un membro del team galassia di rango zero stelle va bene hunter rank è schifo esatto si no è l'unter rank esatto è l'unter rank tranquillo è l'unter rank fantastico man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca avanzerai di rango più farai progressi con il completamento del pokédex più aumenterà il tuo rango membro in altre parole la strada verso il completamento del pokédex ti condurrà alla meta suprema e ciò incontrare tutti i pokémon della regione avrai bisogno anche di questa è una ricetta per creare strumenti oh che bello una bacca gigocca e un ciotolo ecco 3000 a poche dollare ti faranno comodo per comprare materiale dai li accettiamo volentieri visto che prima ci augurava di morire adesso ci saranno dei soldi Luca devo dire che è già un upgrade tu sei tu sei esperto nella fabbricazione di strumenti ti assegno il compito di insegnare a Mira tutto ciò che sai in materia agli ordini ti spiegherò tutto ciò che c'è da sapere sulla creazione degli strumenti è qui più o meno la stessa cosa ok ogni membro del team galassia deve arrangiarsi a creare gli strumenti che servono per la ricerca alcuni sono anche acquistabili ad esempio all'emporio ma in generale dobbiamo cercare di essere autosufficienti puoi persino fabbricare le pokémon che ti servono per catturare i pokémon beh bah la pratica è meglio della teoria forza si va alla bottega ok e questo è l'ultimo tutorial ok 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 ottimo importante vediamo un po' non vuole neanche più parlarmi perfetto vediamo un po' che dice il boss oh vedo che c'è della stamina nascosta l'ho spompata si esatto è nascosta ma c'è ok ora non ti parlo a nessuno forse perché devi fare la mission veniamo completamente ignorati vacanza mi presento il mio nome è Sharon mi occupo della sartoria volevo farti i miei complimenti per la tua promozione vengo vengo a consegnarti gli abiti che il professore ha ordinato per te la cosa che mi fa morire di questo pg te l'ho detto prima si è che questo pg in quanto poi a un certo punto nomina dei luoghi non li nomina magicamente più con l'r moscia perché sono richiamati ovviamente dal dialogue text che non è con l'r moscia no guarda ma facci caso oddio il villaggio è vicco di negozi che potrebbero interessarti ti consiglio di darvi un'occhiata a un certo punto tipo fa che ne so ci troviamo nell'acquitrino però c'è la r ehi guarda che la bottega è per di qua vai da Fabrizio perché tanto è il professore della prossima generazione se lo merita questa è la bottega e il banco per il fai da te che vedi lì ti servirà per creare ciò che ti serve chiaro no? il viola il viola colpisce ancora si in questo momento è la giornata sempre sono i materiali per creare le pokeball consideralo un regalo per la tua promozione così potrai usare come meglio preferisci i soldi che la caposquadra ti ha dato qui invece ti consiglia guarda i soldi che ti ha dato la caposquadra invece potresti usarli per comprarti qualche abito ti dà il consiglio dell'abito ecco io volevo fare proprio questo dai un'occhiata alle ricette per controllare i materiali necessari per iniziare a creare basta che tu sceglie lo strumento desiderato al banco per il fai da te fai una prova ok utilizzando il banco per il fai da te che puoi trovare al villaggio giubilo nei campi base potrai creare pokeball e altri strumenti per creare strumenti avrai bisogno di ricette e materiali ok creare pure tutte fatte e ovviamente vietato comprarsi gli strumenti perché è uno spreco di soldi sicuro infatti era sicuro wonderful una pokeball perfetta per essere la tua prima creazione te la sei chiamata benissimo come ti ho probabilmente accennato i pokemon hanno l'affascinante capacità di rimpicciolirsi e la pokeball è appositamente pensata per trarre vantaggio da questa loro caratteristica ancora una volta quel reference al 1996 inoltre per registrare tutti i pokemon che catturerai ti servirà un pokedex quindi eccolo vediamo un po' com'è libricino che raccoglie gli esiti delle ricerche sui pokemon ogni volta che vengono avvistate nuove creature il professor laven aggiunge nuove pagine incarichi uh mamma mia ora ce lo studiamo è il tutorial del professore ok ok peccato peccato che non hanno fatto come i monster c'è al posto di avere il render in tinta grigia il disegno un disegno esatto è vero è vero sarebbe stata una bella idea non ci avevo pensato è vero hai ragione ok esco per ora si si lo ho preparato apposta per te spero che ti sarà utile nel tuo grande obiettivo per completare il pokedex dovrai anche portare a terry negli incarichi e lo stesso vale per me sarà meglio che mi dia da fare stessa cosa qui più o meno mira ora ti spiegherò i particolari degli incarichi di pokedex ma per farlo dovremo spostarci alla base della landa andiamo ok senti non per origliare ma ho sentito che state andando alla base della landa visto che ci sei magari potresti occuparti di una mia richiesta attenzione io sono un vigilante e non posso allontanarmi dal posto di guardia allora ti aspetto qui davanti alla sede del team galassi intesi se una persona necessita del tuo aiuto sopra la sua testa comparirà l'icona delle richieste soddisfacendo le richieste potrai ricevere utili ricompense ok tu conosci un pokemon chiamato google mai sentito è molto interessante quel che dice il professor laverna qui per esempio io ho detto esatto la cosa opposta ma è uguale a quanto pare se i pokemon accumulano esperienza lottando possono cambiare aspetto e diventare più forti questo fenomeno è chiamato evoluzione porca miseria guarda chi c'è esatto porca vacca è joel è cattivissimo è stupendo mamma mia alcuni pokemon possono evolversi cambiando aspetto e statistiche quando uno dei tuoi pokemon soddisfa i requisiti necessari puoi selezionare e fai evolvere ok questa è una cosa importantissima e nuova si adesso i pokemon non si evolvono da soli soddisfatte le condizioni per l'evoluzione sei tu a scegliere quando si evolvono questo ovviamente ti permette di fillare tutto il loro moveset prima di evolverli senza dover premere B di continuo esatto ogni volta che livellano ok niente male ti ci abituerai è una quality of life che non deve più abbandonare il gioco per me tu fai parte della squadra di ricerca no? se per caso riuscissi a catturarne uno ti dispiacerebbe darlo a me conto su di te ho preparato anche una bella ricompensa oh ok 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 benissimo oh bravo prendi tutto il ricercame hey tu sei la giovane caduta dal cielo dico bene stai uscendo dal villaggio giubilo voi della squadra di ricerca state compilando il pokédex visto che ci sei potresti trovare informazioni su starly i pokémon sono creature spaventose però quando vedo uno starly sento come su una sensazione di serenità oh ma mi guardo bene da toccarlo ovviamente se completi la pagina del pokédex di starly vieni a mostrarmela completi ti spiegherò ti spiegherò a breve non preoccuparti però vedi diciamo già adesso possiamo notare due cose che da una parte i studi di laven sono delle dicerie il tizio della squadra di vigilanza non si fida del fatto che i pokémon possano davvero evolversi non si crede davvero vuole vederlo con i suoi occhi lei ha sentito dire che starly è carino e coccoloso forse dai disegni del professor laven perché le foto sono molto più rare e vorrebbe che tu glielo descrivessi completando la pagina del pokédex ma ha timore di vederlo di persona si esatto ma giovanotto che ne diresti di fare una bella foto ricordo con il tuo pokémon vieni a dare un'occhiata io ho fatto l'altra quest perdonami ma poi devo farlo farlo anche io adesso lo faccio ok perfetto se non sbaglio gli shinks hanno degli strani segni sulle orecchie ma come erano fatti esattamente niente da fare non me lo ricordo e ora come faccio a togliermi la curiosità mamma mia first world problem Toshi tu fai parte della squadra di ricerca no? se riesci a catturare uno shinks mostramelo voglio vedere quei segni con i miei occhi non riesco a ricordarmi come sono fatti i segni sulle orecchie degli shinks manco io ok bene tiriamo un po' qui dentro che c'è io sono un fotografo professionista immortalo le persone e i loro pokemon vuoi che ti faccio una foto ricordo no tornerò qui dopo le 12 ore ma bravissimo io l'ho esplorata questa cosa ma è la solita modalità fotografica di pokemon ecco niente di speciale né di lore wise ovviamente si si chiama focusio focusio si si chiama focusio perché fa il focus bravo ragazzo bene ce ne andiamo vai base della landa bene adesso parte a breve il tutorial anche il caricamento cambia sai si il caricamento cambia anche per aria no parlo del fatto che ho la ragazza io ah beh certo giusto ora veniamo a noi per completare il pokédex dovrai portare a termine determinati incarichi certo ah gli incarichi pokédex sono delle ricerche necessarie per completarlo numero e contenuto cambiano a seconda della specie di pokemon quindi ricorda sempre di premere il pulsante giù per aprire il pokédex e controllare gli incarichi disponibili usa il pulsante ZL per fissare lo sguardo su un pokemon e premi il pulsante giù per aprire la sua pagina del pokédex e verificarne subito gli incarichi alcuni sono un po' insoliti quindi assicurati di controllarli e di controllarli sempre va bene dovrai catturare i pokemon affrontarli in lotta e altro ancora portando a termine gli incarichi ottieni dei punti analisi mira ho un consiglio importante da darti è molto probabile che i pokemon selvatici ti attacchino in tal caso sfrutta la schivata ecco il momento sabaku esatto esatto ma tu hai anche delle domande una seconda opzione diversa che cosa dice la tua scusa puoi ripetere ok io c'ho è vediamo vado alle ciance osserva e bene impara osserva bene i movimenti e prova a copiarli pronti via ah rollatina vet lei esatto è vet vera quella che appena visto è un roll con un roll tempestivo potrei evitare le mosse di pokemon grazie agli iframe sono abbastanza potenti da standard se ti colpiscono ripetutamente è quello che è successo a me con shinx e il suo tuono shock poi la squadra di vigilanza è dovuta venire a raccattarmi ma niente paura ci sono io a insegnarti tutto ciò di cui avrai bisogno solo o non sono il tuo metal in fonda io sono il tuo metal esatto siamo in fat roll ragazzi prova un po' il roll ha un end lag quindi abituatici subito con y ok lo vedi lo senti l'end lag oh mamma mia e adesso te ne fregherai il cazzo quando le lotte si faranno un po' più complicate dovrai rollare bene ma è un bene che virgoletto perché questo end lag non so quanto sia design e quanto invece sia semplicemente una cosa che infastidisce il comparto action davvero questo non lo so non lo possiamo sapere il fatto sta che c'è un end lag guardate faccio vedere in live da me per mostrare cosa intendo dire avete visto è abbastanza vedete l'animazione dura molto ora vado dall'altra parte rispetto a dove sto rollando visto tocca alzare adaptabilità in realtà gli iframe sono abbastanza non è un problema di iframe è un problema del fatto che se io devo rollare e poi andare via quindi fare roll back ok ci vuole un po' si roll e indietro ci vuole un po' vedi lo sta facendo anche Sabaco adesso guardate ragazzi roll e indietro ci metti un po' deve finire tutta l'animazione e la rollata si e te ne devi andare in certi momenti secondo me sarà non dico pesante ma dovrai tenerlo di conto cioè devi giocare pensando se io voglio rollare e poi andare via devo metterci questi secondi allora allora il mondo è tuo in realtà qui nel senso che puoi seguire lui adesso o elevarti dal cazzo oppure non farlo perché se non vai da lui puoi fare il cazzo che vuoi adesso non ti ferma più nessuno appena trovi un pokemon io seguirò esattamente i tuoi passi adesso ah ok sì 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 assolutamente appena trovi un pokemon ci facciamo due chiacchiere va bene? allora me ne approfitto adesso per ordinare dei panini per cena vai pure ma tu puoi vedere il mio schermo? puoi mettermi full screen? io ti posso assolutamente mettere full screen e allora se tu ordini io ti faccio vedere faccio vedere anche ai ragazzi da te delle cose ma fallo così intanto io ti seguo allora togli il mio schermino un attimo come no? tolto perché devo usare quello per ordinare allora ah ok e intanto ti metto aspetta eh ti sto per mettere full screen aspetta che voglio fare anche una cosina carina rendendo più visibile il tuo rispetto al mio questo è un discorso importante che rivolgo a tutti coloro che stanno giocando a questo gioco perché è un gioco che ha un obiettivo e avendolo finito so che se non si segue da subito l'obiettivo dopo ci si trova male ora capirete che cosa voglio dire guarda in maniera anche molto chiara ti posso dire è il classico meccanismo se solo lo avessi saputo all'inizio ma guarda conoscendo te tu te ne renderesti conto tra qualche ora ok vai dimmi tutto magari qualcuno invece meno avvezzo ai videogiochi in generale soprattutto il pubblico pokemon che non videogioca sempre anche altro voglio accompagnarlo verso questo processo ok allora adesso andiamo a cercare credo uno shinks in teoria dovrebbe essere qui vicino ok e infatti sono lì gli shinks ok ora noi possiamo approcciarci a questo gioco in due modi lanciando palle a tutto quello che vediamo oppure facendolo con criterio se lanciamo palle a tutto quello che vediamo adesso ci prende anche abbastanza bene nella seconda mappa andiamo in shortage di risorse nella terza mappa dobbiamo grindare 50 minuti i materiali perché abbiamo finito tutto il gioco non è disegnato per farti tirare palle a tutto quello che si muove ma per farti tirare palle solamente a quello che ti serve facciamolo però non con gli shinks perché altrimenti mi attaccano e la cosa diventa più complessa voglio un pokemon bello fermo che non rompe i coglioni ecco un vorme play ok allora quando locchi il pokemon quando vai a loccare il pokemon c'è la mira premendo il tasto giù si aprono gli incarichi del pokédex ok si in questo caso abbiamo esemplari catturati esemplari leggeri catturati catturati senza farti notare sconfitti volte che l'hai visto usare peleno spina e vale sia se ce l'hai contro il pokemon sia se lo stai utilizzando tu volte che l'hai fatta evolvere punto numero uno gli esemplari catturati e le volte che l'hai fatta evolvere hanno delle freccette in su significa che aumentano più delle altre voci il livello di analisi che vedete in basso a destra il livello di analisi che vedete in basso a destra va da 0 a 10 una volta raggiunto il livello 10 il pokemon sblocca la sua descrizione il vostro obiettivo è tendenzialmente nel gioco sbloccare per quanti più pokemon possibili il livello 10 ma se anche non sbloccate il livello 10 vi basterà fare un po' di leveling per pokemon per passare tranquillamente alle fasi successive senza dover grindare nulla questo se andate nella direzione della corrente del game design che vuole che voi facciate quante più voci possibili del pokédex con meno azioni possibili mi spiego quindi bisogna seguire gli eventi con le freccine alto non solo esemplari catturati e catturati senza farti notare se io adesso tiro una palla su questo worm play davanti alla sua faccia faccio solamente un esemplare catturato che vale molto ma è meno che avere entrambe le qualità bravissimo esattamente quindi io lo guardo e dico aspetta il gioco vuole che io lo catturi di spalle in modo tale che faccio due voci insieme ok giocando così si fullano i pokemon in tre azioni a pokemon il resto è to your heart's content ok se ovviamente invece andiamo a caso faremo gli stessi obiettivi sicuramente si ma ne tireremo 30 esatto a parte che è più sporco e meno divertente ma a un certo punto dovremo comprare le ball perché non ce le abbiamo più oppure dobbiamo metterci lì e dire michele ok adesso andiamo da questo giacimento minerario pu 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 ok abbiamo abbastanza robe per fare le pokeball bene le andiamo a fare quindi cerchiamo il concetto è sempre di fare le azioni nel minor tempo possibile nella blind run vedrei ah prego prego no questa cosa perlomeno sulla carta per ora è un'ottima notizia perché ti permette di combattere la monotonia assolutamente cioè allora se tu tiri le palle a tutti chiaramente bella lì però non è cioè come dire allora andiamo su xenoblade e farmiamo i cinghiali finché non siamo livello 80 capisci che intendo dire cioè e in questo caso lui te lo dice però siccome non te lo dice come tutti gli altri concetti pokemon per nove volte può sfuggire io ci ho messo metà di questa mappa per capire questa cosa che dovevo guardare prima le cose addirittura a volte ti dice cattura per esempio due forme di questo pokemon intese come maschio o femmina bravissimo quindi magari dovresti guardare di che sesso è lo puoi vedere guarda in basso a sinistra vormplay livello 4 maschio quindi ah si 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 catturato questo registro se dovessi trovare trovo due forme mi servono due forme la prossima è la femmina ok allora ci sono 25 catture servono per il platino ragazzi come? qualcuno dice allora perché ci sono 25 catture da fare è il platino non serve a niente il platino credetemi ho finito il gioco non serve a un cazzo il platino il platino è ho finito tutto il gioco ma voglio ancora passare ore su leggende pokemon arceus andiamo a mio avviso non lo farete una volta finito il gioco questo è un gioco prettamente single player si chiude e lo si ricorda nel bene e nel male quindi per la campagna principale non serve per le altre cose che non sto spoilerando quindi per favore chat fare il completismo non è necessario ne stiamo parlando qui di campagna principale ok e adesso questo vurmple mi ha visto quindi ha rovinato tutto quanto il tutorial il bastardo ma non mi vedrà franco quindi adesso andremo si quale porro ah stai giocando perdonami si si sono tornato sono tornato oh fantastico beh siamo nello stesso punto penso cioè si ho fatto un po' un giro scemo perché sono ingestibile allora eh penso che questo mi veda secondo me era girato di faccia mannaggia esemplari sconfitti vediamo eh stai guardando cos'è shinks si no ok non mi ha visto non mi ha visto fantastico volte che l'hai visto una volta che l'hai sconfitto con mostri tipo terra volta che l'hai visto usare attacco rapido visto usare morso questo è shinks si l'hai fatto evolvere chiaramente qui tu mosse di tipo terra non le hai però se tu lo sconfiggessi con una mossa di tipo terra vale sia la sconfitta che la sconfitta di tipo terra esatto quindi fai due in uno forte ah tu stai combattendo per forza shinks devo farlo per forza non posso non combatterlo o almeno così mi ha insegnato il gioco ma io credo che cioè il gioco mi ha detto shinks ah dovevo controllare se aveva la x sopra in realtà non ho controllato se aveva la x sopra se era aggressivo io qui ho fatto una cosa un po' pazzerella ma mi ha visto ok ho visto anche attacco rapido aveva due turni eh eh allora ora ti posso spiegare anche questa cosa i turni non dipendono solamente dalla tua velocità ma come in temtem non so se l'hai giocato anche dalla velocità intrinseca delle mosse ok in questo gioco le mosse hanno una loro velocità interna solitamente è inversamente proporzionale alla potenza della mossa ah si è toccata meno è potente la mossa più è veloce o com'è è toccata di final fantasy 10 io attacco rapido si bravo bravissimo bravissimo ok ok figo no vurm play proprio no però ok ok io uno l'ho catturato ragazzi l'altro lo brutalizzerò sinceramente chiunque sia veterano si è già reso conto di qualcosa ma aspetterò a dirlo va bene va bene io qua sono decisamente lontano dal voler andare avanti di trama porca miseria molto lontano allora spoiler della mia blind run per modo di dire non lo spoilerò a nessuno ho finito tutta la mappa prima di andare avanti con la quest in realtà non questa quella dopo ma perché ero interessato a vedere certe cose mettiamola così scherzi hai per caso raccolto delle bacche delle bacche si ma il piccone servirà un piccone forse hai dei pokemon ragazzone anche per questo oh yes esatto è come se fosse un albero esattamente allora però mi chiedo il mio pokemon dimmi tutto ah ok è rimasto ferito ok giustamente si puoi e devi curarti vediamo un po' cosa mi serve qui una cattura variazioni di forme accertate una cattore guarda un po' uno shins che dorme quando dormono mettiti 4-4 oh no è uscito vaffanculo mettiti 4-4 si ah c'è la cattura confermata vedi che verde si e allora vai catturalo direttamente non passare per il pokemon quando dormono sono docili si 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 uno tre ah più volte lo vedi più sale il punteggio il l'attacco no parlo dei punteggi del mini quest vedi io volte che l'hai visto usare l'attacco rapido 1 3 6 12 25 esatto e vale anche se lo usi tu una volta catturato capito se tu hai catturato shins e usi attacco rapido ti livella quindi in teoria tu prendi anche i tuoi pokemon e una volta catturati li fai livellare per esempio io adesso sto facendo livellare lo starter che mi farà 15 fogliame se apri il pokédex con il tasto giù vedrai anche cosa deve fare il tuo starter ma certo carina questa cosa e potresti renderti conto di una cosa prova a aprire il pokédex dimmi se ti rendi conto di qualcosa di pazzo apri il pokédex guarda il tuo starter qual è il pokédex giù tasto giù ah giusto ok perfetto allora vai vai su il tuo starter ecco guarda un po' le missioni che ti dà esemplari catturati volte che l'hai visto usare bracere attacco rapido ruota fuoco ruota fuoco noti qualcosa che scende si si l'ho notato cosa noti di strano c'è soltanto un livello per l'evoluzione ah no 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 ok questo in realtà no ok scusa la cosa pazza è esemplari catturati che puoi trovare gli starter in giro beh può essere visto che c'è esemplari catturati ok strano no ok 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 tutto qua in effetti io ci ho subito pensato quando l'ho visto e tu come nice ok allora guarda anche aprendo la mappa si puoi vedere con meno di tutorial piallo puoi vedere che ci sono le zone tratteggiate che non hai ancora visitato e quelle invece non tratteggiate che in teoria hai già più o meno visto ok quelle il tratteggio è ovunque però alcune cioè ci sono quelle opache e quelle ancora esatto tipo fog of war leggera il tratteggio ti fa vedere qual è la quante grande qual è l'ampiezza dell'area ancora non visitata capito ed è opaca perché ancora non l'hai visitata in realtà quando hai finito la mappa non ci sono più tratteggi capito ah ok quindi io posso provare a fare questa cosa cosa vuoi fare lanciare uno shinks contro uno shinks è godere dei punti pokédex bravo esatto esattamente lanciare uno shinks contro uno shinks non è un'idea stupida un'idea stupida è questa cosa è roba da vet addirittura puoi farlo è successo anche a te no ok ok no no wow doppio a sfida però dimmi questa è una cosa importante che ti chiedo l'obiettivo è arrivare al livello 10 delle sfide però sì per arrivare al livello 10 devi riempire tutti i no assolutamente no ecco perché altrimenti magari non mi metto a catturare troppi shinks perché magari spreco pokéball assolutamente quando allora conta che le freccette in su valgono almeno due quindi puoi farti i conti adesso quando esci dalla battaglia ti facciamo ok ok allora però vediamo che succede se sconfiglio un pokémon si guarda intorno sì i selvatici della prima area sono clementi con te ok che bello nuova boss allora la gestione delle mosse ne parliamo più tardi quando sei bravissimo apri il pokédex ecco vedi che qui hai quante voci riempite quelli sono probabilmente due quattro sei otto punti perché stai facendo due con le freccette rosse quindi due quattro sei e uno con quelle non rosse capito addirittura ma quindi scusa con questo dovrei essere molto oltre i dieci vai a provare torna al professore fattici un po' l'occhio quindi tu devi non ti si aggiorna in tempo reale no devi andare dal prof io tipo shinx l'ho finito 47 volte quindi una volta che tu hai fatto shinx basta basta esatto il gioco è questo ed è ottimo il gioco è questo ok andiamo via professore lo trovo qui nel campamento credo no o devo tornare nel campo base no 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 nel campo base oh no c'è il rivale no no non voglio fasare la questa anche se in realtà ci converrebbe così almeno ce lo togliamo dai coglioni non abbiamo questa barriera del cazzo ah no mi dici di tornare a giubilo purtroppo è antipatico forse perché dobbiamo andare avanti di drama eh mi sa di si ma faccia senti lo faccio lo faccio non è normale che ti dica sta roba si è vai avanti facciamolo obbedisco al game design se almeno smettere contro voglia cazzo eccoti un precetto della squadra di ricerca mentre fissi un pokemon tenendo premuto il potente sì sì ormai il vero professore mi ha già spiegato tra gli incarichi pokédex relativi a bidouf puoi vedere il numero di esemplari catturati esatto non basta catturarne uno solo ma due quattro forse anche di più perché sei scarso ma sì infatti quando sarà ora di lottare ricorda gli insegnamenti della caposquadra selina sel sel premendo x potrai scegliere se lanciare una pokemon che contiene un pokemon o se lanciare invece uno strumento che aspetti a provare beh gli strumenti devo testarli un po' io vado a seguire di nuovo lui sì 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 vai vai o magari cattura bidouf intanto che c'è lei qui ah beh siamo qua bidouf in effetti vi dai un po' cosa mi chiede già che siamo qua cecchiamo esemplari catturati esemplari pesanti catturati ah siamo tornati alle dimensioni al peso si vede cioè se tu ne hai due accanto e uno più grosso dell'altro è palesemente più pesante esemplari sconfitti esemplari sconfitti quasi quasi essendo bidouf a me mi dispiace tanto per lui per esempio vedi io ho variazioni di forme accertate uno di due ma non ho visto di che sesso era il primo che ho catturato sono stato poco attento durante il tutorial che forse è meglio catturarne due no non di sicuro questo lo sconfigo io dovrei poter vedere è un maschio quindi questo non lo catturo ti metto a destra così vedo anche le mie quest allora very good oh no fortissimo questo oh no ehm si scottato sì sì per ora almeno si livella molto in fredda sì sì è vero ora mi serve un bidouf maschio secondo voi oppure no copriremo presto sì catturato due fredda eh vabbè comunque questa cosa che ti sto facendo fare ti risolve anche il problema di avere i box pieni di merda esatto no è quello che io ero proprio contro quello non volevo che accadesse ma tra l'altro non solo aggiungo in una mappa te ne vai quando hai più o meno hanno finito tutti quanti i pokemon non ti dico di fare il 10 con tutti ma il concetto è che d'ora in poi gli shinks li guardi e vai avanti sei d'accordo tanto ormai hai fatto il livello di hai fanculo e come si cambia pokemon in combat nel senso io posso guarda R esatto e ZR per selezionare e se ne metto uno l'altro se ne va certo sì assolutamente tu non puoi usare due pokemon in questo gioco ok perfetto devo parlarti di un difetto del gioco già adesso però perché è importante mi stai parlando di switch e quindi lo faccio vai quando ci sono gli switch non chiedermi per quale motivo non è possibile comprendere se mantieni il tuo turno oppure no farei degli switch e sarai in grado di attaccare subito dopo farei degli switch e ti prenderai l'attacco dell'avversario chiaramente c'è la vita e la morte di mezzo tra queste cose a volte quindi non so perché non abbiano messo la previsione di cosa succede se c'è il tuo switch in sostanza questo gioco per cercare di spiegarti in termini proprio gamer cosa succede accumula turni in base a vari valori uno di questi è la velocità ok immaginati che la velocità carichi una barra di completamento di un'azione a seconda della velocità del pokemon entrante la barra è caricata o no però non te lo fa vedere mentre te lo fa vedere con le mosse con le mosse ti fa la preview ora quella barra di cui parli è il colore che riempie il turno in final fantasy 10 è bravi per quello pensavo una barra pensavo proprio a quello infatti non capisco perché non l'abbiano messa cioè la barra serviva piuttosto che lo scontrino delle abilità cioè dell'ordine dei turni bastava la barra io ho otto azioni una volta spese toccherà per forza l'altro mi fai vedere anche le azioni accumulate dall'altro e capisco assolutamente come andrà a finire esatto esatto quindi ma è fichissima sta cosa degli incarichi sì che sommi aumenta mano a mano che lo fai è sempre più matematica è molto chill l'ho trovato molto chill questo gioco da questo punto di vista nel senso che ti metti lì ti fai le tue robe ti fai le tue quest e adesso vabbè sono starly bidu quindi li hai già visti però l'effetto sorpresa di quando c'è una colonia di quei pokemon ok finiamola quello è stato la mia attività preferita però ho un bidu che mi è scomparso sarà scomparso perché è scappato forse l'ho spaventato che cos'è massimo eh sì l'hai spaventato probabilmente poveri ah scappano anche in combat scappano anche in combat a meno che tu non cominci il combat di spalle nel qual caso loro si stunnano a me serve femmina tu sei femmina per caso no ma bellissimo il completismo così hai delle bacche? ne ho parecchie di bacche o a lanciarle accanto a un pokemon oh guarda pokemon snap mi sei mancato è pokemon snap ma è palesemente preso da pokemon snap che bello ma assolutamente è tristissimo ah no è fuggito forse perché non l'ho colpito con il pokemon non l'hai colpito con il pokemon forse da dietro come ti dicevo quindi devo colpirlo con il pokemon da dietro ok esattamente no no dobbiamo fare le cose con calma qui un pokemon abbiamo fatto quello che voleva sto bastardo no dobbiamo ancora darmi dei consigli solo che c'erano i biduffo allora io stavo cercando di essere efficace no giusto per avere poi la conversione missioni punti così hai tutto quello che ti serve esatto e andiamo a esplorare dove vuoi tu adesso cerco di gestirmi questi starly ah sono tre adesso t'ammazzo t'ammazzo e mi faccio anche qualche attacco rapido di shinx magari ma shinx l'ho finito sti cazzi no hai colto starly di sorpresa bravissimo ci sei riuscito bravo ah sono belli delle in azione le animazioni di combat miglioreranno sempre di più più gli attacchi si complicano più saranno fighe ma porca troia è tutto inutile very good è così quando incontri i pokemon nell'erba è un panico perché l'erba è troppo alta e non li vedi si ho visto succedere cose anche brutte a quell'erba alta ci credo sono successe anche da te ok no è che sono dinanzi a un albero viola sai dove c'è e anche una terra viola si è tutto viola è come se fossero fatti di metallo dove stai proseguendo voglio io sono praticamente guardi apri pure la mappa così vedo bravissimo dove sei diretto sono vicino comunque al nostro caro amico fantastico gli sto girando intorno arrivo scendo da te non voglio comunque andare avanti ma stavo cercando di togliermi lo sfizio di concludere il pokédex per lo meno a calcolo mentale di starli visto che ho fatto scappare tutti i pituf ok ok ho capito dove sei ok non ho modo di far risorgere il mio amico però posso curare Rowlet oh no non l'ho colto di sorpresa starli allerta io non lo stortirò con la paura delle botte guarda scappa stornisci con la paura delle botte molto clemente qui le creatorie però ho visto una cosa anche i pokémon normalissimi mi stavano togliendo una quantità di hp a sindaco e l'impressionante bravo e ti ricordi che prima ho detto i veterani si saranno subito resi conto di vaffanculo a biduf scusate mi è uscito un biduf da una pokeball come se penso sia l'unico al mondo a essere uscito da una pokeball ok no aspetta 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 no mi serviva femmina fammi capire si dimmi tutto i bolli non sono il punteggio che aumenta no il numero delle volte che hai fatto quella cosa ok e quindi i bolli illuminati sono completati contano uno normalmente e due con le frecce in alto bravissimo ho capito quindi arrivare a dieci è meno immediato però è ok ok in realtà in realtà alcuni ho avuto la sensazione che continuo anche più di due però ho esplorato ancora troppo poco in una run per dirvi sì è così no certo ok ma dormiva pensavo che sarebbe stato cogliere la sorpresa da dare una pokeball in faccia e com'è il respawn dei pokemon perché sono scappati ma mica sono tornati rispondono quando ricarichi la mappa e diciamo che le spawn table cambieranno nel corso della run ok si aggiungerà roba e allora adesso vado a fare ok andiamo da franco esatto perché devo assolutamente riprendermi i miei starly e fare le cose per bene qua sto arrivando da te non preoccuparti ti ripeto il precetto della squadra di ricerca mentre fissi un pokemon tenendo premuto il pulsante premi il pulsante giù e aprirà ho capito luca e non ci sono più ma tu sei ancora gli starly ok 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 io ho già fatto starly ok 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 tiragli un coppino ma tanto in realtà non devi fare niente cioè lei ti dice semplicemente o lui ti dice semplicemente fai gli incarichi di questo pokemon ma li stavi già facendo quindi controlla un po' a che punto sei ma non è che devi farlo per forza adesso capito c'è un po' di lavoro da fare perché ora se ne abbatto uno prenderò un bollino e poi li comincio a catturare aria di spalle preso l'altro è scappato evaporando se dei pokemon hanno delle 4x solitamente colpirli con la 4x è una missione ok ah si è nel caso di due perri invece devi beccare a caso una delle super efficace ma basta che apri il pokédex no beh certo carina però questa cosa è un ottimo modo di insegnare si vero ok quindi dovevo anche controllare i shinks perché ero convinto di aver fatto 10 quando in realtà stavo calcolando erroneamente adesso vediamo un po' e dai mira no vabbè oddio quindi 4x 5x 6x 7x 8x ah no no questi ho 10 sicuri io eri brutto addio shinks no no anch'io io sto picchiando un bidouf malissimo per i miei sporchi affari non morire allora sei in combat no no ora no ok questo lo catturo voglio farti notare una cosa perché mi hai prima fatto un commento e non voglio che passi inosservato ok tu prima mi hai detto minchia anche se a livello 2 mi ha fatto un botto di danno si ok di ora facciamo un attimo apri pure il mio schermo guarda il mio schermo quando puoi allora lo ingrandisco subito ti faccio vedere una cosa vai questo è il mio Wurmple è a livello 6 ha 28 di difesa e 29 di difesa speciale questo è il mio schinks a livello 8 ha 29 di difesa e 31 di difesa speciale hanno praticamente la stessa difesa cavolo questo è un altro schinks di livello 8 29-29 questo è uno starly di livello 8 26-26 questo è un biduf di livello 7 36-35 in generale narrandosi da professore qualcosa che invece ho dovuto scoprire in decine e decine di ore di gioco facendo dei test livellare in questo gioco è molto meno impattante in un senso o nell'altro ci sono altri strumenti che servono per tirare su le statistiche in maniera significativa ma li troveremo più in là il leveling ha un'altra funzione qui imparare le mosse ed evolvere per cambiare le tue base stats certo in bulk ma il singolo upgrade che prendi di livello in livello non è più quello di un tempo quindi pokemon di livello 3 ti bisciottano tu bisciotti non è vero ma quasi pokemon di livello 16 ok per ora ti basti questo poi il professore ti parlerà di altro molto interessante sappi che questo mondo è diverso approcciati in maniera diversa a questo mondo rispetto a come magari hai fatto finora finora pokemon livello 9 io 16 l'avversario via 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 ora no certo allo stesso modo però tu guardi il livello 4 e fai oh 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 coglione no capito ti dicevi scusami no no è qualcosa che ti permette di pensare diversamente alla difficoltà guarda tu hai ancora il mio schermo ma c'è sempre il tuo schermo ok guarda io sto andando da un bisiel ok che è un livello 2 gli farò attacco rapido in qualsiasi gioco pokemon anche con un attacco rapido un livello 8 sciotta un livello 2 ok non sono sicuro che questo accadrà io ho fatto neanche metà vita hai capito chiaro ok questo è leggende pokemon archeus e ora qui siamo nella prima area al primo metro quindi sti cazzi è un bisiel livello 2 immaginati quando sei contro un selvatico al 40 e ha un moveset buono cosa significa questa cosa ok aiuto cominciamo a entrare ora ancora è soft è l'introduzione però ti voglio mettere nel giusto mindset ma è un mindset video ludicamente ottimo carino vedi pieno di input volevo mostrarti sta cosa non ho visto che cazzo bisogna fare con bisel ora lo catturo ma non l'ho visto credo che presto ragazzi online arriveranno le varie curve di livello ci spiegheranno bene certo che cosa sta succedendo perfetto ma il sistema di gioco è una menzogna ne ho trovato i due che dormivano sono scappati immediatamente dalle pokeball e erano vurmple guarda ti ho detto prima un biduff è andato via eh lo so ragazzi abbiamo visto una cosa ma aspetto che lo faccia il ragazzone è la sua blind run è la nostra veteran quindi io sto inseguendo i vermi scusate no 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 al tuo ritmo non esiste ok al tuo ritmo io l'ho già giocato al mio ritmo e ci faranno sapete quante puntate sono della blind run più di 70 quindi preparatevi al mio ritmo l'ho fatto ora tocca a te io sono qui per te e per voi io ho ancora il ragazzo che mi aspetta qua Luca adesso arrivo ok quasi fatto ne manca ok avversari farsi notare due su due perfetto io però non sono neanche dato troppa letta alla mappa sto proprio dicendo ok sempre cattolati a sto punto tanto quando vai dal Luca poi riuscirai a capire te l'ho detto la conversione esatta professore incarichi usa veleno spina forza io vorrei brutalizzare dei biduf usa veleno spina non guardarti attorno usa veleno spina va bene vorrei usarlo io al posto tuo e immagino che dimmi io possa accedere al box da qui forse no magari infatti dalla base regressione se sei lontano dalla base non puoi cavolo quindi finché sei vicino a un checkpoint bella fai quello che vuoi se sei lontano purtroppo no ok 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 va bene va bene stavo pianificando il numero perfetto di azioni per ottenere il massimo numero di bolli possibile bravissimo e come si gioca that's how you do it ok e ora andiamo da Luca dai vediamo benissimo bravo qui nei paraggi dovresti trovare un pokemon chiamato buizel va bene va bene lotteremo in realtà se continui a subire danni entrerai in stato di pericolo i bordi dello schermo diventeranno rossi recupererai salute col passare del tempo a meno che un pokemon selvatico non ti stia prendendo di mira perderai sensi ok mi chiedono di chiederti quanti sono gli episodi di ds2 includendo il new game plus sono qualcosa come 180 vabbè ci sta cazzo enorme quel gioco e dark souls 2 è infinito uno degli incarichi podcast di buizel è che devi osservarlo mentre fa una mossa specifica il che significa che dovrei affrontarlo è chiaro va bene è addormentato piccolo muori cucciolo ecco queste sono le brutture dell'erba che vi dicevo quando sono nell'erba non si vedono che però è inevitabile perché come fai a evitarlo si può notare no non si può notare non si può notare no eh sì sì been there my friend ma non c'è neanche una barra della stamina no 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 ma semplicemente torna indietro cioè non c'è un modo in cui puoi farlo capito no ok catturati taglia grossa eh l'ho volevo fare con mostri tipo elettro ma c'è uno schinx che mi sembra che è un po' scarso guardati attorno ah non ce l'ho tu uno shock grande non usare attacco rapido tu sai che attacchi che dico io anche perché ora che ti catturo o no o no avrei dovuto catturarlo no non è vero sconfiggilo col attacco elettro ho lasciato nuovo il materiale no il fatto è che il dramma è che ora se li catturo non mi entrano in parte no devi tornare alla base esatto sono di merda eh scusami si si stavo veramente rompendogli la spina dorsale che non ha starly un beat off eccolo i livelli delle evoluzioni sono tutti a puttane ragazzi non vi preoccupate ah si 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 è tutto molto diverso cioè per alcuni per alcuni pochino mettiamo la cosa ci picchia e io sto finendo le pozioni quindi la devo smettere che no bidufo mamma mia allora a Yvette faccio vedere una cosa tu vai pure avanti ok cioè a Yvette a chi vuole vedere un attimo di esplorazione in più che tanto tu farai a breve quindi non prestare attenzione a me scattare 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 eh si devo farlo assolutamente chissà se aumenta un po' la percentuale se gli do una bacca vediamo è scappato evidentemente non si fida e smettere di girarti come tu stessi esattamente dove sono ok ah preso spero cosa cacchio hai nel tuo schermo? ti ho detto di non guardare ti ho detto di non guardare ah scusa ero troppo concentrato e non ti ho sentito non guardo più non guardo più ero coinvolto ma me l'ha preso quello del non ho visto non ho visto da un po' che è giù pokédex starly si ha funzionato grande e allora adesso ne catturo un altro e dovrei essere comunque a semi a posto con te ho finito o no? 4,5,6,7 uff ma zitto bene sto tornando da te ok led tracking era andato a puttane si si ho rischiato grosso ragazzi ma I know my shit adesso sto per arrivare da Luca anche io tu hai fatto dopo ho fatto buizel dopo buizel non hai parlato al rivale ok ma ragazzi parlo ai miei non con questo ma lo faremo eh lo faremo in questa mappa più volte se lo faremo non come lo stavo facendo io il mio era improprio non si fa in quel modo ma tranquilli sarà una bella serie vedrete altro che Michele ci sorprenderà eh ma se a me dai delle checklist da completare è finita è finita si anche io ci impazzisco abbastanza per le checklist quindi ho trovato pane per i miei denti ma poi ti ripeto questa è veramente la prima parte e la prima area facciamo così andiamo sul sicuro ok ho fatto il mio primo one shot povero punto eh si dai ha senso eh quindi non vado a cercare i ghibi adesso non mi voglio emozionare troppo basta hai visto un evi si lo prendo è molto raro lo ho visto anch'io lo vado a prenderlo ok ok vado shhh hai visto anche tu levi esatto ok prendiamolo ce li scambiamo poi no vai a dire un altro è buona la pacca è buona dai di che cosa sa quella pacca di sconfetta presa no io non l'ho preso è sfuggito il mio no si ha il suo vecchio verso e anche pikachu ha il suo vecchio verso per fortuna fanculo ma non gli ho tirato il non gli ho tirato il backstab perché si è girato ah ho sbagliato io io in realtà perché si è girato all'ultimo secondo lo riprenderemo si godo ma cosa godete cosa godete aerossalto hai imparato aerossalto sta bene bravissimo hai imparato aerossalto perché perché fai quella quella voce cosa ti sorprende del fatto che abbiamo imparato aerossalto perché era una mossa particolarmente efficace in passato con gioia ecco io il sì diciamo che una base power 60 a livello 7 o quanto 6 non è proprio old style pokemon mettiamola così ok e io posso già sbloccare le mosse rapide e potenti ma non le per ora mi sembra abbastanza ovvie sì sì ovviamente puoi vedere se cambiano la priorità dei turni se non lo fanno lo fanno questa è una cosa che ti devo cioè a meglio quella potente sì quella rapida ancora no quella rapida non significa che non lo sta facendo ma che lo farà cioè accumulerai un value tale da tra tre turni ancora magari non lo vedi fare due turni di fila sarebbe stato meglio una barra però era il 2001 in cui Final Fantasy X aveva una barra cioè sono d'accordo è una cosa che ho sottolineato anche in review non capisco perché non la barra e lo scontrino cioè probabilmente lo so perché perché non volevano dire Final Fantasy X eh ma cazzo l'hanno già fatto bene cioè non è che è copiare no ma poi scusa è un battle system va bene creano capito ma è pieno di cose fichissime qui c'è ponita sì che ponita è bellissimo andiamo da ponita andiamo esemplare ricatturati esemplare pesanti mosse di tipo acqua usare bracere volta che erano del cibo ricerca sul ponita raro sarà con lo shiny no sono quest quelle ti avvicinare ti avvicinare guarda qua c'è la vacca vedi la vacca a mia magna buona sì no tiè preso spero che mi abbia dato il il cibo dato no è scappato il cibo dato te lo dà se gli dai da mangiare non preoccuparti forse ho lanciato la pokeball troppo presto ma ho sbagliato ma non mangiare il cibo ovviamente invece di catturarlo dagli più cibo se vedi che il cibo dato è una quest ah certo sì sì certo certo ovviamente fino a tre mangiate se le fanno prima di essere sazi c'è anche un sistema di sazietà ho un ponita abbastanza scusa intimorito che ha deciso di no 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 ma è nel fiume il mio ponita mi ha tirato una bacca fortissima nel viso l'ho rotto ok il mio ponita si è spento è morto? no però ah non mangia più non mangia è nel fiume vuole morire esatto vettila vettila non scappare così ok ora posso nascondere non si fidano sei ancora col ponita è un pokemon nuovo cioè ok oh backstab il backstab fa tanto almeno l'ho preso poi vedremo ma non ho fatto nessun'altra quest va bene penso che comincerò a spostarmi verso Luca anche se finalmente c'è l'ultimo volume perché stavo cercando vediamo un po' se riesco erano due esemplari catturati esatto devo catturarlo esatto non sembra per niente distratto ho fatto un tiro a palombella ragazzi incredibile proprio il palombo l'altezza della pokemon quando si muove varia mi è sembrato l'altezza in che senso cioè nel situazione di come di clini con ponita no è presente quando il pokemon è dentro e sta cercando di liberarsi ma che bravo si però scoprirai tu a cosa significa a cosa corrisponde si bravo occhio si l'altezza a cui salta la pokeball cambia bravissimo quello vuol dire qualcosa lascio a te scoprire cosa ok benissimo obbedienza dei livelli c'è quindi non bisogna farmare troppo altro motivo per il quale non fare le missioni a casa cioè fucazzella c'è un po' che fucazzella ma fanno cioè oltre un certo livello i pokemon non ti obbediscono ok 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 ma cosa dicevi delle missioni quindi di non far di non farmare troppo a caso tipo buttare pokeball la testa manca perché farmi leveling e poi non ti obbediscono i pokemon ovviamente ok ok vogliamo andare da lucas esatto così ce lo leviamo dalle palle possiamo fare turn in delle varie questine te la stai cavando bene per essere una tizia sconosciuta piombata dal cielo geloso invidioso ti regalerò un kit fai da te in segno di riconoscimento oh grazie andre questo è il kit del poter creare le cose gaffanculo esatto sette di attrezze che permette di creare strumenti anche in assenza di un banco per il fai da te peccato che non puoi fare con il prendere i pokemon è possibile adoperare solo i materiali contenuti nel borsello questa cosa è importante perché hai 20 slot nel borsello e basta se selezioni il kit fai da te tra gli strumenti base del borsello potrai creare strumenti ovunque tu ti trovi in qualsiasi momento tuttavia potrai utilizzare solo i materiali contenuti nel borsello e non potrai creare più strumenti di quelli che è possibile portare con sé all'interno dello stesso ti do anche la ricetta per creare pozioni eh questa io adesso la uso subito tipo ne faccio 40 con il kit fai da te potrai creare strumenti ovunque ti trovi usando i materiali che hai nel borsello finché avrai bacche ghigocca e ciottoli potrai creare poche vuole volontà una bacca arancia un porro officinale puoi invece creare una pozione va bene let's go come procedono gli incarichi pokédex sulla copertina del pokédex puoi vedere su quanti devi ancora fare il rapporto dacci un'occhiata ok 36 puri 38 io insomma siamo là va bene quando hai completato un po' di incarichi ricordati di andare al professor laven ci si vede vado vado se ne è andato si se ne è andato ma chi laver c'è il luca è fatta si può essere veloce efficiente puoi fare esatto io mentre corro lancio esatto esatto e intanto e vaffanculo a bidouf che dorme in piedi si esatto te l'ho detto che fanno quindi tu lanci e vai avanti intanto vedrai che a un certo punto comincerei a farlo anche dopo le battaglie mentre il tuo pokémon sta uccidendo l'avversario tu intanto vai già ah ok lo farei sempre più spesso quanto è bello rollare invece di correre esatto beh un must oh un kit fai da te dunque luca deve averti detto tutto ben fatto or dunque adesso ti parlerò dei rapporti sulla ricerca per farla breve sono ciò che ti permette di ottenere delle ricompense facendo rapporto sulle tue ricerche guadagnerai denaro in base al livello e al numero di pokémon catturati soddisfacendo alcuni criteri ad esempio catturando un pokémon per la prima volta potrai ottenere ancora più denaro esattamente ah rapporto di mira membro 0 stelle 2000 poche dollari rapporto su 10 più pokemon completato ok ti dà anche dei bei soldi quando svolgi gli incarichi il livello di analisi di ogni pokémon aumenterà raggiunto il livello di analisi 10 avrai tutte le informazioni su quel pokémon e la pagina sarà completa è quello che ti dicevo esatto inoltre man mano che svolgi incariche e completi le pagine accumulerai punti analisi sulla copertina quando avrai raccolto abbastanza punti analisi potrai avanzare al rango membro successivo si ragazzi mi perdo anche con gli indicatori oh abbiamo un po' di descrizione che bello allora originario della terra di Gioto è di indole ritrosa e suole pertanto staracchiocciolato tuttavia cela al suo interno un'impetuosa potenza ignea io invece ti leggo Rowlet perché poi le descrizioni stavolta saranno uguali per tutti ma Rowlet ce l'ho io volteggia Keto con ali leggiadre padroneggia tecniche con cui gittare il piumaggio affilato tagliente al pari di daghe attenzione tira coltelli il mio tra l'altro ti fa anche vedere il cibo preferito esatto che ovviamente aumenta il catch rate se tu hai quelle robe lì e gliele lanci hanno un effetto diverso rispetto alla bacca normale li rende ancora più facili da catturare quale descrizione hai fatto tu? tu hai fatto anche Starly io sono al 9 io ho Bidoufar 7 maledetto questi pokemon abitano le piane e i monti in gruppi il loro canto è molesto all'orecchio distanza minuta hanno ali possenti che arrecano sette giorni di dolore e ti fa vedere e ti fa vedere maschi femmina hai stempiato il maschio guarda sì esatto che figa e vedi se tu premi A su un pokemon vedi esattamente gli incarichi che hai completato in teoria i conti ti dovrebbero tornare questo è al 10 dovrebbe essere 2 per le freccette rosse e 1 per gli altri all'incirca eh sì certo a me torna 2,4,5,6,7,8,9 infatti sono al 9 4,5,6,7,8,9,10 sì è vero torna bene ah e puoi anche vedere il modello ok sì puoi anche vedere il modello le animazioni come un pokédex tradizionale esatto vedere il verso Shinx scuote le membra per ingenerare elettricità benché sia minuto possiede un indole selvaggia ammassirlo esige notevole pazienza ok peraltro ci sono diversi modelli di pokemon cambiati poi ti dirò quali sono hanno cambiato dei modelli questi non sono quelli di let's go diciamo per la prima volta in realtà dal 3DS li hanno cambiati membro 0 stelle attenzione livello excellent mira il tuo impegno degli incarichi pokédex merita un riconoscimento credo proprio che sia giunto per te il momento di avanzare di rango torna al villaggio giubilo per fare rapporto alla caposquadra serina sono certo che ti promuoverà no no possiamo fare ah vabbè no vabbè allora puoi andarci ma il punto è ti dico questa cosa quando poi andremo effettivamente a esplorare se anche tu hai fatto level up di rango ma non sei andato da selina comunque exp cioè non è che devi tornare da lei io tornavo da lei finita la quest principale in quella mappa ok 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 magari anche a far due livelli giusto giusto c'era la quest di shinks e cazzo io starli non l'ho finita ma non preoccuparti ho già fatto il super completismo pazzo quindi dai su guarda se orecchie delle croci gialle ecco come erano fatti i segni delle stelle in pratica finalmente sono riuscito a togliermi la curiosità era un tarlo che mi rodeva è tutto merito tuo va bene tre pozioni grazie ah ecco bravo mi è stato capitato un pacco speciale a tuo nome il pacco del preorder che io metterò per ridere no giacca moderna eh sì si diventano piccoli notevolmente vediati abbine cufa capito me l'hai già dato ah no chimono estrosi dei calzoncini estrosi con motivo di quarantino di shime si diventano vabbè si preva sono cose belle quindi questo è il gatto che ti dà i DLC esatto bravissimi ok comprare vestiti andiamo un po' posso vederlo fatti il fashion pazzo e e non mi fa vedere l'anteprima no non dirlo come non hai aperto che te la fa vedere basta che premia non devi comprare allora forse questi sono perretti di panno ma è normale fascia ma non è normale a me faceva vedere l'anteprima allora forse per il cappello che ho indosso fammi vedere allora sì è vero anche a me li fa vedere i vestiti ma il cappello no la fascia sembra essere strana sì il modello tra l'altro si ricarica ma non lo fa vedere vabbè ok vediamo è per i capelli dicono in chat non sono forse compatibili con quel tipo di berretto sia per il taglio il cappello della ragazza è un'acconciatura ok pochi modelli diversi vediamo un po' se voglio vedere cosa mi è arrivato cambiare vestiti eh non puoi indossare questo accessorio con la tua conciatura ecco oh ok 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 ma quasi quasi puoi uscire senza cambiarti sì hai deciso di non fare del fashion no no farò qualcosina un po' questo ha i colori proprio perfetti per il personaggio puoi indossare subito sì molto bene e mamma mia questo costa troppo divisa karate è molto Tekken sì mai caricato così tanto mi sto andando un attimo a finire starly ma io devo finire tanto aspettare mica che adesso io non torno lì e finisco le cose no 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 ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro però guai devo fare gli starly perché così finisco la quest vediamo se posso togliermi il cappello puoi farlo a casa forse però non dal negozio quanto lo fa fare qua cambia vestiti vabbè si prova a casa se no me lo devo togliere anche io comunque oh guarda 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 che riserva naturale da uccidere credo che però gli altri siano scappati non mi dire che avrò per sempre questo cappello no 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 puoi toglierlo puoi toglierlo chat che ne pensate come lo faccio a togliere questo caso dove vai ah per togliere questo cappello ah perché non è un cappello per il modello ah ma perché quello è una conciatura mamma mia ma qui non non avendo il personaggio femminile non so consigliarti certo certo è una conciatura 500 dollari per togliere sta cosa va bene pay to win stupido pay to win pay to fesh pay to fesh e basta costruirle che vanno via bene i quadri devi cadere accomodati allora lascia pure a me le tre cose giapponesi che stile ti piacerebbe pokemon però ne mette sempre da sempre ne mette veramente pochi in realtà in spada e scudo ce ne sono diversi qui molto meno non sono rimasto soddisfatto dalla possibilità di editare il personaggio alcuni vestiti mi sono piaciuti tanto ma è quasi tutta roba endgame e mom avete rotto il cazzo ok voglio di allora senza minimamente dare alcuna dignità a Selina per ora andiamo al villaggio a finire la nostra avventura che figo ah ma sei tornato indietro tu hai parlato con Selina no però mi sa che se non lo fai non vai avanti cioè nel senso se invece adesso lo fai oddio forse sai che è la stessa cosa però vediamo se puoi dare gli incarichi al prof vediamo adesso ne faccio provo a farne uno ecco prova perché se puoi farlo è assolutamente indifferente puoi fare quello che vuoi allora però forse ti perdi la difficoltà tra mille virgolette di una mini boss fight non lo so forse possiamo andarci da Selina volendo prima di chiudere però è anche prima di chiudere prima di tornare qua ah ok 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 no perché comunque però sto pensando che è davvero indifferente perché tanto sempre poi ci metteremo a girare qua ci sarei andato assolutamente ma non prima di completare tipo biduf vroom per l'estero cavolate qua è indifferente è obiettivamente indifferente ora che ci penso chi è che mi vuole picchiare vabbè ma è possibile avere starly secondo voi nella vita ne manca uno lo stab esiste vero si lo stab esiste assolutamente si impossibile uccidere uno starly proprio impossibile spero mi stia piacendo ragazzi sto facendo il mio meglio anche per restare in botta nonostante la convalescenza l'ombra sotto lo schermo ci sta anche la posizione è figa ma fa 3D come va vi leggo sempre perfetto quasi sempre starly morto non fisso però faccio del mio meglio anche biduf let's go vado a fare il turno c'è un limite al viola adesso anche le fo cioè questa cosa è il ma signore ha letto il tutorial dell'engine se è Archeos Game tutte le cose si esatto assolutamente è assolutamente canonico adoro questa musica che c'è adesso qua sotto il mio gameplay ci sono più biduf gli ho estinti eccone uno c'è questo un borso ma le imparano intanto in fretta le mosse oh yes ok puoi fare report all'aven te lo ok garantisco puoi fare tranquillamente report all'aven quindi adesso siamo congrui anche nelle richieste sbloccate in teoria ci sarebbe da fare ponita ora vero eh a sgamarne volte eh però volte che hai fatto che hai usato bracere puoi farlo si si è vero se vai alla base esatto non devi tornare al villaggio basta che vai al checkpoint ah basta che vai al checkpoint te lo metti in squadra io per esempio con Shinx ho finito quindi ciao ciao Shinx mi prendo anche Beezil e andiamo andiamo a fare i braccerini senti ma dimmi 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 aprendo la mappa no si lo dico appena aprendo il verme vai tranquillo non spreca esperienza questo ve lo dico lo dicevo prima Mike no 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 se voi livellate anche over sopra il rank diciamo che ti fa passare di rango con Selina non c'è problema te la conta come exp del livello dopo non butta via niente ma guardalo che i fermi che scappano questa è bella se sbagli una mira perdi la pokemon si ma ci picchia ok mi sono scappati tutti apro la mappa non c'è qualche piccola curiosità beh si io vorrei subito andare a quel dannato lago io tipo appena sono arrivato madame comunque sto gioco è pazzo ho fatto bracciare ponita al 5 su biduf al 2 non ha preso neanche metà vita 6 ok bene 1 2 4 5 6 7 8 ok mamma mia biduf è impegnativo eh ma anche io non l'ho finito biduf sai cosa ti manca? gli sconfitti? eh anche i catturati i catturati fai prima però si esatto un pesante sarebbe top oppure far evolvere un biduf però non ricordo a che livello evolva qui strano che è interessante che i livelli siano cambiati vaffanculo ok ok non ho le scottature fanno perdere vita ragazzi che scappano eccoli i biduf sono pronto sei pronto a fare del biduf vai dovrei utilizzare un po' di aver combatterli in effetti porca miseria che male che fa ogni volta che utilizza rotolamento più che altro il rotolamento come nei vecchi giochi aumenta al in base al numero di volte che l'hai fatto capito ok in realtà sto sprecando risorse prezioso perché ogni volta che uccido un biduf i miei duplicati schinx livellano senza che meritino attenzione devo andare alla base ehi sei piccolo dormiva il ragazzino dormiva ok sconfitto catturati ne mancherà uno poi dopodiché pratica biduf conclusa cosa vogliono cosa vogliono i bisel da me ah ma non ho più schinx niente elettro me li sarei dovuti tenere andiamo tu a che punto sei cosa mi stai facendo io adesso sto cercando sto tornando a prendere ponita mi manca e voglio controllare se ho finito v poi finisco biduf e ho finito il resto ponita vabbè è tempo al tempo vediamo un po' ok fammi sapere se provare strumenti e pokemon si riposa pokemon che figo allora ponita sposta ok facciamo così ok poi no ma non ancora quagget allora per ora niente ecco qua facciamo così poi cos'hai preso ponita e bisel e e v ok si è possibile liberare in massa dai box con il tasto x se non sbaglio hanno aggiunto questa funzione proprio in questo gioco puoi fare proprio selezione multipla libera per tenerti solo quelli che poi vuoi sono di livello 8 biduf e vroom ok good allora io me ne andrei da che manca poco devo essere efficiente prima finisco prima lago allora bravissimo esatto ma tanto quando abbiamo finito i pokemon di quest'area sono bisel ponita vurmple starly biduf e shinx li abbiamo fatti praticamente tutti oh finalmente la putente la faccio la putente dalla mia parte state vedendo una 50 base power stab di livello 10 contro un livello 4 non è morto ah giusto c'è ivy eh però ivy dobbiamo catturarlo però mike ce l'ha si io ce l'ho è solo che ivy fai prima a livellarlo evolvendolo catturandone tanti e evolvendoli cioè ivy ti consiglio di non farlo qui o magari di portartelo dietro uh posso evolvere vroom play ragazzi dalla mia parte guardate l'evoluzione guardate la animazione d'evoluzione e invece mike se puoi non cagarmi no no io no 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 questa cosa non la voglio vedere io proprio benissimo voglio essere blind onestamente se vuoi disattiva proprio lo schermo allora ok vabbè eh fatto ok ciao piccolo vieni qui eccoci ok cazzo brutto colpo una volta che non volevo ucciderlo ci risiamo ragazzi è di nuovo quel momento è il momento ivy no ti prego non fare così grazie del supporto ragazzi lo vedo grazie di cuore mangia quella cazzo di bacca e non te la far mangiare da biduf per cortesia starle 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 e biduf è stupido non ha capito perfetto oh l'ho ucciso ho fatto un verso di dolore oh l'ho preso ho preso ivy ah grande sto cercando il pokemon ecco l'altro vurmple ho trovato che non è allora devo nascondermi va bene ma tu hai imparato per caso acquaggetto non penso al 4 ok tutto ma non al 4 c'è un albero che si muove dice a me no no non è il mio nel mio oh mi sta calando la notte non è il bitrate ragazzi eh sono 40 pixel no ho sbagliato la notte ancora il ragazzone non l'ha vista oh qui come siamo messi esemplari catturati ok devo farlo guarda com'è attento bastardo questo non è non farsi notare vero pur un po' ha visto cavolo sarebbe stato figo che avesse una cop vero col mondo aperto girare insieme sarebbe stato ancora più divertente sono d'accordo sì magari condividere parte delle ricerche era figo è vero l'effetto delle mosse prioritarie ragazzi è diverso semplicemente non è più una priority che ti va a cambiare la priorità appunto del turno ma semplicemente te ne accumula di più ti accumula quella famosa barra invisibile di final fantasy ok la mia pokeball ha fatto un volo zigzagando in cielo come ha fatto? è quando no no scusi non parlo di quando le lancio parlo di quando catturato ah quando eh vedi è strana ce ne sono vari diversi ce ne sono vari diversi potrebbe essere per l'AV perché comunque era un Wurple chissà capirai tra un po' ok quindi ora stavo 8 7 ok no ok Wurple è finito poi Wurple è finito Wurple l'ha messo malissimo mai nella vita l'ho preso e invece no mi serve il maledetto biduff io non posso essere sereno finchè il biduff continua ad essere così non è finito comunque quello che ti dico è a parte la checklist ovviamente vivila come vuoi porca troia e non è necessario il 10 è necessario fare almeno il 7 per andare in una porca troia in un'area successiva ok poi chiaramente certo certo al solito come ti senti meglio tu ho trovato un Drif Blim un Drif Loon scusa è notte anche io ci sto avendo a che fare si faccia notare questa sottigliezza vai Drif Loon porca puttana aspetta che lo tengo sottotiro un attimo ok preso il Drif Loon è un Pokémon raro a sinno lo trovi solo il venerdì all'impianto turbine qui invece lo trovi subito sempre si è parzialmente estinto allora abbiamo esplorato abbastanza secondo me ragazzi sulle meccaniche non anticipate ci arriviamo quando ci arriviamo sulle status e compagnia bella oh si no sono molto curioso di quei meccanismi ok se io riesco a trovare due biduf si trova tutti i giorni anche non di venerdì ragazzi si trova tutti i giorni ve lo garantisco no esemplare i catturati catturati di notte ah bella per me volte che l'hai visto usare confusione ipnosi attenzione quindi catturarli qua è un doppio punteggio doppio punteggio vai mi piace sta cosa altrimenti ho creato un mostro dammi il doppio punteggio bastardo ho creato veramente un mostro assolutamente si ok ora basta cambiamo pokemon con biduf è anche più veloce cambiare i pokemon in generale questa cosa mi piace comunque si molto più veloce è tutto molto più voglio mandare questo pokemon ok c'è questa roba qui per esempio non deve essere legata sulla leggenda eh no 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 quanto quality of life questa roba qua si questo è molto cambio easy ok ma ce ne sono ah è successo a me quello che è successo a te prima ne hai presi due ne hai creati due ok sei fortunato perché hai biduf davanti che è immune alle mosse spettro perché lì ti saresti preso dei bei cartoni altrimenti ma il rotolamento che è super efficace su di loro brutto colpo mi ha fatto biduf non ce la farà ma posso catturarne uno intanto si io qua posso fare tipo tutte le velenospine che voglio zoomando ho scoperto fissazione il pokemon si fissa sulla mossa appena usata i danni che questa infligge aumentano tuttavia aumentano anche i danni subiti dal pokemon chissà cosa è una passia bravissimo hai sgamato un cambiamento in realtà il cambiamento è proprio il fatto che rotolamento nei giochi normali pokemon fa solo più danno invece qui fa più danno ma prendi anche più danno quindi è un po' un risk and reward ok molto bene e puoi aggregare veramente tanti pokemon ma non vi dico quanti e quindi ci sono anche le mostre ad aria da calda surf e invece no no perché vogliono complicarti la vita è certo ok vale un cazzo rispondo alla domanda di palc ma non faccio vedere che domanda cioè a che domanda sto rispondendo e in generale quando smette di farlo livellando perché non sempre riempi tutto ok a che punto sei ragazzone io sto tornando indietro perché so che non ci sono più bidouf di notte evidentemente e quindi sto tornando per andare al villaggio e livellare riposare e vedere che succede ah vuoi tornare proprio al villaggio eh sì perché altrimenti sarebbe esagerare nel senso adesso devo vedere che succede va bene va bene mi fido di te allora esattamente ragazzi l'altra modifica non detta nel battle system nel combat system è che rotolamento ti fa switchare e ti fa cambiare mossa l'ho capito tardissimo questo l'ho capito tipo in fondo al gameplay ok anche perché devo liberarmi di 50 pokemon ti faccio vedere anche un'altra funzione se vai alla base visto che tu mi dici che i bidouf non ci sono praticamente non ci sono più le tre le tre oscillazioni della pokeball capisci quanto è probabile che venga catturato in base a quanto si muove in maniera aggressiva bravissimo più si muove in maniera aggressiva più c'è la percentuale che scappi bravissimo hai capito mentre quando salta poco è 100% quindi all'inizio della mia blind run sono stato convinto che tre salti fosse 100% non entra ma non è così ok mentre è 100% che entri quando fai il saltino piccolo vale sia come animazione overworld sia all'interno del combat entrambe si adesso il bidouf mi ha fatto un salto microscopico ed è stato immediatamente catturato cos'è sta cosa credo sia una ghicocca è la prima volta che la vedo così si si trovi anche oggetti così proprio sfusi diciamo in giro senza doverli millare dalle varie risorse mi manca solo io faccio il turnolo ragazzi mi manca solo un bidouf e vieni alla base che ti faccio vedere una cosa per bidouf ok trusta il professore se no ti devi mettere qui a aspettare come un pazzo esatto aspetta fammi vedere se per caso qui devi fare qualcosa ok guarda guarda che bello ho creato un mostro ragazzi ah ne manca uno vai ho catturo e vengo allora ho creato un mostro tacco rapido ah eccolo che scemo quante volte avrei dovuto farlo mi sa che avrò mi sa che avrò l'opportunità di farlo ah ok è già diventato giorno questo mi scocchia non l'ho creato è stato temprato da anni da monster hunter e min maxing ok 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 allora ho solo risvegliato la bestia ok beh poi mi conoscete ragazzi mi conoscete lui sta scoprendo sempre di più perfetto vado let's go se tu vai alla base tantora devi fare per forza il turninino al prof noterai che c'è una tenda la tenda non solo ricarica i ps dei tuoi pokemon e i tuoi se dovessi aver preso danno ma ti fa scegliere quale momento della giornata essere perché dormi fino a perfetto incredibile quindi se tu hai bisogno di un pokemon che spawna solo di notte vai e dormi dormire resetta anche il weather anche se non so se in questo momento del gioco lo fa ok se io tipo adesso dormo fino a notte fonda sarà notte mi manca solo un bidouche però credo che sia scriptato in questo momento non avere altro tempo che non sia il sereno ok è molto molto stranamente veloce il gioco quindi perché sono spawnati esattamente gli stessi nello stesso numero tu puoi farli spawnare a comando ok allora aspetta però no il pool comunque si consuma resettare la giornata non resetta lo spawn lo spawn resetta con un timer o resettando la mappa ok non è che se adesso tu catturi questo bidouche torni indietro e dormi fino al mattino quel bidouche c'è di nuovo capito esatto no c'è dopo un po' o se resetti la mappa e alcuni spawn potrebbero essere rari chiaro no ragazzi non abbiamo minimamente esplorato tutta la mappa no ma che io non ho neanche superato il ponte non ho visto niente ci manca tanto e ci manca tanta roba interessante tanta roba interessante e tu pensa professore che io sto tornando con una pokeball sono stato perfetto bravissimo allora ma dovresti avere anche dei ciottoli secondo me per far pokeball no beh sicuramente ne posso fare anche molte altre io ho fatto adesso un cinquantello proprio bel cinquantello agile nice mi piace il fatto che in chat scrivano state andando pianissimo cuoricini cioè che è tipo una cosa buona è però obiettivamente ora scherzi a parte ok non possiamo puntare a fare il 10 con tutti perché altrimenti no certo questa serie dura 6 mesi ma non è neanche corretto non farlo cioè la prima volta che li vediamo esatto la prima volta che vediamo guarda per esempio io sono qua col Driflum livello 8 me lo faccio bastare perché prima o poi un Driflum lo troverò nella mia strada anche non in quest'area e quando lo trovo dirò che mi mancava esatto ragionala più o meno così c'è magari questo completismo del 10 se posso darti una guida su come far fluire la serie ma ora non voglio dirti niente perché devi godertelo ragionala più del tipo devo esplorare tutta la mappa prima ci facciamo un giro di tutta la mappa si apri la mappa guardi cosa è tratteggiato e cosa non e andiamo tutto quello che incontri ti fermi quindi tutto quello che incontri dici Shinx l'ho finito si ok ignora vado avanti oh paras non ce l'ho ok vediamo finita tutta la mappa ti guardi quello che vuoi completare al 10 perché magari è vicino al 10 e lo fai capito? si si chiaro ma vedrai che sarà poco perché se giochiamo così completiamo tutto è equilibrio perfetto di come si gestisce in realtà qualunque videogioco è efficienza l'efficienza guarda la luna dal mio schermo oh oh si cambiano le fasi lunari ok ok chissà se cambiano gli spawn anche in base a questo allora diciamo che quando qualcosa cambia in un gioco un effetto c'è no? beh potrebbe allora in generale è una cosa che si spera sempre specialmente in titoli come questo altrimenti un ciclo di luna può anche essere una sorta di algoritmo automatico ormai basato su sistemi di ciclo giornonotte ma sono felicissimo che ci sia la possibilità qua di creare influenze con gli spawn dei pokemon allora ah no devo andare appena lì sotto è vero e poi devo capire come liberare 50 pokemon allora non voglio avere la run piena fammi controllare il tuo pokédex 8 catturati 12 registrati vediamo cosa ci dà hai fatto notevoli progressi meriti un aumento di rango qualcosa che non ha mai raggiunto nessuno come rango sei ufficialmente promosso al rango di membro monostella conto ora puoi usare le peso ball eh ora vedrai saranno le tue preferite i pokemon fino al livello 20 seguiranno sempre le tue indicazioni inoltre riceverai ricompense più generose ogni volta che farai rapporto sulle tue ricerche prendi anche queste ricette ti saranno utili per creare strumenti perfetto tu il ciottolo nero ancora non l'hai trovato no revitalizzante importante questo è super importante è sorprendente come una forestiera piombata giù dal cielo come te riesca a sopravvivere in questa terra selvaggia ciò dimostra il tuo innato talento oltre che il tuo impegno la gente tende a diffidare di ciò che non le è familiare tuttavia avanzando di rango persino una sconosciuta caduta dal cielo come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri è l'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio in pratica ti sta dicendo convinci i vecchi che ti insultavano che sei dei nostri esattamente inoltre avanzando di rango potrai usare nuovi tipi di pokeball e ottenere ricompense maggiori quindi gameplay a parte comunque hanno sviluppato indipendentemente da quanto recente sia la tecnologia diversi tipi di pokeball sì è vero per oggi è tutto va a rifocillarti alla tovaglia di lino e riposa diciamogli di sì dai diamogli questa soddisfazione al buon Rampei che Gobbo porta ai mochi mira my dear bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione quando si festeggia anche i soliti mochi di patate mi sembrano deliziosi stessa cosa qui più o meno ok ok parlando d'altro hai accettato la richiesta di Suguru? la gente del villaggio non sa assolutamente nulla sui pokemon e quando sorgono problemi è compito nostro capire come risolverli in pratica in materia di pokemon siamo dei tuttofare esatto per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri o controllare la lavagna che c'è nel mio studio a questo proposito dimmi Luca di cosa si attartava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto credo che sia meglio se ne occupi mira vuole qualcuno portato per le lotte mamma mia che sfigati se non sbaglio era una richiesta di te sarebbero stati persi esatto la signorina risa del team diamante attenzione il team diamante era già stanziato in questi terri ben prima dell'arrivo del team galassia attenzione si quindi li chiamano team ma sono clan però noi di un clan avevamo già sentito parlare questo è vero questo è vero nelle rovine d'alfa vero clan però mai del clan diamante no non asinno almeno no 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 esatto con un po' di buona diplomazia potrebbero fornirci preziosi informazioni sui pokemon ma se ne riparlerà domani per oggi per oggi direi di andare a letto goodnight dear andiamo il giorno dopo ehi mira avresti due minuti prima di incontrare risa voglio vedere come te la cavi nelle lotte va bene proprio ora ti aspetto all'area allenamento allora se hai catturato considera considera la richiesta del tuo mentore anzi un ordine attenzione lei è qui che è diventata per forte si 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 boss ok allora prima però dimmi tutto io mi devo togliere il cappello se no mi sento male io devo cercare se ci sono per caso punti esclavativi punti esclavativi al pascoli ci si prende cura dei pokemon che è catturato inoltre potrei riorganizzare la tua squadra vuoi lasciare quelle pokemon qui con me ah i pascoli no vabbè allora vediamo un po' video starly shins bonita allora come faccio a liberarli si può fare così c'è proprio il pulsante libera guarda premi B fammi vedere guarda sotto nella leggenda ci dovrebbe essere libera forse non ancora sai cerca lista ah allora forse non c'è ancora io nell'altra partita ce l'ho ma magari è qualcosa di nuovo non saprei dirti potrebbe potrebbe apparire dopo non ancora mi dicono qui in chat ok not yet allora li lasciamo pascolare si godano al momento i doffi mi spiace piuttosto ecco qua perfetto vediamo se per caso ci sono queste in giro ma forse non appaiono ancora ancora no ok sto facendo fashion pesante intanto ma non c'è un cazzo di fashion in verità ragazzi fa tutto schifo si vaffanculo bene ma io per ora non lo prendo in squadra e non do troppo attenzione alle nature perché stiamo catturando la rinfusa pokemon selvatici senza troppa cura eh ma te l'ho detto te l'ho detto guarda il concept per me può essere esploriamo old map si e poi piano piano andiamo a spirale per catturare i pokemon hai dato un'occhiata a questo npc guarda guarda un po' indietro questo qua vai a sinistra eccolo quello eh te l'ho detto è dove avevo visto il togepi esatto senti un po' che ha da dire ok al banco degli scambi puoi scambiare pokemon e ricevere strumenti usando i punti gratitudine ottenuti trovando ritrovando gli oggetti smarriti altrui ah vuoi che ti spieghi che cos'è questa meccanica certo quando muori hai ragione droppi l'inventario dai ma dai è death stranding se muori un altro può trovare il tuo pacco e dartelo e io infatti in partita review ho perso un bel po' di roba perché sono morto diverse volte grazie ed è ancora lì perché non potevo andare online i server erano chiusi ci ho preso quindi ho perso per sempre cose importantissime ovviamente lo vedranno lo vedranno in blind run e dai un'occhiata agli strumenti sono carini ok e ho capito ah vabbè sto chiedendo qua è vero allora indietro ottenere strumenti wow pokeball speciale strumento va bene poi caramella rara fa sedere un pokemon di un livello pietra focaia ti vende tutti gli strumenti evolutivi compresi strumenti che se posso essere sincero dovrebbero farti alzare più di un sopracciglio perché abbiamo un elettritore e un magmatore che è un upgrade e un dubbio disco che in teoria sono strumenti di ora moderni sì ma anche il filo unione cioè il filo unione è nuovo esatto tra l'altro è un cavo link per far scambiare cioè per far evolvere i pokemon che si evolverebbero normalmente con scambio è una praticamente dichiarazione di intenti questo gioco vuole essere finito single player vuole ridurre al minimo la comunicazione scambia se vuoi ma il gioco è disegnato per fare tutto da solo è proprio il contrario di quello che c'è stato finora gli sprite degli oggetti sono migliorati molto molto migliorati assolutamente e ognuno degli oggetti anche quelli che raccoglie una piccola discrezioncina molte non sono utili alcune lo sono infatti questi oggetti tecnologici sono uncanny da vedere qua cioè interessante vediamo se poi ha qualcosa da dire probabilmente quel portale se sono arrivato da lì effettivamente è del mondo bravissimo bravissimo il concetto è che questi oggetti potrebbero essere qui per lo stesso motivo tuo esatto sia un portale ancora aperto che connette almeno il tuo mondo a questo e quindi dico almeno perché nel mondo pokemon siamo stati abituati a vedere portali che connettono 5, 6, 7, 10 dimensioni quindi ti dico almeno il tuo allora allora Luca oh arrivo perdonami io sono diventato Krillin intanto ah perfetto ma super saian scusa ancora per averti trattenuta sarò schietto con te che c'è ho preso una decisione importante io di lottare non ne sono proprio capace pure io ho un compagno visto che faccio parte della squadra di ricerca però sai anche io ho un compagno è un po' un combina guai ma non posso demordere se vogliamo completare il pokédex hai un pokemon hai un compagno chiaro guarda bene questo è il mio compagno capisco e dove hai trovato io molto meno guarda come lo guarda triste quella volta in cui sono stato attaccato da uno schinx avrei potuto lottare insieme a lui invece ho avuto ho avuto un blocco mentale per via del terrore sì e poi onestamente non pensi anche tu che i pokemon siano spaventosi dai come fa questo coso a emettere l'elettricità ammazza bello questo dialogo bello carino anche a me è piaciuto un sacco questo il fatto che lei non capisca neanche come funziona pikachu per di più non ho davvero idea di che istruzioni dargli per farlo lottare ma quando ho visto voi due mettercela tutta per completare gli incarichi pokédex ho capito che devo fare altrettanto secondo voi perché l'ombra fa così sappiamo benissimo perché l'ombra fa così no ti giuro che non lo so cioè sì ok perché sennò vale 10 fps però perché hanno voluto mantenere le ombre senza fare i pallini sotto al corpo del modello come nei vecchi giochi playstation 1 ma questo è quello che succede a loro va bene esattamente altrimenti che ci sto a fare nella squadra di ricerca e per riuscirci il primo passo a sfidarti in una lotta stessa cosa mi incontro 6 e dentro mer shadow attenzione che bello sentire pikachu che non fa pikà come tornare ai vecchi tempi dei suoni delle creature meno amichevoli diciamo ecco bello vedere l'arena così ammazza cattivissimo ha cominciato anche lui per me si muove senti la musica la musica è molto carina cavolo no siamo messi veramente male no questa arena di pokemon c'è ragazzi perché la squadra di vigilanza si allenano a lottare con i pokemon loro sono quelli che in teoria devono lottare con i pokemon mentre noi della squadra di ricerca abbiamo il compito principalmente di catturarli per farli studiare poi è chiaro che catturandoli ci lottiamo anche è certo allora ma tu sei componita addirittura esatto ma aspetta che ti sbircio aspetta aspetta prima di sbirciarmi mi sciacco un secondo la faccia arrivo arrivo o no 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 è solo una ciglia negli occhi ma mi sciacco e arrivo faccio la musica allo stesso pacing della host di diamante e perla ma ha proprio è uno spartito che unisce più canzoni di battaglia di diamante e perla quindi è normale se ci risentite diamante e perla ma quindi se vieni colpito da una mossa l'animazione di essere colpito è solo animazione ci sono varie animazioni ma sì l'ho scritto anche in recensione ed è stata una roba che mi ha sorpreso in negativo quando vieni colpito in battaglia non prendi danno è flavor prendere danno non prendere danno che è una roba che non capisco perché nel gioco è già scriptato il fatto che tu prenda danno per gli attacchi dei pokemon ma a meno che non mi sia perso qualcosa ciao ciao caro in fase di recensione non ho notato il prendere danno in fight che invece è una cosa sulla quale fantasticavo tantissimo nei mesi di campagna marketing vai vai con la lotta che ti aspetto oh beh poverino guarda tu sei al 7 si e gli hai fatto quello con una mossa stab no ma infatti è sempre ancora anche abbastanza irregolare capire che succede ah ma sei ripreso si prima che lo sconfiggesse si è in aslok si lui è ancora in aslok accidenti tu e i tuoi pokemon vi capite al volo eh guarda questa cosa vuoi volversi no aspetta non è tanto quello i pokemon ora prendono esperienza in bulk alla fine della lotta contro un allenatore è una grande differenza non potevo esserne sicuro perché aveva solo perché è un pokemon solo esatto figo bello i pokemon prendono in bulk insieme l'esperienza alla fine della lotta contro un allenatore questo significa che se tu giochi che ne so sei contro sei e ne sopravvive uno solo uno prenderà esperienza è fatto per ridurre ancora di più il quantitativo di esperienza che prendi aspetta solo uno non ho capito mi sono disserato se tu lotti sei contro sei si ok giochi sei contro sei ma alla fine del della fight un solo pokemon sopravvive ah ok solo uno lo prende perché il pokemon prende l'esperienza di tutta la fight ho capito oh mentre tutti gli altri tutti gli altri non la prendono devi essere vivo alla fine della battaglia per prendere l'esperienza dell'intera battaglia capito ok è chiaro 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 prego vedendo come vi muovete sembra proprio che lottare non vi spaventi per niente ma noi non saremo da meno vero Pikachu qui fa un discorso diverso dice potrei sbagliarmi ma credo che per un attimo Pikachu e io ci capissimo perfettamente nei pensieri cominciamo bene infatti la sei un po' voltato di spalle devi sapere che non lo faccio mai uscire dalla sua pokeball perché ho paura che mi salti addosso come tutti gli altri no poverino mamma mia questo è più carino il tuo il mio dice forse mi sbagliavo dopo tutto in ogni caso mi impegnerò nelle ricerche collaborando con il mio compagno come fai tu forse la prima cosa dovrei pensare a diventare suo amico è bellissima sta cosa che non lo vuole mettere nella pokeball cioè non lo fa uscire mai dalla pokeball perché ha paura e lo uccida a proposito di lotte il prof mi ha spiegato che i pokemon hanno vari tipi e che da questi dipende chi è in vantaggio o svantaggio durante la lotta infatti quando c'è stato Starly davanti a Pikachu ha fatto una fine orribile ad esempio non so se lo sapevi ma il mio Pikachu è di tipo elettro no guarda era completamente impossibile è sicuramente sì questa è la type chart ma tanto la vedi in battaglia con i simbolini magari guardati un attimo i simbolini e intanto commento certo è assolutamente una reference a reverse Ash Ash non lo mette mai nella pokeball il Pikachu qua invece a Isui non lo fanno mai uscire dalla pokeball perché hanno paura di lui quindi è sicuramente una reference alla gimmick del Pikachu della serie animata carino altra ennesima quante ne abbiamo trovate in 5 ore ennesima reference a chi ha sempre visto Pokemon a chi si è guardato tutti gli episodi tutti i giochi è proprio scritto apposta per quel tipo di pubblico là allora sei tu la nuova recluta la nuova recluta di cui tutti parlano oh però la pilla e sono al capo della squadra di vigilanza è vulcano bravissimo è quel clown di vulcano ma è vulcana è vulclauna clona esatto e infatti si chiama la pilla la pilla santo cielo ti ho visto a lottare e devo dire che hai stoffa ma vorrei darti qualche dritta se non ti dispiace la caposquadra la pilla è maestra di un antico stile di arti marziali Pokemon addirittura interessante sono spaventati ma esistono arti marziali Pokemon apprendendo a fondo i segreti delle mosse è possibile cambiare le caratteristiche con l'uso di tecniche diverse no ragazzi non è marzia è vulcana infatti si chiama la pilla si la pilli esatto le mosse sferrate usando la tecnica potente sono più forti ma l'azione seguente sarà più lenta la seconda la rapida questa la rende meno efficace ma l'azione seguente sarà più rapida se usate al momento giusto questa tecnica può persino permettere di sferrare due mosse prima che l'avversario abbia mosso un dito lo vedi il cambiamento del base power direttamente in hud ok ti renderai conto di come cambia e aggiungo aumenta anche la precisione di alcune mosse la potente puoi decidere liberamente selezionando sinistra o destra figo ok a volte i pokemon imparano da soli queste tecniche salendo di livello allora vengono con la tecnica rapida vengono consumati più pipì del normale anche con quella potente ah ok perfetto il malus è lo stesso è per non fartene abusare certo certo ah un'ultima cosa se vuoi insegnare delle mosse fortissime i tuoi pokemon fammi un fischio ah che bel sorriso beh hai visto abbiamo imparato qualcosa di utile prima di incontrare Elisa te l'ho già detto dalla tovaglia di lino no della richiesta insomma qui stessa cosa ok abbiamo appuntamento con lei ai piedi del colle ambizione quindi corri a prepararti e con prepararti intendo che dovresti scegliere quali pokemon portare con te e quali mosse fargli imparare quali mosse fargli imparare ne parliamo a breve la richiesta da Elisa intanto stai per scoprire una roba di quality of life che per chiunque dei veteran sia blind sta per farvi ergere il pisellozzo pazzo ma ti dico prima che luce qui è più gentile dice semplicemente posso contare sul tuo aiuto scegli i pokemon che ti servono per arrivare vediamo vai dalla pilla la pilla è la quality of life personificata all'area allenamento puoi insegnare mosse ai pokemon far sì che le padroneggino ehi giovane ricercatrice di cosa hai bisogno ovviamente padroneggiare mosse significa banalmente pergamenarle cioè permetter loro di avere la tecnica rapida o tecnica potente ma è una cosa che sbloccherai un po' più in là serve una valuta un oggetto particolare che ancora dovremo sbloccare va bene quindi servirà un po' di tempo vediamo che dice posso insegnare delle mosse ai tuoi pokemon ma non lavoro mica gratis posso insegnare loro persino delle mosse che non imparerebbero salendo di livello mica facile e questa è la poggata esatto salendo di livello i pokemon possono padroneggiare le loro mosse e le mosse padroneggiate si possono sferrare con le due tecniche portano di semi padronanze e potrò insegnare con i pokemon come padroneggiare le mosse bravissimo usare le mosse beh penso che tu abbia già lottato con i pokemon quindi dovresti sapere come si fa va bene non ti preoccupare d'accordo il livello di impegno il livello di impegno permette di rafforzare le statistiche di un pokemon ah il livello di prima hai capito usando strumenti come la sabbia impegno puoi aumentare l'attacco la difesa e così via e rendere il tuo pokemon ancora più temibile il gioco è disegnato per farti tirare su le statistiche principalmente con questi strumenti impegno mentre il leveling ti riempie solo il moveset e ti dà quel boost di stats all'evoluzione del pokemon motivo per il quale in questo gioco i pokemon evoluti o che non hanno evoluzioni sono particolarmente forti uno stuntler è forte perché non aveva un'evoluzione un pacirisu è forte perché non aveva un'evoluzione e quindi allora qui è già al massimo livello vai su insegnare mosse eh sto guardando sono un po' sono molto curioso di quello che vedo perché fondamentalmente cosa riesco a far vedere senza eh no troppo i soldi oddio ecco nel senso allora ci sono cose interessanti se sin da qui potrebbe imparare aeroassalto comete e riposo però un pokemon diverso lo stesso tranne funesto vento non è randomico perché ho provato no 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 dipende dal pokemon non ti insegna sempre le stesse e a volte anche tantissime guarda qui dipende appunto dal pokemon ok e poi c'è nelle informazioni informazioni del pokemon c'è anche una faccia arrabbiata a sinistra è vero è vero c'è una faccia arrabbiata però è scura vero si è spenta è opaca interessante ci sono un sacco di cose da poter insegnare qui vedo che il denaro si può utilizzare in modi molto più interessanti qui finisce subito il denaro ti avverto è il motivo per il quale ti sto dicendo non tirare bolla a cazzo certo perché se lo fai e poi te le devi comprare perché non vuoi grindare per tre ore se lo fai poi rimani imbananato qui quando vuoi insegnare delle belle mosse ai pokemon e non puoi allora io purtroppo devo no dimmi allora farò una cosa che non avrà alcun senso per i ragazzi ok e vi chiedo la pazienza di non impazzire in chat sto per fare una cosa che dal punto di vista del gioco non ha alcun senso rispetto al gioco che avete visto fino ad oggi ma vi giuro che ce l'ha ok quindi sto per fare questa cosa quando mike arriverà a quel punto spiegherò perché fammi un favore a chi è mi dici un pokemon al quale hai insegnato tante mosse io non ho insegnato tante mosse ah non hai insegnato ancora niente ok ok no perché ho pochissimo denaro hai paura ho veramente pochissimo denaro tipo meno di 2000 da poche dollari allora nulla e sin da quel potrebbe giovare di un riposo a dire il vero però poi si addormenta non si addormenta leggi bene sì no sì si assonna e poi dopo un paio di turni si addormenta yes però sì in effetti non è male potrei provare proviamo la meccanica la mossa pensa che il riposo qui è buona perché ti cura senza pagare le pozioni esatto esatto è quello che intendevo vediamo un po' insegnare al sindaco il tutto ciò che c'è da sapere ah ok insegnata da ora sin da qui puoi imparare nuove mosse a modo di dire o esci fuori e fai avere questo orgasmo alla gente ok apri il menu della squadra con il tasto su vai su sindaco gestisci mosse ricordi quello che è successo a scenia è solo un lontano lontano non ci credo metti e togli mosse come cazzo vuoi per tutto il gioco gratis no una volta che le hai comprate per fargliele imparare è una questa cosa ragazzi se non c'è in nona generazione io faccio un casino sì perché è la base dell'rpg sì e c'è sempre questa cosa che devi grindare per metterle mosse ai pokemon qui c'hai una boss fight che ti richiede quella mossa menu via fatto il set respect rapido questa cosa è gigante cioè e ti servirà ci saranno dei momenti in cui ti fermi al menu e fai ok aspetta mettiamo gli stossetti e questo è quello che è successo a monster hunter ha ottenuto quality of life senza perdere se stesso e qui è uguale cioè questa cosa qui è mamma mia lo puoi fare su tutti i pokemon per tutto il gioco wow ok e ovviamente questo significa anche che non devi fermare più il tuo gameplay quando imparano mosse la caudia sinistra ti dice semplicemente nuova mossa quando livella e sarai tu poi a decidere quando la vuoi vedere se la vuoi mettere se non la vuoi mettere si avete ragione a scrivere 26 anni di franchise ci hanno messo troppo forse a fare questa cosa però meglio tardi che mai vero vero allora c'è un po' crea ah pokeball poi ho spizzicato una cosa apri di nuovo il menu della squadra quando hai fatto quando hai fatto il tuo crafting ho visto una cosa dimmi guarda il tuo vormplay ha qualcosa di strano è quello che stavo dicendo prima stavo dicendo prima ho fatto notare che stava attivandosi quest'opzione e ora stavo per dire ok fatto questo però non voglio fare altro finché non scopro l'animazione voglio farlo voglio farlo ti guardiamo tutti e due ok ti guardiamo sia da quella community che da questa esatto fai evolvere ah ma poi ci si ci mostri ormai è dappertutto dappertutto il godopoli non lo sblocchi imparando cioè insegnando loro bene ok oh rumple si sta evolvendo resta osservare intervieni ma ma no perfetta questa cosa è l'hanno hanno reso l'evoluzione spaventosa bravo anche io penso la stessa cosa con le ombre i fulmini il fatto che appaia di colpo e con uno zoom da silhouette nera è bellissimo è da brivido perché ti fa vedere proprio il il mood di come vivono i pokemon qui credo che serva proprio per narrare questo la paura dell'ignoto loro che vedono questa bestia che cambia e la prima reazione è pericolosa ci starà per fare del male poi invece la tua esperienza rischiara l'immagine e ok è solo un silcon si capito figo ho adorato bella veramente sta cosa ok allora a questo punto dobbiamo andare da risa dobbiamo andare da risa whenever you want non puoi fare il teleport da qua dobbiamo andare ai cancelli come il monster hunter ok 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 ti sei no bravi grazie al cielo c'è ancora la spiaggia origine no mi riferisco al fatto che sulla mappa appaiono le richieste ah si si sempre non saranno mai nascoste anche quando sono negli interni ok ok la squadra di ricerca è incredibile come fanno a catturare persino pokemon che incontrano per la prima volta di un po come fanno i pokemon da rimpicciolirsi eh non lo sa lui che noia mai che succeda qualcosa quando vuoi raggiungere un posto ti consiglio di marcarlo sulla mappa con il segnalino a forma di bandierina che è carino che si sviluppano così un buizel grande oh no dovrò trovarlo chissà se è vero che anche i pokemon della stessa specie possono avere dimensioni diverse l'ha detto il professore ma vorrei vedere con i miei occhi la differenza tra due esemplari fianco a fianco se c'è un buizel mi piacerebbe fare il confronto beh e i bisel più o meno abbiamo visto dove sono in mappa si esatto sappi che hai anche i timbri io li ho usati tantissimo i timbri in questo gioco per memorizzare ok qui c'era questo qui dovevo fare questo qui c'è quest'altro poi li ho usati anche per la nostra veteran per segnarmi delle cose che troveremo insieme però ecco i bisel te lo ricordi erano più o meno nella piana fer di cavallo erano vicini al fiume esatto magari possiamo vedere se lì con il colpo d'occhio notiamo un bisel più grande degli altri lo catturiamo tutti quelli che vengono a isui sono un po' degli sbandati in cerca di fortuna eh si guarda qui ti do una info che non ricordo se viene data nel gioco vengono da tutto il mondo pokemon il team galassia è un'unione di colonizzatori di tutto il mondo oh leggiti quella dello starly leggicela anche a noi quella dello starly la adoro è un piccolo momento di preziosa sub storyline quindi eh si no perché lei dice oh hai completato il pokédex fammi vedere oh cosa gli starly di sesso diverso hanno delle ampiezze di fronte diverse non me lo aspettavo grazie per avermi mostrato la pagina del pokédex adesso che ne so di più forse potrei anche riuscire a toccarne uno non è che potresti catturarne catturarne uno te ne sarei davvero grata non c'è pokemon a questo mondo che sia anche lontanamente bello quanto starly ok ce lo dovresti già avere a direi certo ah te lo fa scegliere anche dal box fantastico quella piuma arricciata che ha sul capo coi suoi occhioni tenerissimi che pokemon adorabile un vero e proprio tesoro oh starly vuoi toccarlo assolutamente no l'ho adorata questa cosa perché ho pensato fino all'ultimo che non sarebbe successo che sarebbe finita come sempre a tarallucci e vino quindi vuoi toccarlo sì ma che carino ma allora i pokemon non sono così cattivi credo anche tu ti aspettassi lo stesso sì sì esatto vuoi toccarlo dai adesso fanno amicizia e invece no no ma che caro ma sei scemo prego mi accontento di guardarlo grazie tante non si sa mai potrebbe arrabbiarsi e decidere di usarmi per affilarsi gli artigli caciunici che hanno il mostro gli unici che hanno il fegato di avvicinarsi ai pokemon sono quelli della squadra di ricerca o della squadra di vigil è attacco on titan sì tra l'altro ci tratta come dei deficienti sì gli unici abbastanza pazzi da andare vicino ai pokemon su questi due figuriamoci se mi ci metto a farlo io lei è manifatturiera c'era a dire che ho notato una cosa che credo vedremo fino alla fine spero non spesso fate to black bravo bravo sì i know my chicken non ho potuto non notare il boss c'è da animare un NPC ti insegno un trucchetto è un trucchetto che usano credo da 6y sì they still do ok va bene non è una bella cosa no non è una bella cosa per niente figuriamoci ti ringrazio per avermi mostrato questo bellissimo starly c'è chi se la dà gambe alla sola vista di un pokemon forse anche loro riusciranno a stare più tranquilli quando il pokemon sarà completo e potranno saperne di più più bene di starly non ce n'è intanto e dove posso vedere le quest in corso vediamo un po' quali di sei meno apri l'ark house phone ok y ah eccole sì 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 ed eccoti al menu più che vedranno di più in blind run ok fate tutte le altre ah no mi richiesto non è vero eh no vabbè quella è la principale piccolo bumple ah ti manca valla a consegnare sì esatto bui sul grande bui sul piccolo ok e ah ok non appare sulla ma dov'è la bandierina dovrebbe apparire se gli metti il tracking certo riprova ce l'hai già traccata la vedo ah dici ah ok sì io stavo cercando la bandierina mentre ti la trovi guarda girati eccola ok vedi questa cosa qui quello è il pallino diciamo ci avevi messo anche tu la tua bandierina forse eh questa allora le bandierine azzurre sono penso teleport ah no 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 allora guarda togli la mappa vedi semplicemente questo pallino bianco e blu ma lo vedi in mappa vedi anche se ti allontani sì 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 è chiaro è chiaro solo quello no no bye bye sì sì te lo regalo questo è scarso ragazzi è normale che siate più avanti di noi il pacing di queste live sarà questo stiamo leggendo a voce alta tutti i dialoghi pensate letti a mente facendo le cose non commentando non interagendo è tutto non il doppio ma almeno il quadruplo più lento ragazzi assolutamente Peraltro Aggiungo Ci saranno intere live ragazzi Nelle quali secondo me parleremo e basta Quando troveremo degli oggetti Ora intere no Però importanti dai Ma parleremo tanto anche in questa In questa serie A parte che siamo Sabacqua e Saedonia va bene Però Sono dei momenti in cui ci dobbiamo fermare Ok Come lo sta per chiamare Non so decidermi Biotino Biotilio Biotiberto Biotiberto Chiamalo Biotiberto Perfetto Vedrai mi prenderò cura di Biotiberto E lo farò diventare un magnifico Beautifly E Biotiberto sia Miele luccicante Sì ho sbagliato Sì ho sbagliato Aspetta Ho fatto bene infatti Non avevo sbagliato prima Vediamo un po' Miele del brillante colore ambrato Molto apprezzato tra gli altri Dai Pokémon dall'aspetto dei colori otteri Li attira dove viene lanciato Andiamo andiamo alla mappa Ok Andiamo Amiamo Amiamo Ciao 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 emi Grazie.